La seduta è aperta, invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta di ieri. Sui lavori delle commissioni riunite terze e quarte in ordine al disegno di legge numero 2562 interviene il senatore Castaldi, cui risponde il presidente. Il senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2533 di conversione in legge del decreto legge 17 febbraio 2022 numero 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. La senatrice parente riferisce che le commissioni riunite nona e dodicesia non hanno concluso l'esame di disegno di legge. Il presidente propone quindi l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare la discussione dalla sede religione del disegno di legge numero 1228 recante modifica l'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012 numero 238 per di sostegno e la valorizzazione del pistoglio blus flessiva. Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Senatore Rencino, il relatore facente funzione, autorizzato dal presidente, svolge la reazione orale. Prima di procedere alla votazione degli articoli dal momento che è stata avanzata richiesta di votazione elettronica in senso dell'articolo 112,3 del regolamento, il presidente sospende la seduta in attesa del decorso del termine regolamentare di preavviso, la seduta sospesa alle ore 16.50 e ripresa alle ore 16.59. Il presidente comunica che l'aggiunta dell'elezione dell'immunità ha concluso gli accettamenti richiesti e proclama pertanto il senatore Fausto De Angelis. Ripreso l'esame del disegno di legge, con votazione nominale elettronica sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori La Pietra, Sbrullini, Marilotti, Mallegni, Vescovi e Bottici. Con votazione nominale elettronica è quindi approvato il disegno di legge del suo complesso. Il presidente sospende la seduta, la seduta è sospesa alle ore 17.49, è ripresa alle 18.34. La senatrice parente riferisce che le commissioni riunite non hanno ancora concluso l'esame del disegno di legge numero 2.533. Il presidente rinvia la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Crucioli e Gaudiano. Il presidente avverte che il senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18.40, letto e approvato nella seduta del 30 marzo 2022. Grazie senatore segretario, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, non che ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il presidente del gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La conferenza dei capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 7 aprile. L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto legge sulla peste suina africana, al termine della quale la seduta sarà sospesa fino alle ore 18. Alle ore 18 avrà luogo, fino alla sua conclusione, la discussione generale del decreto legge sulla crisi in Ucraina. A tal fine la seduta non prevede orario di chiusura. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani. Alle ore 15 di domani avrà luogo il question time con la presenza dei ministri degli affari esteri, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti provvedimenti. Disegno di legge in materia di mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconferibilità di incarichi approvato dalla Camera dei Deputati. Dalla sede redigente l'istituzione della giornata nazionale della memoria degli alpini approvato dalla Camera dei Deputati. Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri. Dalla sede redigente il disegno di legge su disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istituzione superiore approvato dalla Camera dei Deputati, ove concluso dalla Commissione il disegno di legge di delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Giovedì 7 aprile, alle ore 15, avrà luogo il Question Time. L'ordine del giorno reca. Discussione del disegno di legge e conversione in legge del Decreto Legge 17 febbraio 2022, numero 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della pesta suina africana. Il relatore senatore Bergesio, che ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la redazione orale e ne ha facoltà. Prego, senatore Bergesio. Grazie, Presidente. Relatori, siamo due. Partiamo con la senatrice Bitti, volentieri. Grazie, Presidente. Facciamo un ordine alfabetico invertito, Bitti per Bergesio. Poi dopo ci penserà il senatore Bergesio a continuare. In realtà io prima di tutto ringrazio ovviamente il mio correlatore, ma i presidenti di Commissione, tutti i commissari e il Governo. Vede, Presidente e colleghi, questo decreto forse in un primo tempo non voglio dire sia stato sottovalutato, ma sicuramente forse trattandosi di una malattia che riguarda per fortuna soltanto i suidi forse non è stato trattato con l'attenzione che meritava. La peste suina africana portata da un virus della famiglia Aspivirus è in realtà un virus estremamente duro a morire, talmente tanto che la sua diffusione è molto molto facile. Viene trasmesso non soltanto interspecie, quindi tra suidi, cinghiali o suini, ma ciascuno di noi con le nostre scarpe, andando nei boschi, venendo a contatto là dove il virus è passato, può diffondere questo virus. L'Italia aveva già avuto a che fare con il virus della peste suina africana in Sardegna, con un'alta variante rispetto a quella che adesso è presente in Piemonte e in Liguria. E soltanto per eradicarlo in Sardegna, che tutti noi sappiamo essere un'isola e quindi con una certa facilità nel contenimento degli animali e quindi nel contenimento della diffusione stessa, è stato veramente difficile. Adesso ci troviamo con questa nuova variante che viene dall'est Europa e che per ora ha colpito soltanto la specie selvatica, ovvero il cinghiale. Con diversi cinghiali colpiti, siamo a più di 70 a qualche giorno fa, testati e ritrovati positivi, con tutta una serie di prescrizioni e di atti che sono stati già messi in campo per cercare di bloccare la diffusione di questa malattia infettiva. Per fortuna, dicevo, non è una zoonosi, quindi non è una malattia che si diffonde anche all'uomo. Tuttavia, gli ultimi due anni ci dovrebbero insegnare che le malattie infettive non devono mai essere prese sotto gamba, non devono essere mai considerate non importanti. In questo caso, poi ne parlerà probabilmente meglio il senatore Bergesio, quello che dobbiamo assolutamente scongiurare è che questa malattia si trasmetta e si trasferisca dal cinghiale, ovvero dal maiale selvatico, al suino domestico. Perché Dio non voglia, tutti gli allevamenti del nostro Paese sarebbero a rischio e metterebbero al collasso un'intera filiera che per noi è fondamentale. La Commissione aveva un testo base, la necessità era quella di fare veloce e fare bene. C'era richiesto da tutti coloro che abbiamo audito e sono stati veramente tanti e li ringraziamo per gli apporti che ci hanno dato, dagli istituti zooprofilattici, ai servizi veterinari, il Ministero ovviamente nella figura del direttore, ma anche tutte le associazioni, le università. Quello che ci è stato chiesto è fate veloce, fate veloce, fate veloce e cercate anche di mettere delle risorse. Questo decreto infatti arrivava ad invarianza finanziaria e quindi un ringraziamento da parte mia, ma penso davvero di poter dire da parte di tutta la Commissione, al Governo, al Ministro Patuanelli che ha deciso di destinare delle risorse a questo decreto. Non era così scontato che ci si riuscisse, è sicuramente un obiettivo che ci eravamo posti e che siamo riusciti a perseguire. La Commissione inoltre ha lavorato per apportare delle modifiche importanti, per cercare di dare qualche potere in più al Commissario straordinario che è già stato individuato dalla Presidente del Consiglio e che ha il compito di coordinare le regioni per eradicare la malattia dove è già presente e per cercare di non farla diffondere dove ancora non è arrivata. Con gli emendamenti che sono stati votati ieri sera abbiamo finalmente dato anche qualche potere in più al Commissario, soprattutto in termini di, e anche le risorse sono andate per quello, di mettere delle reti. Ora forse qualche collega penserà che non è niente, ma in realtà questa malattia si blocca bloccando il movimento degli animali e dei cinghiali e quindi se per ora le autostrade hanno fatto sì che in qualche modo le grandi strade di comunicazione, i cinghiali non andassero da una parte all'altra e non permettessero una diffusione ancora maggiore rispetto a quella che c'è stata, molto è in carico al Commissario e alle regioni ovviamente che dovranno fare delle barriere con delle recinzioni per cercare di bloccare gli animali e di non farli scappare e diffondere in questo modo la malattia. Arrivo a chiudere, Presidente, e la ringrazio soltanto con una piccola considerazione. Ovviamente questo decreto ringrazio davvero i Commissari perché tutti siamo stati nel merito e nonostante le differenze che ci sono in quest'Aula parlamentare e viva Dio ci sono, per cui avevamo posizioni che all'inizio erano anche molto distanti, un problema si risolve a volte partendo da due punti diversi per lo stesso obiettivo. Questo è accaduto durante i lavori della nostra Commissione ma l'obiettivo che tutti i Commissari della Commissione dodicesima e della Commissione nona avevano presente era quello di dover fare veloce in modo da bloccare la diffusione della peste suina africana. Quindi ci siamo limitati davvero al merito di questo momento, di questa grave emergenza che riguarda i suidi, quindi cinghiali per ora e speriamo mai i suini domestici. Però una piccola considerazione Presidente va fatta sulla gestione della fauna selvatica che probabilmente ha bisogno e questa è una cosa che è venuta fuori anche dalla discussione in Commissione, ha bisogno sicuramente di essere affrontata in maniera matura e seria come le Commissioni hanno dimostrato di saper fare in questa occasione perché ci sono tante malattie infettive, specie specifiche ma anche zoonosi che hanno bisogno sicuramente di porre attenzione a questo tema senza pensare ovviamente ai grandi problemi degli agricoltori ma non ci voglio entrare perché sennò scavalcheremo rispetto al merito. Quindi il lavoro è stato davvero importante grazie ancora ai Presidenti sia la Presidente Parente che alla Presidente Vallardi, a tutti i commissari e ovviamente al Governo. Grazie Presidente, grazie naturalmente, ringrazio anch'io tutti coloro che si sono impegnati per questo provvedimento, anche i membri del Governo che erano presenti sia in Commissione che con molta attenzione perché questo è un provvedimento importante. Questo provvedimento non nasce contro qualcuno ma nasce per dare una mano, per aiutare una filiera importante del nostro Paese, quella della suinicoltura, sia nella fase di produzione che di trasformazione che ha ricevuto dei contraccolpi pesantissimi in questi ultimi mesi con una perdita secca settimana di oltre 25 milioni di euro perché è una perdita reale, soprattutto perché questa peste suina africana che si è inserita in un contesto complicato, in una zona dove comunque le produzioni suinicole sono molto impegnative, molto elevate, come quella del Piemonte, dove noi abbiamo oltre 3.500 aziende che operano nel settore, con 1.300.000 capi sugli 8 milioni che vengono prodotti nel nostro Paese e dall'altra parte questa filiera si inserisce in un contesto italiano dove noi abbiamo circa in totale 25 mila aziende che lavorano nel settore come a livello produttivo come allevamento, inoltre 3.500 il settore della trasformazione. E tutto questo ci fa pensare e ci ha fatto pensare da subito che fosse un provvedimento importante, dare poteri alla possibilità di risolvere, di eradicare, perché il termine esatto su questo fronte è quello dell'eradicazione della peste suina africana, così come hanno fatto altri Paesi dell'Unione Europea, tipo il Belgio che in pochissimo tempo è riuscito a intervenire. Allora questo provvedimento richiama in sostanza tre principi sostanzialmente. Il primo è quello delle regioni che devono redigere, farsi approvare ed avere i piani per l'eradicazione della peste suina, per il contenimento della fauna selvatica. Dall'altra parte il commissario con i suoi poteri e con delle risorse disponibili. Su questo hanno lavorato bene le commissioni, hanno lavorato bene il Governo, perché alla fine siamo riusciti con degli emendamenti, non tanti, in totale saranno una decina, 15 questi emendamenti, che hanno avuto la possibilità di dare una svolta al provvedimento, rendendolo concreto, rendendolo attuabile. Perché soprattutto si trattava di un provvedimento, questo, il decreto legge numero 9, che non aveva risorse. In questo contesto era impossibile operare per il commissario. Grazie all'intervento del Ministro dell'Agricoltura, Patuanelli, grazie all'intervento degli altri ministeri che hanno condiviso, sono state assegnate 10 milioni di euro, che sì che sono state prese da quello che è stato inserito nel sostegno ITER, il provvedimento di 50 milioni di euro, di cui 15 milioni servono alle aziende, alle imprese per attuare i principi di biosicurezza richiamati anche da questo decreto. Però dall'altra parte sono fondamentali, abbiamo ritenuto utile riprendere dai 35 milioni di euro per la filiera che contemplava la parte produttiva di trasformazione, 10 milioni di euro utilizzarli immediatamente in questo contesto, perché il commissario non può agire se non ha delle risorse a disposizione. Questo significa, impegno del Ministro, impegno nostro e impegno del Governo, che queste risorse devono essere rimpinguate, ripristinate al più presto, infatti noi abbiamo anche presentato un ordine del giorno, perché venga garantito che nel primo provvedimento utile queste risorse debbano essere ridate nel contesto corretto, che è quello della filiera sui Nicola che sta patendo, come dicevo prima, delle gravissime perdite. Nell'emendare questo provvedimento siamo riusciti anche a dare dei poteri chiari al Commissario, come agire, come poter attuare la sua operatività quotidiana immediata. Anche il tema, come diceva bene prima la collega, il tema delle recinzioni era un tema importantissimo, però non si può soltanto parlare di recinzioni o di metodi di contenimento se poi non si possono attuare perché ci sono i problemi urbanistici, i problemi paesaggistici, i problemi dei beni culturali, i problemi di tutto quello che vede il nostro Paese quando abbiamo qualcosa da fare e purtroppo la semplificazione esiste solo a livello verbale e non sostanziale. Allora anche qui siamo riusciti a cercare una norma sul quale sì che ci sono delle scadenze da rispettare ma sono velocissime. Se nei venti giorni non si ha riscontro si procede anche e soprattutto sul tema della pubblica utilità di cui viene dato pieno mandato anche al Commissario. Perciò io credo che questo provvedimento ha ripreso una serie di articoli importanti anche sul tema della biosicurezza, laddove verrà attuato un decreto attuativo e qui invito il Governo ad attuare delle misure chiare che siano dati, diciamo, delle indicazioni a livello nazionale soprattutto agli allevamenti e agli allevatori che possano agire in conformità con un sistema che dia la possibilità di preservare quello che è l'allevamento da inserimenti esterni tipo la delimitazione, chiudere tutti gli accessi, l'entrata dei mezzi, l'entrata del personale, l'entrata del materiale all'interno dell'allevamento e questo è fondamentale, la protezione dei capannoni, la gestione degli animali morti, l'ingresso di tutti i tipi di carichi e anche soprattutto le biosicurezze per quanto riguarda chi entra, chi lavora, chi opera nel livello sanitario, i controlli, la gestione, la prevenzione. Allora che questo sia un provvedimento che faccia da guida nel nostro Paese soprattutto perché in settori come il settore avicolo sono già stati fatti dei passi avanti importanti, sulla suinicoltura si fatica ancora un po' però io credo che ci siano le condizioni per fare bene tutto questo. Noi abbiamo ritenuto utile, lo dicevo già prima, presentare quest'ordine del giorno e qui mi appello veramente al Governo perché nelle prossime provvedimenti possiamo sia a livello emendativo che direttamente magari con decreto ridare le risorse al settore. Settore che come dicevo prima sta patendo perché noi oggi abbiamo dei Paesi a livello mondiale che chiedono delle certificazioni che non dovrebbero chiedere perché la carne suinicola oppure i trasformati, i prosciutti, i salumi eccetera devono provenire da zone esenti, da aree esenti da peste suina africana. Questo non è assolutamente concepibile perché noi sappiamo bene che nella zona infetta ci sono due allevamenti e in questa zona infetta gli animali vengono abbattuti in questi due allevamenti. Perciò non c'è un problema da questo punto di vista ma soprattutto noi dobbiamo agire immediatamente per contenere questo aspetto importante. Da qui anche il passaggio con le Regioni, le Regioni che devono agire perché anche sui piani per quanto riguarda l'eradicazione della peste suina e soprattutto di prevenzione molte Regioni non hanno ancora trasmesso questi piani. Allora anche queste Regioni devono rendersi operative perché è fondamentale che dal punto di vista del controllo diciamo del Ministero della Salute ma anche di ISPRA, di tutti quelli che sono chiamati a fare delle verifiche importanti, ci sia la consapevolezza di quello che sta accadendo in tutto il Paese. Perciò noi oggi siamo qui ad ascoltare naturalmente quelle che sono gli interventi in discussione generale ma soprattutto per dire che è il miglior provvedimento possibile che si poteva fare. Forse no, però l'abbiamo modificato tutti insieme e l'abbiamo reso attuabile immediatamente. Sicuramente nei prossimi provvedimenti si potranno attuare delle altre misure importanti perché se qualcuno ci chiedeva delle risorse per tutti quei settori che sono in crisi a dispetto della suicoltura sul territorio, perché qui parliamo anche di coloro che svolgono attività di turismo, di ricezione di turisti, di coloro che operano sul territorio sotto tanti punti di vista, in questo provvedimento non era possibile. Come non è stato possibile in questo provvedimento modificare che ci è stato chiesto da più parti ma con cognizione di causa, non è che ci sia stato chiesto perché qualcuno si è inventato qualcosa, modificare la 157 del 92. Perché guardate io faccio appello a questo e il nostro gruppo è da sempre autore di questo. Perché? Perché è fondamentale che questa norma vecchia di 30 anni venga presa in mano e venga modificata. Perché non sono solo questi danni da fauna selvatica, ma sono i danni alle coltivazioni, la sicurezza nelle città. Insomma ci sono dei problemi enormi nel nostro Paese che devono essere affrontati a livello di produzione agricola anche e soprattutto sul contenimento della fauna selvatica. Grazie Presidente. Grazie Senatore Bergesio. Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è il Senatore Vallardine a facoltà per 5 minuti. Sì, grazie. Grazie Presidente. Un saluto al Governo. Sicuramente è un provvedimento molto importante questo sulla peste suina. Ne abbiamo parlato, posso dire, intensamente in commissioni riunite la nona agricoltura e la dodicesima sanità. Mi colgo l'occasione anche per ringraziare la Presidente Parente, ma come i due relatori, la Senatrice Biti e il Senatore Bergesio, è stato fatto un buon lavoro. Questo non significa che fosse un lavoro molto semplice, molto facile, perché su questo tema della peste suina, molto grave per il nostro Paese e soprattutto per un territorio che io spero rimanga circoscritto, quello della Liguria, del Piemonte, è una cosa molto grave, molto importante, però si sono scontrati due mondi e qui è servito, devo dire, il grande lavoro di mediazione dei relatori e dei Presidenti per cercare di trovare una sintesi. Due mondi che si sono scontrati, il mondo a tutela degli animali, il mondo animalista e dall'altra parte c'era schierato il mondo dei cacciatori. Entrambi con le proprie ragioni, entrambi con le proprie posizioni da difendere, però questo ha reso complicato il lavoro in commissione che però, devo dire, si è riusciti a fare una sintesi che oggi andremo a votare, andremo a risolvere, a difesa soprattutto del mondo di allevamento dei suonicoltori, che è una grossa parte degli allevatori, che è una grossa parte dell'economia di questo Paese. Ci sta sicuramente una grossa riflessione sul fatto che la peste suina abbia ulteriormente evidenziato il problema della fauna selvatica, soprattutto dei danni da animali selvatici. Ricordo che la Commissione Agricoltura ha deliberato quasi all'unanimità ancora un anno fa che è pronto a portare in commissione una risoluzione che chiedeva una modifica della 157 finalizzata alla riduzione dei danni da animali selvatici. Io credo che assolutamente dobbiamo mettere mano una riforma alla 157 del 92. Troppi danni da animali selvatici abbiamo in questo Paese, però io ne parlo da animalista, da amico degli animali. Ma quando ci sono troppi animali, quando gli animali vanno a annullare, a distruggere il lavoro di un'intera annata da parte dei nostri agricoltori, molto probabilmente gli animali non sono più così tanto amici dell'uomo. E quindi bisogna assolutamente intervenire con razionalità, con quella eradicazione non solo della peste suina ma dei troppi animali, restituire gli animali ai loro territori, vedere i cinghiali ad esempio in giro per Roma, io credo non sia un grande segnale neanche di civiltà, non credo che i cinghiali in giro per Roma o per tante altre città del nostro Paese siano un gesto di civiltà per questo Paese. Non credo stiano neanche tanto bene all'interno delle nostre città, quindi bisogna assolutamente intervenire. La Lega da sempre è su queste posizioni, la Lega come partito è amica degli animali ma è anche giustamente a difesa del lavoro dei nostri agricoltori e sappiamo in questo particolare momento difficile della nostra economia quanto gli agricoltori hanno bisogno di aiuto. Per questo noi abbiamo fatto questo lavoro credo importante. Oggi andremo a votare anche un aiuto economico non solo per ricintare e per eradicare la peste suina ma io spero possa diventare anche una pietra miliare nell'iniziativa di rivisitazione della 157. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Grazie. Grazie Senatore Vallardi. Ha chiesto di parlare Senatore. La pietra ne ha facoltà. Grazie Presidente. Già è stato detto molto. Ringrazio i relatori dei loro interventi, del lavoro che hanno fatto in Commissione che sicuramente ha cercato di cuscire un po' tutte le varie sensibilità che come diceva anche il Presidente Vallardi sono emerse durante la discussione. Certo come diceva la Senatrice bisogna gli agricoltori, gli allevatori ci chiedevano di fare subito e presto. Ma io allora una considerazione su questo la farei. La farei perché dalla prima segnalazione in cui è stato verificata la presenza della peste suina africana in un animale trovato morto sono passati due mesi due mesi per fare il decreto legge di cui stiamo discutendo oggi. Da quel decreto dal 17 febbraio si è passato un ulteriore mese. Cioè praticamente in tre mesi siamo solo riusciti, lo dico non con polemica ma lo dico solamente perché deve essere anche un termine di riflessione, siamo riusciti soltanto ad attivare fondamentalmente la burocrazia. E quello che è stato fatto è la cosa più semplice, non fare niente, è stato bloccato tutto, tutte le attività venatorie, tutte le attività ludiche nei boschi, tutte le attività lavorative nei boschi. Questo perché lo dico Presidente? Lo dico perché molto probabilmente in tutto il sistema legislativo che regola gli aspetti venatori in Italia c'è qualcosa da rivedere. Mi sembra che anche il collega sia Vallardi che Bergeso hanno fatto riferimento a questo. Allora io vorrei fare un semplice appunto che documenti che vanno nella direzione di cercare di modificare quella che è la legislazione italiana per quanto riguarda il contenimento della fauna selvatica, ne sono già stati presentati tantissimi. E uno in particolare è una relazione che la Commissione Agricoltura ha votato unanimemente, ci furono solo quattro voti di astensione, ma tutti gli altri furono voti positivi, una relazione appunto che riguardava un affare assegnato sui danni della fauna selvatica e l'abbiamo votata il 30 giugno dell'anno scorso. Bene, in questa relazione si faceva riferimento a molte specie di animali che sono di fatto un danno per l'agricoltura, ma in particolare, mi permetta Presidente di fare queste notazioni, si parla del cinghiale. Si parla del cinghiale in quanto è una specie particolarmente sovraffollata, sovrastimata, c'è una quantità di animali eccessivi rispetto alla sostenibilità del territorio, che pone tantissimi problemi. Lascio da parte un attimo il problema della sicurezza stradale, perché la maggior parte degli incidenti che succedono e purtroppo anche delle vittime sono causate proprio da questi ungolati. Lascio da parte quelli che sono i danni all'agricoltura, quelli che distruggono gli raccolti, ma quello in particolare che si diceva in questa relazione, sono poche righe e mi permetto di leggerle per ricordarle a me stesso, ma anche all'Aula. Tra le implicazioni che rendono necessarie e urgenti un intervento sull'eccessiva prolifazione della specie, vi sono i rischi sanitari che l'eccessiva diffusione del cinghiale può esercitare verso il comparto zootecnico. Il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie, come la peste suina africana PSA, in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni ecc. Questo lo avevamo scritto in commissione, approvato al 30 giugno dell'anno scorso. E in questa stessa relazione, Presidente, lo dico anche ai colleghi senatori forse un po' distratti, vi erano circa una ventina di punti che davano delle indicazioni ben precise al Governo su come agire per cercare di contrastare questa diffusione. Ne cito alcuni a predisposere un piano di controllo sostenibile per la specie del cinghiale, a ripensare l'approccio di gestione del cinghiale sul territorio puntando alla prevenzione efficace, ad attivare al fine di emanare norme efficaci che colmino vuoti legislativi, a modificare la legge 157 e altri. Perché dico tutto questo, Presidente? Lo dico perché quando si affronta le situazioni in maniera demagogica, poi invece di prevenire siamo costretti ad affrontare le emergenze come adesso. Questo documento più volte abbiamo richiesto alla Commissione Capigruppo di poterla portare in aula e abbiamo trovato sempre un ostruzionismo particolarmente da alcune forze che in maniera demagogica affrontano il problema. Mi riferisco al gruppo misto, alla senatrice De Petris, che si è sempre opposta a portare in aula questo provvedimento per la discussione. E mi chiedo anche alla senatrice De Petris chi rappresenta. Perché all'interno di quel gruppo misto ci sono posizioni sul merito che sono completamente diverse. Penso per esempio alla senatrice Abate, alla senatrice Fattori, che hanno firmato, sottoscritto questo documento. Eppure la loro Capogruppo, in Commissione Capogruppo, si è sempre opposta. Allora anche qui c'è una questione da cui chiarire. Come si è opposto anche il Movimento 5 Stelle, lo dico in maniera molto chiara, alla discussione di questo documento. E anche il PD ogni tanto non è che abbia avuto un atteggiamento molto deciso, anzi molto tiepido. E lo dico questo perché se questo provvedimento fosse passato in aula e si fosse riusciti a discutere e approvarlo sicuramente con alcune modifiche, noi oggi forse questa situazione l'avremmo affrontata in maniera diversa. L'altro giorno in Commissione Sanità la Presidente della Commissione mi disse alla fine della Commissione ma come mai le regioni, nonostante il decreto, non hanno attuato ne ancora nessun piano di prevenzione? Semplicemente perché il sistema normativo è confuso e non permette agli enti di poter operare. Allora, Presidente, io credo che ci sia in quest'Aula sicuramente una responsabilità politica forte di alcune forze che in questo momento sono maggioranza, che stanno mettendo con il loro atteggiamento pregiudiziale, ambientalista, animalista, in discussione tutta la filiera zootecnica, che corrisponde a un punto e mezzo del PIL nazionale per quanto riguarda solo l'allevamento, se poi si allarga ancora di più alla trasformazione e all'agroalimentare. Noi stiamo parlando di decine, di migliaia di posti di lavoro, di miliardi di economia che potrebbero vedersi sfumate. Già oggi, soltanto alla notizia che c'è la peste suina africana in Italia, in quella zona circoscritta per ora, per fortuna, molte nazioni estere hanno bloccato le importazioni dall'Italia dei nostri prodotti. Di questo si sta parlando e non dei cinghialini che si vedano bellini passeggiare per le vie di Roma o per le vie di altre città. E allora dobbiamo intervenire su questo. Nel merito del provvedimento, vado a concludere, questo decreto era nato sgonfio. Il commissario era soltanto un coordinatore, non aveva mezzi per poter essere effettivamente un'azione decisa, precisa, puntuale, veloce per poter agire. Non aveva i poteri, non aveva neanche le risorse. Io apprezzo il lavoro fatto dai nostri datori, perché da ultimo in qualche maniera qualche risorsa è arrivata. Ma si sta parlando di 10 milioni di euro. Noi stiamo investendo 10 milioni di euro su una filiera che vale miliardi. Che vale miliardi. E allora qui una maggiore attenzione doveva essere trovata. Non si possono andare a trogliere questi 10 milioni. E benvengano questi 10 milioni, per l'amor di Dio. Meglio nulla, come si dice, marito vecchio, meglio nulla che marito vecchio. No, viceversa. Però detto questo, bisogna... Mi sono un po' confuso, Presidente, però ci siamo capiti. Però voglio dire, bisogna avere anche la coscienza di poter investire. Adesso vogliamo fare le recinzioni. Le recinzioni. Quanto tempo ci vorrà per fare le recinzioni? 260 chilometri di recinzioni. In quanto tempo? Adesso, in queste settimane, la popolazione dei cindiali diventerà sicuramente 5-6 volte superiore all'attuale. E quindi a quel punto lì ci sarà un'ulteriore pressione verso l'esterno. E questo, concludo, Presidente, bisogna essere coscienti di quello che si fa. Se non facciamo delle azioni forte, mirate per una eradicazione immediata all'interno della zona rossa e cercare di diminuire la quantità di questi ingulati che sono in giro non solo intorno alla zona rossa, ma in tutta Italia, perché è provato che questo grande numero di cinghiali porta di fatto questa malattia, noi non riusciremo a risolvere il problema. Quindi questo è quello che volevo dire, ma rimango, ribadisco, che quando si affrontano questi problemi dobbiamo farlo con i piedi per terra, con la concretezza e non con le forme ideologiche che molto spesso, purtroppo, tanti movimenti della maggioranza stanno affrontando. Grazie. Grazie, Senatore Lapietra. Ha chiesto di parlare la senatrice. L'UNESU ne ha facoltà per sei minuti. Grazie, Presidente. Colleghi, il provvedimento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri, reca delle urgenti misure per eradicare la diffusione della pensesuina africana. Eradicare la PSA nei cinghiali e prevenire il contagio nei suini di allevamento è un intervento importante per la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e di tutta la filiera. Occorre precisare che la PSA in Sardegna è stata praticamente eradicata ed appartiene al genotipo 1. La PSA è arrivata in Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e del genotipo 2 e se dovesse espandersi sarebbe veramente pericoloso per le mega porcilaie della pianura padana. Due situazioni nettamente distinte, quelle della Sardegna e delle altre regioni. Ma la Sardegna può essere d'esempio per capirne gli errori iniziali, casi più o meno sporadici che per alcuni decenni non furono degnati di attenzioni sanitarie particolari, forse perché il virus non comportava danni per la salute dell'uomo. A pagarne le conseguenze maggiori fu l'aspetto economico per gli allevatori e per i salumifici, soprattutto per il blocco imposto dall'Unione Europea, alle esportazioni dei prodotti dell'intera filiera del comparto suinicolo sardo. In pochi anni si era annientato un pilastro dell'economia sarda. Ma quali furono le azioni della loro amministrazione regionale che per lunghi anni si era limitata all'abbattimento selettivo negli allevamenti colpiti dal virus? Come era noto a tutti, il problema maggiore di antipopolare soluzione era la diffusa pratica del pascolo allo stato brado dei suini, nei vasti terreni demaniali del Supramonte del Genargento. Il libero pascolo dei suini in continuo contatto con i scinghiali, una specie molto erratica, è stata la causa principale della propagazione della malattia, portando l'amministrazione alla costituzione di una unità di progetto per l'eradicazione della PSA, formata da rappresentanti della sanità, forestas, agricoltura e ambiente. Il Governo regionale inizia così con l'adozione di un piano d'azione straordinario per il contrasto della malattia per gli anni 2015-2017, piano approvato successivamente dalla Commissione europea a fini di un suo co-finzionamento. ed è proprio grazie ai continui controlli che il mese scorso, nel territorio di Urzulea e in Sardegna, sono stati abbattuti 40 suini in quanto non registrati all'anagrafe zootecnica e privi di proprietario e controlli sanitari. Queste attività rientrano nelle azioni di contrasto al virus della PSA, che vedono nell'allevamento illegale dei suini uno dei fattori di rischio più importanti per il persistere del virus in quei territori. Come hanno sottolineato i commissari europei, dopo la missione svolta nel 2021, questi suini non registrati costituiscono la vera cinghia di trasmissione del virus tra la popolazione selvatica e gli animali domestici. Ma i provvedimenti, man mano adottati, hanno comportato un impegno totale di tutta la struttura veterinaria regionale e delle centinaia di compagnie di cacciatori di cinghiali, che hanno dato un contributo determinante, limitando il numero dei capiti selvatici e fornendo i reperti necessari per valutare la diffusione della malattia. In estrema sintesi, i piani prevedono le suddivisioni dei comuni in zone di caccia rossa e bianche, con prescrizioni, concessioni e diversi divieti in relazione ai casi di PSA eventualmente certificati dalle analisi dei reperti. Le squadre operanti nelle zone rosse hanno dovuto adottarsi di onerosa fossa setica per la distruzione delle viscere e dei residui della macellazione dei cinghiali e l'appezzamento delle carni non può avvenire senza la certificata negatività, previa consegna dei risultati e delle analisi dei reperti. Ebbene sì, risultati positivi. In pochi anni la PSA in Sardegna è quasi del tutto scomparsa. Il piano dell'unità di progetto sta continuando con il risultato che la maggior parte dei comuni dell'isola è diventata bianca. Quindi attendiamo con fiducia il report della Commissione Unione Europea che ha visitato lo scorso novembre la filiera di controllo sanitario della PSA e in base alla loro risposta si potrà finalmente chiedere la fine dell'embargo delle carni suine per la Sardegna e si darà il via allo sblocco dell'export. L'attuale provvedimento impedirà alle regioni colpite questo estenuante calvario da noi vissuto. Quindi auguriamoci che questa esperienza che ha vissuto la Sardegna possa contribuire in qualche modo ad evitare gli errori commessi in passato e che le misure urgenti adottate dal Governo con i suggerimenti e gli emendamenti presentati nelle commissioni e arrivati in aula possano mettere fine alla diffusione di questo terribile virus. Grazie Presidente. Grazie Senatrice Lunese. Ho iscritto a parlare il Senatore Beruttine a facoltà per otto minuti. Grazie Presidente. Finalmente un decreto in tempi ahimè non troppo rapidi ma è comprensibile che i tempi tecnici della burocrazia purtroppo non aiutano come diceva precedentemente un collega. Il problema però è serio perché questi territori in qualche modo dopo già una fase pandemica che sicuramente non ha aiutato anzi ha provato pesantemente questa situazione legata alla peste suina in qualche modo ha ulteriormente aggravato una situazione. La situazione è in qualche modo per ora circoscritta sull'appennino ligure piemontese anche se già la situazione in qualche modo essendo questi cinghiali di fatto dei vettori perché in qualche modo non è che si muovono su confini preordinati in qualche modo la situazione si sta propagando. I sopralluoghi dell'EUET di questo servizio veterinario europeo ha in qualche modo definito quali sono i criteri, quali sono le azioni da porre in essere. E' vero anche che giustamente come si diceva impostare circa 300 chilometri di recinzioni che a me sembra effettivamente surreale e nello stesso tempo monitorare in forma passiva e poi successivamente eventualmente selezionare con varie forme di caccia in qualche modo mi sembra che effettivamente questo serva solo ed esclusivamente ad allungare una situazione che a mio avviso ma non detto da me naturalmente sottolineato da molti dovrebbe essere affrontato in modo assolutamente più veloce. In Italia abbiamo 1200 chilometri di appennino ma effettivamente ormai i cinghiali arrivano anche nelle città. Quindi la riflessione che è stata posta legata chiaramente alla 157 a quelli che sono gli elementi di selezione che dovrebbero essere in qualche modo applicati durante tutto l'anno credo che vadano oggi come oggi vadano in qualche modo messi al centro della situazione pur chiaramente non dimenticando che questa è un'emergenza ma l'emergenza si può protrarre nel tempo, può creare dei danni devastanti. I numeri sono stati detti, 3500 aziende trasformatrici sono in Piemonte, 25.000 aziende di allevamenti sui nicoli in Italia, un punto e mezzo di PIL, comunque numeri importantissimi che non possono essere sottovalutati. Allora, chiaro che questo decreto, i fondi inseriti nel sostegniter, il commissariamento, il commissario, persona assolutamente competente che sta già lavorando e messo un'ordinanza in questi giorni, le regioni che chiaramente sono state messe in condizione di operare e stanno già di fatto operando, stanno mettendo in campo provvedimenti, quindi sicuramente tutti si sono e si stanno impegnando per cercare di risolvere la situazione. Però è stato detto bene, benissimo, qualche risorsa, ma non dimentichiamo che serve ben altro, anche perché non c'è solo il sistema sui nicolo, ma c'è un sistema assolutamente turistico ricreativo, ambientale, che in qualche modo comunque crea un indotto e quindi anche lì crea economia. Può essere più imponente, meno imponente, ma in ogni caso sono i territori che vivono di quello che è un sistema integrato, chiaramente fa parte di quello che è la nostra tradizione e naturalmente quella che è il nostro contesto nazionale. Io ritengo che immediatamente si debba intervenire dal punto di vista finanziario, perché nessuno chiede, come dire, elemosino, nessuno chiede risorse finalizzate a speculare, ma semplicemente perché un blocco totale, l'impossibilità di fare qualunque azione, di calpestare un territorio, di giustamente evitare di portare in giro questa peste, questa situazione che chiaramente non è positiva, però nello stesso tempo naturalmente necessita di sostegno. quindi benvenga questo decreto, benvenga la possibilità di operare, però dall'altra parte immediatamente dobbiamo metterci in condizioni veramente di sostenere da una parte i territori, quindi nelle filiere e naturalmente nel sistema integrato che ne pone. Dall'altra però, come è stato detto prima, dobbiamo avere il coraggio quando si pongono delle emergenze, e in Italia in questo momento di emergenze mi sembra che ce ne siano anche troppe, probabilmente di eliminare tutti quelli che sono quei fattori ideologici finalizzati a gridare contro qualcosa, semplicemente per catturare magari del consenso e pensare che invece ci sono delle situazioni che realmente ledono quello che sono i sistemi integrati su cui questo paese vive. Quindi veramente questa è un'esortazione che faccio e mi vedo assolutamente in sintonia con gli altri colleghi che sono intervenuti prima e io credo veramente che sia venuto il momento di mettere mano a quella che è la legge sulla caccia. In modo di garantire un equilibrio sistematico per questo paese che può tutelare da una parte il sistema della fauna, il mondo della caccia, il mondo agricolo e chiaramente evitare probabilmente che si pongano queste situazioni e poi alla fine rincorrere è veramente, è veramente difficile. Grazie. Grazie Senatore Berrutti, a chi hanno iscritto il Senatore Giuliani, ne ha facoltà per otto minuti. Grazie Presidente, gentili colleghi senatori e senatrici. Parto con la seguente dichiarazione. Dal 1978, da quando mi occupo di peste suina, non ho mai trovato la situazione difficile come in questo momento. Una malattia è presente in 5 continenti e oltre 50 paesi e continua a avanzare molto velocemente. Lo ha detto il professor Manuel Sanchez Vizcaino Rodriguez, esperto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e direttore del laboratorio di riferimento per la PSA che infette i suini domestici e selvatici con un elevato tasso di mortalità. Abbiamo avuto il piacere di avere il professore in audizione qui al Senato. Il professore continua. Il maggiore pericolo primo canale di trasmissione, ha spiegato l'esperto, è dato dall'esportazione della carne del maiale infetta, secondo il quale in Italia è fondamentale capire come sia arrivata la PSA per poterla controllare e evitare che continui ad arrivare. Non è ancora stata fatta la sequenziazione genetica del virus in Italia. Spiega. È ancora più importante conoscere l'origine, ossia sapere se è arrivato dall'Europa, dall'Unione Europea o ancora dall'Asia. È come se via nave o su strada. Questo per evitare una seconda infezione e fare un rigoroso programma di sorveglianza. Secondo l'esperto l'unica possibilità di cui disponiamo è il controllo della malattia che si può effettuare sulla base di tre singole azioni. Uno, la prevenzione precoce prima che si diffonda. Due, il contenimento dell'area infettata. Tre, la riduzione della popolazione dei cinghiali. Sicuramente importanti, come ha già espresso il mio collega, il senatore Bergesio, anche il relatore, insieme alla senatrice Biti, importanti le misure che vengono messi in atto con questo provvedimento. Ha ricordato anche quanto sia fondamentale l'azione delle singole regioni. E per quel che riguarda il mio territorio di provenienza, ricordo che all'inizio dell'anno è stato provato il piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, grazie al lavoro della Giunta del Consiglio regionale, l'assessore Corazzari, che dichiara che è un documento di programmazione innovativo, attento a prescrizioni ambientali e al confronto con portatori di interesse. Spiega appunto l'assessore Corazzari con delega a caccia e pesca. Con questo piano si mettono a regime per la prima volta, ciascuna con le proprie specificità, alcune criticità legate alla fauna selvatica che caratterizzano il nostro territorio, ad esempio con presenza del cinghiale, da un lato promuovendo l'integrazione con altri strumenti programmatori regionali, dall'altro promuovendo in una cornice complessiva le attività di controllo del cinghiale, specie che come sappiamo può rappresentare fonti di danno anche agli abitati o tutelati e più di recente purtroppo come elemento di concorso attivo nel contrasto al possibile ingresso della peste suina africana nel nostro territorio. Ecco, ne ricordare il tema importante che stiamo trattando, che è quello sanitario, ma i risvolti che ci sono sul tessuto produttivo, sul tessuto economico, sull'allevamento dei suini, che è economia fondamentale di alcune regioni del nostro Paese. Abbiamo dato importanza appunto anche al risvolto economico, alla ricaduta economica grave che ci potrebbe essere, ma per lo stesso motivo colgo l'occasione per ricordare di eventuali importanti ricadute negative che ci potrebbero essere sul comparto agricolo, perché noi qua parliamo del settore zootecnico e sanitario, ma sul comparto agricolo la presenza di questo selvatico del cinghiale potrebbe e già sta causando danni importanti. Leggo da un giornale periodico sull'agraria, l'informatore agrario, scusate, titolo più mais nei campi, i cinghiali sono contenti. In questo momento in cui abbiamo grossi problemi a livello produttivo sull'import di materie prime legate al mondo alimentare, agroalimentare e dell'agricoltura, è importante successivamente fare una riflessione sul contenimento di questi selvatici sui motivi che ho appena esposto. L'articolo sostanzialmente dice che quella del signor Claudio Orlandi dell'azienda agricola Castellina di Borgonovo, Piacenza, è la disperata testimonianza di un agricoltore, purtroppo uno dei tanti, che a causa dei cinghiali non seminerà più mais. Nel 2021 ha dovuto riseminare per tre volte 23 ettari di mais dei 25 aziendali dedicati alla cultura, per poi raccogliere poco o niente, con danno alle coltivazioni, parliamo di un singolo agricoltore, che il perito ha stimato superiore ai 45 mila euro. C'è anche nell'articolo una foto dove si vede il campo di mais azzerato ai cinghiali. Orlandi conduce un'azienda in diritto zootecnico da latte, con circa 320 capi, di cui 150 in lattazione. Il mais di origine aziendale era un elemento fondamentale della razione. Dalle foto fatte col drone sui miei campi si vede bene dove i cinghiali hanno mangiato la prima volta, perché in quelle aree le piantine sono più basse. Dove sono più alte ci sono dei buchi perché sono entrati successivamente. E infine una terza dove è rimasto il terreno nudo. Ad ogni rissemina qualche danno è stato fatto anche quel trattore, perché siamo dovuti entrare in campo cercando di non schiacciare le piantine gianate. Una lavorata enorme con un aggravio di costi, sementi, gasolio, tempo. Da anni chiediamo l'eradicazione dei cinghiali nelle zone di colline a pienura, dove i branchi sono diventati stanziali, scambiando i nostri campi per il loro supermercato, dice Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza. Ora con l'incubo della peste suina alle porte, gli abbattimenti sono sospesi. È una situazione paradossale, dovremmo aumentare la produzione di mais, ma ce lo mangiano i cinghiali che però non possiamo abbattere. Da qui capiamo l'importanza di questo provvedimento. Però volevo ricordare anche che anche da altri punti di vista, anche se guardiamo l'aspetto ecologico, le ricadute ci sono per la presenza di questi selvatici. Ricordiamo che nelle zone montane noi stiamo lavorando perché la spopolazione della popolazione agricola non avvenga, ma nei territori montani purtroppo i danni ci sono e tanti, per cui dobbiamo lavorare su questo, il cotico dei manti erbosi dei territori montani, dove fra l'altro vengono prodotti fieno piuttosto che raccolte le erbe per nutrire le vacche, le pecore e le capre che producono formaggi tipici dei nostri territori e vengono vanificate, per cui hanno una ricaduta sulla zootecnia, l'allevamento, ma anche sull'agricoltura. Per cui è importante l'aspetto ecologico, però non è sufficiente andare sul palco di coadiretti agli eventi di città e campagna unite contro i cinghiali, se poi mancano le azioni che vanno incontro e in questo caso stanno dando incontro al mondo dell'allevamento, ma però ricordiamoci che c'è un'emergenza alle porte già in atto, che è quella del mondo dell'agricoltura. Per cui una riflessione a tutti i colleghi parlamentari, lavoriamo anche su questo. Grazie. Grazie, senatore Giuliani. Ha chiesto di parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà. Presidente, governo, colleghi. Devo dire che all'inizio anch'io avevo un po' sottovalutato questo provvedimento, nel senso che mi sembrava un provvedimento facile. Ci sono degli animali infetti, è evidente che quello che bisogna fare è abbatterli perché sono molto contagiosi e in questo modo proteggere la salute, sia la salute di tutti gli altri cinghiali, sia la salute indirettamente anche di tutte le persone che in fondo si cibano di carne di cinghiale e poi in qualche modo tenere conto di quelle che erano le esigenze dell'industria che procede alla trasformazione in prodotti alimentari di tutto questo. Mi sembrava un provvedimento semplice da affrontare. In realtà, mano a mano che il dibattito è andato avanti in Commissione, mi sono resa conto che in realtà questo disegno di legge potrebbe rappresentare come un modello culturale per ragionare e riflettere sul bilanciamento dei diritti. Bilanciamento dei diritti di tutti e faccio degli esempi. Sicuramente il bilanciamento dei diritti di coloro che in qualche modo devono abbattere cinghiali perché questi cinghiali sono delle fonti di rischio e di pericolo e loro vogliono proteggere un brand, proteggere una serie di prodotti, proteggere tutto un insieme di allevamento. Ci sono i diritti di coloro che ritengono che il rischio del contagio è tanto più alto perché questi animali hanno una capacità di riproduzione così veloce e, come dire, la concentrazione di questi animali in territori circoscritti e in territori contenuti crea di per sé un fattore di rischio. E quindi ci sono i diritti di coloro che, pensando che tra le misure di prevenzione c'è l'abbattimento di questi animali, di conseguenza anche sollevano diritti di cacciatori. Ma anche tra i cacciatori ci sono diritti diversi. Ci sono i diritti di coloro che ritengono che per affrontare questo modello di caccia si possano investire modelli a loro volta già sperimentati, che so io, andare alla caccia anche con i cani, con quello che sia, e chi dice no. Il modello reale è soltanto quello, per così dire, del rapporto uomo-animale, attraverso lo strumento che so io, della carabina, di quello che sia. Ci sono però in tutto questo, ed è questo quello che sta sullo sfondo di tutto il dibattito, i diritti degli animali. Noi abbiamo approvato, poco tempo fa, in questa sala, in quest'aula, abbiamo approvato addirittura una modifica della nostra Costituzione facendo spazio al riconoscimento dell'ambiente e implicitamente al riconoscimento dei diritti degli animali. ma quando si parla di animali si può parlare davvero di loro diritti, posto che al concetto di diritto deve sempre corrispondere il concetto di dovere, o non si deve parlare più semplicemente di un processo di tutela che noi dobbiamo avere nei confronti degli animali e quindi un processo di una relazione di cura che ne custodisce entro certi limiti quelli che sono le loro esigenze, per esempio l'esigenza di nutrirsi, l'esigenza di vivere. Nel caso poi specifico, sapendo la velocità di riproduzione di questi animali, anche l'esigenza delle scrofe che sono quelle che custodiscono poi i piccoli e quindi si preoccupano che questi abbiano a loro volta da mangiare. Sappiamo che il più pericoloso tra tutti questi animali è proprio la scrofa nel momento in cui percepisce la condizione di rischio per i suoi piccoli. Quindi il diritto di un animale a custodire i propri. Come si fa a tenere insieme i diritti degli animali sani poi, posto che si voglia parlare di diritti, rispetto ai presunti diritti? Ma ci sono diritti degli animali malati? Ci sono i diritti degli animali infettati? O gli animali infettati l'unica cosa a cui in qualche modo possono andare incontro è al fatto di essere eliminati. Tutto questo ha costituito, più di quanto non possa sembrare, un oggetto sistematico dei nostri incontri, delle audizioni che sono stati fatti, del dibattito che è stato fatto sugli emendamenti, del dibattito in discussione generale che c'è stato. Quindi diritti degli allevatori che intendono offrire un prodotto sul mercato, un prodotto alimentare di sicura qualità, con una sicura capacità di difendere una qualità che è quella che tocca la salute dell'uomo. Diritti di coloro che in qualche modo hanno le loro terre vicine a dove ci sono questi, si possono chiamare branchi di cinghiali, perché questi cinghiali, i cinghiali affamati sono cinghiali anche che fanno saltare le cinghiali, che si infilano sotto il terreno. Possono queste persone rivendicare il loro diritto? E come lo possono rivendicare? Che è il diritto al loro spazio vitale, che è il diritto anche alla sicurezza intorno a loro. E ci sono poi i diritti quelli che deve esercitare la medicina veterinaria, sia la medicina veterinaria dal centro, sia, non a caso, il primo articolo è tutto centrato sui piani regionali e quindi sulla responsabilità delle regioni a garantire il diritto alla salute come una salute collettiva. E poi, insisto, il più insidioso degli argomenti, il più insidioso degli argomenti è quello che tocca il punto chiave se ci sono diritti degli animali, come si declinano i diritti degli animali e esiste un concetto di diritto che sia sganciato da un concetto di dovere. È evidente che io non posso con gli animali affrontare il tema del loro dovere se non tutelandomi in qualche modo. Ora, tutti noi conosciamo una serie di episodi che si sono verificati anche nella città di Roma. Avevamo visto nella precedente giunta che generalmente i cinghiali arrivavano e, per così dire, si concentravano intorno ai castonetti, intorno a cui potevano trovare residui di viveri. Avevano anche la forza e la potenza a volte di capovolgere questi castonetti, quindi con tutta la situazione di disordine e di caos che trovavamo. Abbiamo visto pochi giorni fa attraversare la città di Roma, ad un determinato punto, una scrofa che in mezzo alla strada ha allattato tutti i suoi piccoli cinghialini, suscitando perfino nella situazione di rischio quella dimensione di simpatia umana che sempre si trova quando qualcuno si prende cura di soggetti, in quel caso soggetto più fragile. È di pochissimi giorni fa, credo due o tre giorni fa, che è stato trovato un cinghiale così tranquillo, addormentato in un giardino e non si può sicuramente parlare di una zona degradata di Roma, posto perché era la zona di Vigna Clara che rientra tra i quartieri bene della città. Il cinghiale dormiva, sono state chiamate le forze dell'ordine, qualcuno che è intervenuto, che lo ha addormentato, quindi possiamo dire che è cercato di intervenire con la maggiore cura possibile, dopodiché però una volta che questo animale è stato addormentato e portato via è stato anche ucciso, il che ha sollevato a tutto campo una tensione incredibile. Aveva diritto quest'animale a essere rimesso in cattività? Aveva diritto quest'animale a tornare nella zona del centro a spaventare o comunque a sollevare qualunque tipo di tensione e di preoccupazione ci fosse? Ecco, io credo che se dal punto di vista economico questo disegno di legge pone una serie di interrogativi molti precisi, se dal punto di vista sanitario forse il più semplice di tutti gli interrogativi che pone l'animale infetto in quanto infetto, documentamente infetto, va eliminato. Ma dal punto di vista antropologico questo disegno di legge è una provocazione positiva a ragionare sul fatto se noi dobbiamo considerare diritti loro o una relazione di tutela, diritti i nostri e come ci dobbiamo muovere e come va interpretato, perché questa è la prima volta dopo che abbiamo approvato la modifica della Costituzione, è la prima volta che ci troviamo a porci davanti a un tema che a me piace considerare un tema antropologico di altissimo valore, perché indirettamente tocca anche tutto il tema del rapporto tra animali, ricerca scientifica, eccetera. Grazie Presidente. Grazie a lei, Senatrice Binetti ha chiesto di parlare alla Senatrice Fregolent, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Innanzitutto desidero ringraziare per primi Senatore Bergesio e la Senatrice Biti per il lavoro compiuto, assieme a tutti i membri della Commissione e rispettivi Presidenti, e Ministro Patuanelli per l'attenzione che ha prestato a questo importante provvedimento. I membri delle Commissioni hanno lavorato in modo fattivo e costruttivo, riconoscendo il grave rischio che stiamo correndo. Come noto, a far data dal 7 gennaio ultimo scorso, è stata rilevata sul territorio italiano la presenza della peste suina africana del cinghiale nelle province limitrofe di Genova e di Alessandria. Siamo consapevoli già dei dettagli della malattia, già ampiamente descritti dai relatori e dai colleghi che mi hanno preceduti. I casi riscontrati erano concentrati nella zona ricompresa tra le due autostrade, A25 e A7, ma recentemente stiamo assistendo al ritrovamento di carcasse positive oltre questo perimetro. Segno che le autostrade non rappresentano un ostacolo alla movimentazione dei cinghiali e con conseguente diffusione della malattia. Questo ci impone una riflessione sulla necessità di approvare velocemente questo provvedimento, affinché le risorse giungano tempestivamente alle regioni. Basti pensare che siamo già ad aprile. Si tratta di interventi urgenti, finalizzati ad impedire la circolazione dei cinghiali entro la prossima estate. Tra poco, infatti, avrà inizio la stagione dei parti, con un raddoppio della numerosità dei cinghiali e, conseguentemente, a partire dal prossimo mese di giugno l'infezione potrebbe subire una significativa accelerazione determinata dai nuovi nati. Ecco perché questo provvedimento è urgente. Risulta pertanto fondamentale rinforzare le recensioni già presenti sugli assi stradali che delimitano l'area infetta, così come costruire ex novo, ove possibile, barriere fisiche che mettano in sicurezza i confini della zona sottoposta a restrizione. Le recensioni sono sicuramente lo strumento più efficace per procedere al contenimento dei cinghiali e, per questo motivo, sono stati destinati 10 milioni di euro, che siamo consapevoli che la conformazione orografica del territorio non renderà facile la collocazione delle stesse. Vi è quindi la concreta possibilità che il virus possa diffondersi tra i cinghiali in un'area molto più vasta, comprendente sia zone montuose e particolarmente impervie, di difficile accessibilità e con un'elevata intensità di questa popolazione, che zone urbane, in cui vivono cinghiali abituati alla vicinanza dell'uomo. Le recensioni e le strutture temporanee amovibili dovranno essere realizzate dalle regioni interessate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizzi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e in presenza di vincoli paesaggistici mediante procedura semplificata. Anche questo passaggio è fondamentale per contenere al massimo i tempi per la loro realizzazione. Sono i tempi il fattore cruciale. Gli obiettivi per i quali hanno lavorato le Commissioni sono stati, da un lato, l'eradicazione della malattia, pur consapevoli che si tratta di un traguardo arduo che richiede serietà e metodo nell'approccio. Serietà sarà necessaria la sinergia tra le diverse amministrazioni coinvolte e le parti interessate, compresi allevatori, cacciatori, etc., procedendo con il depopolamento dei cinghiali. In questo contesto, la leadership e il coordinamento da parte delle regioni dei servizi veterinari pubblici sarà essenziale. Dall'altro, la tutela della filiera sui Nicola e l'export italiano, considerato che diversi paesi, quali Giappone e Cina, ma anche Taiwan, Thailandia, Messico, Peru, Ecuador, Filippina e Sudafrica, hanno da subito intrapreso una politica protezionistica e in questo senso hanno chiuso il proprio mercato indistintamente alle carni e tutti i prodotti a base di carne e suina. Assica e Una Italia stimano, oltre ai danni direttamente patiti dagli allevatori nelle zone infette e nelle aree linitrofe, un danno esteso al settore carni e salume di almeno 20 milioni di euro al mese solo per il mancato export. Non si tratta quindi di una caccia al cinghiale che comunque, se colpiti da malattia, non vivrebbero in ogni caso, ma della sopravvivenza di un intero settore agroalimentare, fondamentale per la nostra economia e per centinaia di aziende e lavoratori che ci chiedono di fare in fretta. La Lega continuerà a lavorare per la tutela delle attività di coloro che risiedono nella zona rossa e che in questo periodo dell'anno vedono precluse diverse attività lavorative, l'accesso ai parchi e varie attività legate al turismo e all'accoglienza attualmente in grande difficoltà. In questo senso andava anche un emendamento che avevamo presentato e che purtroppo non ha trovato margine di accoglimento. È un provvedimento quello che stiamo per approvare di buon senso. Concludo, grazie. Questo è sicuramente un provvedimento di buon senso e anche se arriveranno le critiche... Questo è un provvedimento di buon senso e anche se arriveranno le critiche, perché questo è il Paese dove è più facile criticare a prescindere che costruire, a noi interessa intervenire e intervenire presto perché non sia troppo tardi e i costi non diventino dieci volte tanto. La nostra risposta, onorevoli colleghi, deve necessariamente essere la più compatta e rapida possibile. Grazie. Grazie, senatore Cefregone. Ha chiesto di parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente. I colleghi, collega La Pietra, prima ha fatto una fotografia per certi versi impietosa di come sia la gestione o la non gestione della fauna selvatica in questa nazione. Visione ancora condizionata pesantemente dall'ideologia, da una scarsissima conoscenza dell'equilibrio tra selvatico e domestico e soprattutto condizionata forse da una visione ormai troppo urbanizzata dell'Italia rurale. Se fino a 30 anni fa il 70% della popolazione italiana viveva in aree rurali e quindi conosceva i meccanismi e la vita della ruralità italiana e solo il 30% viveva in zone urbanizzate, stiamo andando verso una società nella quale nel giro di pochissimi anni la percentuale di fatto si rovescia e avremo oltre il 70% di persone che vivono nelle città e il 30% nelle aree rurali. Tralascio in questa sede tutte le considerazioni relative al chi poi farà manutenzione e mantenimento di quelle aree rurali se si spopolano e su questo credo che siano altri gli strumenti con il quale dobbiamo intervenire, sul quale dobbiamo lavorare perché io non mi arrendo a questa visione urbano-centrica. Credo invece che la città sia funzionale nel momento in cui può appoggiare su un retroterra rurale che le consenta a. di sfamarsi e b. di avere comunque il controllo anche degli agenti atmosferici che non la condizionino come è accaduto con le piene di certi fiumi anche in Veneto rispetto alla sicurezza ambientale. Ma questa è un'altra partita. Mi concentrerei piuttosto sulla visione anti-rurale e anti-agricola che ha una certa parte anche di questo Parlamento. Se qualcuno può essere felice e contento di vedere mamma cinghiale che allatta i cinghialini in centro a Roma io questo lo considero un fallimento delle politiche non solo di contenimento del selvatico ma anche le politiche di gestione urbane perché non è una cosa normale vedere un animale selvatico vivere in zona urbana. E quindi quella è la stortura di questa di questa nazione. Non un serio piano di contenimento della fauna selvatica a beneficio non solo come in questo caso del suino allevato e quindi della sua possibilità di contrarre una malattia che compare in Europa nel 2014. Quindi viva i Dio qualche tempo per studiare meccanismi di contenimento. La comunità europea finanzia un progetto di oltre 10 milioni di euro per la ricerca sui vaccini. Noi siamo velocissimi a trovare giustamente un vaccino per il Covid ed altro latitiamo nel momento in cui dovremmo farlo anche per contenere malattie che gravano sul PIL nazionale in una maniera assolutamente pesante. Anzi in un momento in cui addirittura la nostra filiera sui Nicola è pesantemente anche condizionata da forse qualche speculazione al centro della filiera stessa che porta gli agricoltori a vedersi riconosciuto un aumento di pochi centesimi ed altri contraenti come i macelli vedere aumentare le spese alla catena dei trasformatori e degli insalgatori di oltre il 28-40%. Ecco, se non riusciamo a dare stabilità nemmeno in condizioni normali al reddito degli allevatori, pesantemente condizionato anche dall'aumento del costo del mangime e quindi già i dati del CREA ci fotografano una situazione secondo la quale un'azienda su quattro colleghi, un'azienda su quattro della suinicoltura, della cellulicoltura non avrà nella prossima campagna, non sarà in grado di acquistare i fruttori produttivi per fare il ciclo produttivo, una su quattro, sono a rischio 27 mila aziende. Quindi da questo assunto dobbiamo partire anche quando ci occupiamo di salute, anche quando ci occupiamo di temi come la peste suina che possono oggi in qualche maniera riferirsi solo a un'area geografica ma che sicuramente hanno un riflesso sul mercato nazionale amplissimo. Ci sono nazioni, le citava prima bene il collega La Pietra, che oggi hanno già chiuso l'importazione dei nostri lavorati dall'Italia, penalizzando ovviamente un mercato. Questo gioco forza lo sappiamo tutti che in Europa c'è una scientifica da parte di qualche nazione sovranista, perché oggi è tornato di moda anche questo termine, sovranismo, lo cita Macron, non lo cita Giorgia Meloni, Luca De Carlo, Patrizio la Pietra. Sovranismo nel senso di avere un interesse nazionale. Bene, quelle nazioni oggi hanno tutto l'interesse nel vedere rosa una fetta di mercato che oggi è a pannaggio degli italiani per sostituirla con fette di mercato interne come quelle di Francia e Germania che ben godono nel vedere noi impaltanati dalla burocrazia anche in temi come quello della peste suina che dovrebbe essere un tema che ci unisce tutti e che soprattutto ci fa suonare un campanello d'allarme rispetto a qualche visione assolutamente, non dico antiquata perché nessuno qualche anno fa si sarebbe mai sognato di pensare di vedere i cinghiali in centro a Roma, ma che ormai è viziata da questa sindrome di Heidi diffusa secondo la quale le caprette ti fanno ciao mentre i suini coltori sono i grandi inquinatori e gli assassini. Ecco, sgomberiamo il campo da tutte queste visioni da cartone animato perché non è così, la realtà è ben altra e guardate che si sono accorti, si è accorta anche la maggioranza in Europa che poche settimane fa aveva votato norme come quella della Farm to Fork o il Set Aside che prevedevano una riduzione della produzione con la chimera del miglioramento climatico che oggettivamente c'è un cambiamento climatico e vanno ripensate le nostre politiche agricole, già il fatto di pensare a delle politiche agricole è un passo avanti perché fino ad oggi si è pensato poco e programmato zero, a meno che qualcuno possa saltarsi in quest'aula e dire no, noi abbiamo un piano strategico serio basato su cose concrete che oggi vi illustreremo, bene mi farebbe molto piacere poterlo vedere e anche poterlo discutere, perché no? Ma ad oggi abbiamo visto un controordine compagni di Guareschiana Memoria secondo il quale quello che ieri era votato dalla maggioranza in Europa cioè il Farm to Fork oggi non va bene, non va bene si chiede di coltivare maggioriare, tutto perfetto, non si illuda qualcuno che averlo sospeso di un anno significa avere a disposizione terreni con la stessa resa che hanno quei terreni che si lavorano magari da dieci anni, perché se no significa capire poco o nulla di agricoltura, bene la sospensione, bene anche protrarla nel maggior tempo possibile, perché guardate stiamo parlando di un'agricoltura quella italiana che è oggettivamente una delle agricolture più sostenibili d'Europa, dopodiché possiamo migliorare, possiamo sempre migliorare, anche noi possiamo migliorare nel legiferare a volte in conto circuito con quanto abbiamo fatto la settimana prima, però dobbiamo partire da due presupposti, il primo che noi dobbiamo dare da mangiare a una popolazione mondiale sempre in crescita e il secondo che noi dobbiamo garantire ai nostri agricoltori un reddito certo e sicuro, perché non può esistere che ci siano sistemi di sicurezza del reddito solo per quanto attiene agli avventi avversi e non ci sia nessun fattore che dia garanzia ai produttori rispetto ai cambiati e ai mutati effetti del mercato, questo non è possibile oggi e quindi su questo dobbiamo lavorare, però dobbiamo farlo levandoci in questa visione secondo la quale l'agricoltore, il grande inquinatore e quello con gli scarponcini alla moda che vive in città tutta la settimana e che va in montagna una volta alla settimana quello sia il vero ambientalista, vi siete sbagliati, il vero ambientalista, colui che preserva l'ambiente da sempre è l'agricoltore, tant'è che ce lo dicono i dati anche qua noi abbiamo ridotto, i nostri agricoltori hanno ridotto del 20% l'uso di fitofarmaci mentre la Francia e la Germania che oggi ci danno lezioni li hanno aumentati, abbiamo un'emissione di 30 milioni di tonnellate di CO2 a fronte di oltre 60 milioni in Germania e 76 milioni in Francia, degli stessi che oggi vengono a dettarci le regole e pretenderebbero di insegnare a noi cos'è la sostenibilità, abbiamo aziende che hanno investito, ci sono dei report, ultimo dei quali quello uscito da Confagricoltura che cita quante sono le imprese, quanti sono gli investimenti sull'innovazione fatte dalle nostre imprese, abbiamo una gestione dell'acqua pessima purtroppo ma che va migliorata perché le altre nazioni questo sì hanno fatto meglio di noi, noi abbiamo l'11% di acqua trattenuta nei nostri bacini dell'acqua piovana, le altre nazioni sono arrivati quasi al 50%, allora interroghiamoci e copiamo dalle grandi nazioni, ma mettiamo al centro l'agricoltura sostenibile italiana anche quando facciamo questi provvedimenti, altrimenti perdiamo il focus e andiamo a bastonare chi ha fatto sostenibilità fino a ieri, come i suoni coltori anche in questo caso, a beneficio di chi non l'ha mai fatta e oggi godrebbe delle stesse regole. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Crucioli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questo provvedimento, in forza di questo provvedimento che è in conversione oggi, in Liguria e in Piemonte sono precluse alcune aree in più di 100 comuni, tutte le aree boschive. Questo sta procurando un grandissimo danno all'economia rurale, pensate a tutti i rifugi o i bed and breakfast, per non pensare a tutte le attività che vengono svolte in boschi e prati che sono appunto precluse a chiunque voglia far trekking o andare in bicicletta. Ora, se è evidente che la peste suina africana va contenuta e che bisogna evitare che il contagio arrivi in quegli stabilimenti che producono, allevano maiali per poi produrre prosciutti, salami e che sono localizzati soprattutto in Piemonte e in Emilia, è altrettanto evidente che bisogna calibrare questo interesse con l'interesse dei cittadini, in particolare liguri e anche genovesi, che appunto in questo momento si vedono precluse alcune libertà come appunto quelle di poter girare nei boschi e nei prati. Soprattutto perché, dico questo, perché questa preclusione è funzionale a due obiettivi. Quello di evitare di disturbare appunto i cinghiali che potrebbero essere infetti e potrebbero essere spinti dalle attività umane nei boschi e nei prati a muoversi di più e quello di evitare che le persone che vanno nei boschi e nei prati possano calpestare zone che sono state frequentate da maiali infetti e poi portarle all'interno appunto degli allevamenti suini. Ma questi due obiettivi sono francamente poco raggiungibili. Innanzitutto perché nella situazione ligure, in particolare genovese, i cinghiali sono in città più che nei boschi. Quindi è velletario pensare che non mandando gli uomini nei boschi i cinghiali non si muovano o si muovano di meno. E l'altra perché sarebbe semmai più utile mettere delle misure di contenimento nei luoghi, negli allevamenti impedendo che chi è stato a contatto, può essere stato a contatto con materiale infetto, possa portare all'interno di questi luoghi la malattia. In tutti i casi va riscontrato come ancora una volta il governo abbia utilizzato lo strumento più semplice, quello di impedire delle attività, delle libertà, dei diritti dei cittadini senza invece trovare una strada più efficace e meno invasiva. In particolare la preoccupazione è data dal fatto che, nuovamente ancora una volta, questo provvedimento demanda a delle valutazioni tecniche e quindi ancora una volta toglie gli organi legislativi nazionali e regionali di qualunque possibilità discrezionale. perché? Perché all'articolo 1 questo provvedimento prevede, demanda ai piani regionali le forme appunto di contenimento e quindi anche di preclusione di attività agli uoni, ma sulla base, cioè nel rispetto del piano nazionale di sorveglianza e del manuale delle emergenze da peste suina. Ora, entrambi questi provvedimenti prevedono al loro interno che qualora venga ritrovato una carcassa di animale infetto, in un raggio di 6 km da questo ritrovamento deve essere preclusa qualsiasi attività nei boschi. Allora, voi capite che se oggi noi abbiamo in una vasta area, ma comunque delimitata, è per un certo numero di mesi la preclusione di utilizzo di determinati luoghi da parte dell'uomo, con possibilità di deroghe da parte della regione, un domani, quando appunto questi piani regionali dovranno attenersi al manuale di emergenza da peste suina e al piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione, che appunto prevedono che ogni ritrovamento preclude un'area di 6 km, significa che potenzialmente delle aree molto, ma molto estese verranno precluse e anche per i tempi illimitati. Faccio un esempio concreto. A Genova, uno degli ultimi ritrovamenti di carcasse è avvenuto a Staglieno, vicino al cimitero di Staglieno, in un popolosissimo quartiere cittadino, quindi non nei boschi, ma praticamente in città, e questo precluderebbe, se si fa un cerchio di 6 km, il cerchio di 6 km ad esempio comprende il parco urbano delle Mura, che è praticamente uno dei parchi più utilizzati dai genovesi, con tutto il sistema dei forti, che è uno dei pochi luoghi dove i cittadini genovesi vanno a passeggiare. Ora, questo è francamente troppo, cioè se si impone attraverso questo sistema di rimandi, che il piano regionale deve essere conforme a questo manuale di emergenza, a questo piano nazionale, che ogni ritrovamento prevede questo raggio di 6 km, significa che tutte delle aree molto vicine alla città, e che sono appunto il polmone verde della città e la zona dove i genovesi, ma anche altri liguri, perché questo può avvenire in tanti altri comuni, non solo in quello genovese, si precluderanno delle attività direi essenziali, come quello appunto degli spostamenti e delle passeggiate o del cicloturismo, o anche di frequentazioni appunto di rifugi o altre attività ricettive e turistiche, che metterà in crisi, innanzitutto che precluderà delle libertà essenziali per i cittadini, già provati dai lockdown precedenti, di natura ben più grave come quella della pandemia, ma anche metterà in crisi tutta un'economia dell'entroterra che non trova adeguati riscontri in questi provvedimenti. Per tutto questo io ritengo che il provvedimento in esame sia squilibrato, non risolverà il problema e invece ne produrrà tanti altri, sia, ripeto, in ordine alla limitazione di libertà dei cittadini, sia in ordine all'economia dell'entroterra dei comuni colpiti. Grazie Presidente. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi stiamo esaminando il disegno di legge sulle misure urgenti per restare la diffusione della peste suina africana, quindi convertendo il decreto del 22 febbraio del 2012. Un intervento che il Governo ha fatto tempestivamente, ma che adesso, attraverso questi emendamenti, noi stiamo cercando e abbiamo già fatto di emendare, migliorandone ovviamente anche il testo base. Anch'io devo ricordare quello che è stato fatto, insomma, sia dalla Commissione Agricoltura e dalla Commissione Sanità, quella a cui appartengo. È stato fatto un grande lavoro di sinergia, questo lo devo proprio dire perché, ringraziando i relatori Biti e Bergesio e con tutti gli altri commissari delle commissioni di pertinenza, è stato fatto un grandissimo lavoro di sinergia. Devo dire la verità perché siamo partiti un po' in maniera discordante, ma poi alla fine, ieri sera, all'ultima riunione, devo dire che si è arrivati a delle giuste condivisioni di emendamenti che, tra l'altro, anche in questo caso, devo dire, il Governo che ci ha assistito e quindi, devo dire, ha dato una buona mano perché ringrazio anch'io il Ministro Patuanelli, ma anche i nostri sottosegretari Sileri e sottosegretari Abini, perché c'è stata un'interrelazione importantissima. Questa conversione in legge porta importantissime novità. Novità, per esempio, il fatto che il commissario, che prima sembrava davvero sensartene parte, adesso ha un fondo a disposizione per poter intervenire, per poter elargire le regioni, che è un altro dato importante, è stata una lotta fatta, devo dire, dal mio partito, ma insieme a tanti altri componenti, appunto, gli altri gruppi parlamentari, e hanno aumentato delle risorse perché tutti noi sappiamo che quando ci si presenta, attraverso un decreto, una conversione in legge, a ISO Risorse, tutti ci si chiede, ma come faremo a fare queste cose. In effetti, ecco, qui è stato dato uno spunto importante perché da parte dei parlamentari c'è stata questa richiesta e c'è stato quindi questo ritorno positivo da parte del Governo. Quindi lo ringrazio assolutamente. Ma, colleghi, io volevo fare più che altro una riflessione. Noi ci stiamo trovando, anche in questo caso, di fronte a delle emergenze. Già con la pandemia ci siamo trovati di fronte a delle emergenze. E quindi la grandissima difficoltà di mantenere in equilibrio temi importanti come la sanità e l'economia nell'epidemia, avete visto con quanta difficoltà abbiamo dovuto portare avanti sia la salute delle persone, ma anche l'economia, che di conseguenza ne ha avuto delle gravi conseguenze. Però, pian pianino, ci stiamo riuscendo. Anche in questo caso, con la peste stuina e abbiamo sentito i discorsi dei miei colleghi, bisogna tenere in giusto l'equilibrio la salute umana, l'ambiente, la salute animale. E quindi vedete quanto è difficile tenere in equilibrio tutte queste tematiche non meno importanti l'una dell'altra. Però devo dire che bisogna fare discussione, come è stata fatta, ampia, devo dire grandissima discussione, ognuno per la sua parte, poi senza cadere negli estremismi né dall'una né dall'altra parte, bisogna trovare una sintesi. Credo che attraverso questa conversione in legge la sintesi sia stata trovata e questo mi fa molto piacere. Devo dire però che ancora una volta io spero e mi auguro che anche la peste stuina africana, che sembrerebbe una cosa che invece davvero potrebbe incombere sul nostro territorio se non interveniamo immediatamente, subito. E anzi qui volevo fare un inciso. All'articolo 2,3 abbiamo che in via sostitutiva il commissario può chiedere allo Stato di intervenire. Perché se sono inadempienti le regioni deve intervenire lo Stato. Devo dire che è un passaggio molto importante questo, ma lo dico perché collegandolo soprattutto sia al PNRR, voi sapete che è prevista la sostituzione appunto dello Stato nell'indempienza delle regioni. Mi piacerebbe veramente tanto che questa sostituzione da parte delle regioni e quindi l'intervento dello Stato ci fosse anche quando non sono garantiti lea nelle regioni. Prendiamo spunto anche da questa conversione in legge, prendiamo spunto da queste cose che possano diventare qui un aiuto, pur parlando di altre cose, in analogia con altre necessità, anche uno spunto per far sì che le regioni, quando hanno delle adempienze e sono inottemperanti, qualcuno si deve prendere la responsabilità di farle arrivare. Finisco solo dicendo che appunto anche quando le regioni sono inadempienti qualcuno deve dire che per il bene dei cittadini deve fare quello che le leggi prevedono. Grazie Presidente. Grazie Senatrice Boldrini. È scritta a parlare la Senatrice Labate, ne ha facoltà per otto minuti. Grazie Presidente. Nella Commissione Ambiente appunto qui in Senato abbiamo esaminato questo disegno di legge che ovviamente ricordo che parla appunto del complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana. Ricordo anche che appunto nelle regioni Piemonte e Liguria dal 7 gennaio del 2022 è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza appunto della peste suina africana con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022 e che appunto questa malattia, questa PSA è una malattia virale non trasmissibile all'uomo fortunatamente altamente però contagiosa che colpisce quindi suini, domestici, selvatici e spesso anche in modo letale. Nelle nostre osservazioni all'articolo 1,1 tra gli interventi adottati con lo strumento dei piani regionali è necessario che vengano inclusi i seguenti aspetti, che ci sia un piano di gestione della popolazione dei cinghiali, il coordinamento con i calendari venatori di conducibili alle specie cinghiali nell'ambito dei territori ricadenti nella zona infetta, la gestione straordinaria dei suini di allevamento e delle relativi carni, campagne di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle aree coinvolte, l'organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell'ambiente, IV inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori, la regolamentazione delle varie attività, IV incluse quelle di outdoor, nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva. Anche all'articolo due è necessario che vengano riconosciuti al commissario straordinario i poteri doni all'esercizio urgente delle funzioni attribuiteli. Al commissario straordinario deve essere altresì riconosciuto il coordinamento dell'unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con ANAS, Società Autostrade per l'Italia e con tutti gli altri soggetti gestori o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza, anche con l'eventuale coinvolgimento della protezione civile. Queste malattie, la pesce suina africana, come anche l'influenza aviaria che colpisce il pollame domestico e gli uccelli acquatici selvaggi, rappresentano in realtà due grandi preoccupazioni per la zootecnica italiana, ma non solo quindi per l'Italia, perché si registrano casi chiaramente in tutto il mondo. E quindi ancora una volta raccogliamo dei segnali di allarme di quanto le nostre attività antropiche agiscono sull'equilibrio del pianeta. Per questo la transizione ecologica in atto deve assolutamente rifondare il sistema alimentare. Purtroppo noi stiamo scontando delle azioni probabilmente sbagliate anche dal nostro modello economico. La scelta, per esempio, di produrre delle quantità elevati di carne a costi sempre più bassi. Altri fattori, ad esempio, possono essere attribuiti al commercio e trasporto illegale degli animali e delle carni, allo scorretto smaltimento dei rifiuti prodotti dagli allevamenti e di animali infetti, che, attenzione, a volte possono essere inclusi nei mangimi per avicoli e suini. E per chiudere anche parliamo di bracconaggio dei cinghiali, molto diffuso, che solitamente vengono macellati sul posto in maniera illegale, quindi possono contribuire alla diffusione del virus in questione. Bisogna quindi rendere sostenibili gli allevamenti. Sicuramente sono importanti, sono un effetto importante della nostra economia, ma dobbiamo ridurre la densità degli animali allevati. Proteggere l'habitat e la ricchezza della biodiversità, perché è necessario effettuare delle barriere naturali per creare una distanza spaziale tra le specie selvatiche e la specie umana. Gestire i cinghiali pianificando nel medio e nel lungo periodo la gestione della popolazione, svincolando anche la gestione della fauna selvatica, dagli interessi che possono essere di tipo venatorio. Dobbiamo anche contrastare appunto il bracconaggio dei cinghiali come misura per la tutela sia della biodiversità, ma anche della salute umana. Vorrei anche in quest'avola leggere alcuni chiarimenti che ci vengono dati dall'ISPRA, come appunto la scienza e i nostri esperti italiani affrontano in questa materia la gestione della peste suina africana. Alla domanda perché è importante sospendere qualsiasi tipo di attività venatoria nella zona infetta da peste suina africana, la risposta è perché si tratta di attività che comportano un duplice rischio. La movimentazione di cinghiali potenzialmente infetti sul territorio, soprattutto conseguente al ricorso di tecniche che utilizzano i cani e la diffusione involontaria del virus attraverso calzature, indumenti, attrezzature e veicoli. C'è un'altra domanda alla quale appunto l'ISPRA risponde. Perché è importante regolamentare qualsiasi tipo di attività venatoria nell'area confinante con la zona infetta almeno entro 10 chilometri di confine. Perché considerati i rischi che comporta per la diffusione della peste suina africana è importante che siano adottate delle modalità di prelievo venatorio volte a limitare al massimo il disturbo ai cinghiali per non aumentarne la mobilità, unitamente a misure di biosicurezza, in grado di ridurre il rischio di diffusione del virus come effetto della contaminazione di indumenti, scape, mateari eccetera. E la comparsa della peste suina africana è dovuta all'elevate densità di cinghiale? Leggo anche questa domanda perché vediamo come rispondono appunto i nostri esperti. Assolutamente no. La comparsa del virus è totalmente indipendente dalla densità di cinghiale. Questa è una cosa importante. Le popolazioni di cinghiale infette più vicine all'Italia vivono a diverse centinaia di chilometri di distanza. La comparsa dell'infezione nel cinghiale in Piemonte e in Liguria è sicuramente dovuta all'inconsapevole introduzione del virus da parte dell'uomo. Abbiamo un'altra domanda. Ma l'elevata densità del cinghiale favorisce la persistenza del virus. La densità del cinghiale non ha effetti significativi significativi sulla persistenza in natura della peste suina africana. La notevole resistenza del virus nell'ambiente fa sì che la malattia continua a circolare per anni anche in popolazioni di cinghiale a densità bassissime. Sì, Presidente, concludo che dobbiamo ripensare i nostri sistemi produttivi e di consumo del cibo e le nostre relazioni con la fauna selvatica in una dimensione ecologica che sia rispettosa di tutte le componenti che caratterizzano la vita sul pianeta. Questa è la migliore prevenzione che possiamo attuare per preservare la nostra salute e quella degli animali. Grazie. Grazie, Senatrice Labattia. È iscrita a parlare la Senatrice Lamura nella facoltà per otto minuti. Senatrice Lamura, prego. Perfetto. Ok. Allora, grazie Presidente. Colleghe e colleghi, il Parlamento si è un po' diviso su questo argomento, anche se poi è riuscito a trovare una sintesi. Infatti, leggendo il decreto, ci si chiede se si voglia effettivamente eradicare la peste suina africana oppure deregolamentare l'attività venatoria, quindi andando in deroga alla legge 157. L'erogazione della peste suina africana, infatti, è un intervento con finalità sanitarie che non può essere messo in relazione con l'attività ludico-ricreativa, come la caccia o il controllo faunistico svolto dai privati cittadini, perché a questo si vuole arrivare e su questo si sta lavorando da anni. Il decreto legge, in esame, prevede che le regioni e le province autonome adottino un piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale, non sottoposto a valutazione ambientale strategica né a valutazione di incidenza ambientale. Quindi questa è già la prima deroga assolutamente negativa, che va contro l'ambiente e contro le strategie di economia sostenibile a cui dovremmo invece tendere. Il decreto consente l'automatico ricorso a misure cruente e generalizzate di eradicazione della popolazione dei cinghiali selvatici su tutto il territorio nazionale non solo le aree infette da peste suina africana e prevede invece, mediante un rinvio ad un decreto ministeriale esclusivamente, il ricorso a misure di biosicurezza per gli allevamenti di suini anche nelle zone infette. Il decreto è un oggetto, inoltre non considera adeguatamente gli allevamenti intensivi sui quali invece bisognerebbe ragionare perché dal punto di vista del rischio sanitario sappiamo benissimo che questi allevamenti vanno rivisti queste metodologie di allevamento e neanche l'attività produttiva. Vista l'innegabile potenziale appunto di insorgenza e diffusione di malattie che gli stabilimenti sui nicoli di tipo industriale rappresentano. Vi è quindi una sproporzione tra le misure previste e tale sproporzione appare ancora più evidente se si considera quanto stabilito dal regolamento europeo 429 del 2016 il quale prevede che le misure siano necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia. Il decreto quindi non assicura questi requisiti e risulta non in linea con l'articolo 9 della Costituzione e l'articolo 13 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea in merito al benessere animale. Su questo i colleghi abbiamo cercato di rimediare. Ribadisco che i piani regionali devono essere funzionali all'eradicazione della peste suina africana e quindi con metodi ecologici appunto tipo le recinzioni e non dei cinghiali. Quindi quella parte lì è qualcosa che è già regolamentato dalla legge 157 e quindi come previsto da Ispra, scusatemi, come precisato da Ispra nelle audizioni, la notevole resistenza del virus nell'ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni anche in popolazioni di cinghiali a densità bassissime tipo un cinghiale ogni chilometro quadrato. Ovviamente questo se laddove si decidesse di eradicare diciamo la malattia uccidendo, diminuendo la popolazione di cinghiali così come c'è scritto nel decreto. Infatti a supporto di quanto dichiarato da Ispra, nei paesi dell'est Europa dove si è proceduto con misure dirette di riduzione della popolazione di cinghiali, i risultati sono stati disastrosi al punto da incrementare la diffusione del virus. Invece in Belgio e Repubblica Ceca la peste suina africana è stata eradicata esclusivamente attraverso i metodi ecologici consistenti nella ricinzione dell'aria infetta. Ecco questa è la differenza. Quindi è su questo che penso ci stia andando e si andrà con il decreto attuativo e quindi in relazione a quanto ci dice indicato nel manuale operativo per la gestione della peste suina, lasciando quindi che la malattia possa fare il suo corso. Poi se dovranno essere abbattuti o meno sappiamo bene che poi la peste suina, il momento in cui vai ad isolare gli animali, uccide questi animali, il virus non si trasmette. Quindi dovremmo appunto metterli in vigilia attesa. Tutto per ricordare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con il Covid-19. Dalla normativa europea e italiana in materia non si evince per quanto riguarda gli animali selvatici un qualsivoglia obbligo di attuazione di misure cruente. Misure come l'abbattimento devono necessariamente avvenire nell'ambito di uno specifico piano e non prima dell'identificazione di una zona infetta. Spero che si farà appunto questo, a partire dalla quale sarà ipotizzabile un eventuale depopolamento, quindi un'area cuscinetto attorno all'area infetta e quindi con una sorveglianza per allentare la pressione della zona infetta. I nostri emendamenti, quelli presentati con i colleghi e con le colleghe del Misto, alcuni di loro, Paola Nunez, Matteo Mantero ed altri, sono in linea con quanto appunto per risolvere queste criticità. Parte di questi sono stati approvati. Io voglio ricordarli, altri no purtroppo. Il piano regionale degli interventi urgenti deve contenere in via prioritaria parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti sui nicoli articolati per tipologia produttiva in modalità di allevamento o detenzione. Tra i metodi ecologici devono essere incluse anche le restrizioni all'attività di caccia, perché altrimenti sappiamo benissimo che il virus può diffondersi a causa della mobilità. gli animali scappano perché cercano di difendersi quando c'è un fucile che li raggiunge. Ancora un minuto, ho messo il timer. Abbiamo richiesto di ricorso a sistemi di controllo delle specie di cinghiali su base annuale, abbiamo escluso che si ricorresse a sistemi di controllo delle specie di cinghiali su base annuale, indipendentemente dalla presenza di epidemie in corso del territorio considerato. Io voglio dire anche che non bisogna andare in deroga alla valutazione ambientale strategica e neppure alla vinca e che appunto si vada verso la recinzione e quindi l'individuazione delle aree infette, grazie anche al contributo dell'ISPRA, perché altrimenti davvero noi potremmo rischiare di distruggere il nostro territorio, il nostro ambiente e poi non risolvere il problema. Io spero appunto che i colleghi e tutti noi possiamo in qualche maniera gestire questa emergenza sanitaria in maniera opportuna, tenendo da parte la caccia, che è qualcosa che in questo decreto non dovrebbe assolutamente esserci. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenire la diffusione tra i suini di allevamento, finalmente diamo una risposta agli allevatori e alle imprese, già duramente provati dalle ripercussioni del Covid e dalla tragica situazione in Ucraina. Scopo di questo decreto è quello di salvaguardare la sanità animale, il sistema produttivo nazionale e le esportazioni. Si tratta di una vera e propria emergenza che rischia di colpire duramente settori importanti della nostra economia. Pur non essendo pericolosa per la salute umana, infatti, la peste suina è contagiosa e letale per gli animali, in particolare per i suini, un comparto di eccellenza nel panorama zootecnico italiano. Il settore suinicolo infatti rappresenta uno dei segmenti principali dell'agroalimentare italiano, sia per la produzione di animali vivi, sia per l'indotto dell'industria di trasformazione. Dai dati Smea, in Italia esistono 32.000 allevamenti e oltre 3.000 imprese di produzione di elaborati. Gli allevamenti generano un valore di oltre 3 miliardi di euro, pari al 5,7% del valore complessivo dell'agricoltura nazionale. Il fatturato dell'industria, invece, è di oltre 8 miliardi di euro. Una caratteristica della filiera suinicola nazionale è la forte specializzazione nel comparto della salumeria, cui viene destinato il 70% delle macellazioni e l'elevata incidenza delle produzioni e indicazioni geografiche, cui viene destinato il 70% dei capi italiani. Anche in questo comparto, dunque, è evidente l'assoluta eccellenza del nostro agroalimentare italiano. E sebbene la produzione si concentri prevalentemente in alcune aree del nord, ne sono anche interessati fortemente le regioni come l'Umbria, le Marche e la Basilicata. Il sistema normativo è confuso, ma di fronte a questa emergenza è imperativo adottare misure straordinarie, che diano risposte certe agli allevatori e che dettino delle linee guida anche per turisti, cacciatori e operatori di vario tipo. Non si possono dunque assumere posizioni oltransiste che rischiano di mettere in ginocchio migliaia di aziende e di famiglie. L'esperienza, anche quella del Covid, ci ha insegnato purtroppo che la sempre maggior promiscuità tra ambienti selvatici e ambienti antropizzati può provocare seri danni all'equilibrio tra sistema naturale e sistema umano. Ed è a partire da questa lezione che dobbiamo muoverci per assicurare il benessere umano e naturale e la tenuta dei nostri tessuti produttivi. E' questo l'approccio più sensato per affrontare questa crisi. Una crisi che tocca non solo l'Italia, ma diversi paesi europei. La peste suina africana infatti si è manifestata inizialmente nell'est Europa già a partire dal 2014 e si è diffusa poi in altri Stati UE, tra cui Belgio e Germania, fino ad approdare nel nostro territorio. Per il momento i casi si concentrano per lo più in Liguria e Piemonte, ma di sicuro non aiuta l'elevata presenza di cinghiali nei territori agricoli e urbani di molte zone d'Italia, anche nella nostra capitale. Per questo noi di Forza Italia riteniamo che l'approccio del decreto, che stanzia 10 milioni di euro, possa fornire uno strumento prezioso per arginare e debellare questa piaga, che si è abbattuta sul nostro settore primario, già messo a dura prova da tanti altri problemi. In particolare, la strategia delle recinzioni, con oltre 250 chilometri, serve proprio ad evitare quei contatti con gli animali selvatici, e si è già dimostrata una soluzione efficace in altri Paesi europei, come è stato testimoniato anche in audizione presso la Commissione Sanità da autorevoli esperti che hanno riportato i passi avanti compiuti nel Belgio e nella Repubblica cieca. Tra gli altri interventi di biosicurezza, oltre all'abbattimento e alla distruzione degli animali infetti, sono previste anche strutture per gestire gli animali morti, le zone filtro e la disinfezione regolare e capillare. Adesso sarà compito delle Regioni stilare un piano regionale per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste, ma al fine di coordinare al meglio le necessarie azioni di contrasto è stata giustamente prevista la nomina di un Commissario straordinario, che avrà il compito di monitorare tutte le misure applicate per prevenire e contenere la diffusione del contagio. Il Commissario si avverrà anche degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, degli uffici preposti alla prevenzione, alla eredicazione e al controllo delle malattie animali. Nell'ottica di una corta gestione della spesa pubblica in un momento delicato come quello che viviamo oggi, è stata prevista la clausola dell'invarianza finanziaria, proprio per non gravare ulteriormente sulle casse dello Stato. Forza Italia, però, si è impegnata attivamente per mettere a punto interventi concreti contro questa emergenza e voterà dunque a favore di questo decreto. Grazie. Grazie, senatore De Bonis. Ha chiesto di parlare la senatrice Cantuna e ha facoltà per otto minuto. Grazie, Presidente. Mi spiace dover ricordare ancora una volta che la prevenzione e i controlli debbono essere una precondizione per evitare il ripetersi ciclicamente di problematiche che danno contezza dell'interdipendenza fra sanità sia essa umana che animale ed economia. Non solo, ma il tutto deve essere affrontato in una dimensione sovranazionale, così come il nostro PDL 1660 di due anni fa aveva immaginato. Speravamo che nel PNRR, così come per altre circostanze, fungesse da ispiratore e che almeno in sede di collegato ordinamentale, in attuazione della mozione del giugno dello scorso anno, approvata all'unanimità, come senz'altro il Governo ricorderà, ve ne fosse traccia. Invece non è riscontrabile alcun seguito. Un'altra occasione perduta per il rafforzamento della prevenzione veterinaria e per il rilancio della sanità veterinaria pubblica e privata. Sanità pubblica e privata che deve accompagnarsi alla previsione del veterinario aziendale come promotore di cultura del Governo dei rischi e della riduzione dell'uso di farmaci non necessari, ad esempio degli antibiotici, che ha registrato, grazie alla categoria, un'importante diminuzione delle inappropriatezze, stimabile in oltre il 30%, anche se il cammino per arrivare a debellare l'antimicrobico resistenza è ancora lungo. Dobbiamo immaginare che una sana zootecnia, improntata anche ai principi di benessere animale, si ripercuote sulla qualità dei prodotti destinati al consumo umano, il che va inevitabilmente e ad influire sulla nostra salute individuale e collettiva. Ciudendo il cerchio con la crescita del prodotto interno lordo, dobbiamo superare la logica di intervenire solo a frittata fatta, investendo adeguatamente in risorse umane e strumentali atte a garantire condizioni strutturali per fronteggiare l'insorgenza di malattie animali e soprattutto per prevenirle. Non è la prima volta che siamo in presenza della peste suina. Tutte le volte il conto è salatissimo. Facciamo in modo che il provvedimento in conversione sia accompagnato dalla decisione di dare finalmente corso all'intervento legislativo risolutivo che abbiamo promosso e che come Commissione dodicesima, proprio a margine dell'istruttoria, della fase emendativa del decreto in discussione, ha visto la convergenza all'elaborazione di un testo unico indirizzato alla riforma della sanità pubblica veterinaria, abbandonando gli ideologismi che sicuramente hanno contribuito fin qui a ritardare l'adozione di un modello organizzativo di prevenzione, valutazione e controllo capace di assurgere a possibile riferimento a livello europeo, modello specificamente dedicato al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonosica, atto a valorizzare tutti i produttori, non solo italiani, che si dotano di standard più elevati di prevenzione, biosicurezza, qualità e tracciabilità. Si da legittimarne il riconoscimento quali regole comuni di garanzia nell'attuazione della nuova legislazione europea di sanità animale per il benessere del consumatore, cambiando il paradigma della tutela dell'agroalimentare italiano con un sistema di valutazione e controllo in grado di dimostrare sul campo la superiorità dei nostri prodotti, non solo sul piano organolettico che ci viene riconosciuta, ma anche in termini di effettiva protezione e promozione della salute umana e di contrasto delle malattie trasmissibili e non, non, stante il nostro modo di affrontare e risolvere i problemi correlati secondo indicatori oggettivi e misurabili, sfuggendo ogni autoreferenzialità, nel dare prova di congruenza a ottimali parametri di prevenzione, biosicurezza e salubrità. Grazie. Grazie, senatrice Cantù. È iscrita a parlare la senatrice naturale, ne ha facoltà. Grazie, presidente. Presidente, onorevoli colleghi, l'energenza peste suina imperversa nei boschi e nell'entroterra della Liguria e del Piemonte, come già successo in Germania e nell'est dell'Europa. Ad oggi sono 74 le positività accertate, di cui 42 in Piemonte e 3 da 2 in Liguria. Immediatamente dopo il ritrovamento del primo cinghiale morto a causa della peste suina, il 7 gennaio scorso, si è costituita al Ministero della Salute un'unità di crisi per gestire una situazione che è per niente facile. Il rischio è di non riuscire ad arginare un virus che, se sfuggisse di mano, potrebbe mettere in crisi l'intero settore della lavorazione di carne di maiale e derivati. La paura dei veterinari e soprattutto degli operatori del settore sui nicolo è che il virus arrivi negli allevamenti e a quel punto anche solo con un capo infetto rilevato sarebbe veramente un disastro, perché la conseguenza diretta è il divieto di esportazioni di carni, ma anche salumi dall'intera Italia. Paesi come Giappone e Cuba già hanno vietato le importazioni di prodotti italiani. Quindi forte la preoccupazione per il danno d'immagine che questa situazione può creare, diventando anche uno strumento di speculazione e sappiamo quanto imprevedibile è questo aspetto, speculazione economica nei confronti del nostro territorio, rischiando di colpire ingiustamente i nostri allevatori che conducono al meglio i loro allevamenti con standard di biosicurezza elevati, anche se tanto andrebbe fatto ancora per quella che è l'attenzione al benessere animale, inteso quindi come distanziamenti e come cura di questi allevamenti nella tutela del benessere animale. La malattia è altamente infettiva, per fortuna solo tra i suidi, e la trasmissione può avvenire per contatto diretto anche mangiando rifiuti a base di carne infetta, trasferendo il virus per decine di chilometri attraverso feci e urine. C'è poi la possibilità che lo stesso uomo ne divenga vettore inconsapevole attraverso qualsiasi oggetto contaminato dal virus che potrebbe portare con sé, quindi con l'abbigliamento, sui veicoli, sugli attrezzi che usa. Da qui il divieto, nelle aree infette, di generare movimenti di animali, quindi è vietata la caccia e tutte le attività che comportano movimentazioni anche di mezzi. Quindi chiaramente sarà proibito ogni metodo di caccia tradizionale che comporta l'utilizzo di cani o quindi altri attrezzi che possono essere difficilmente sanificati, quindi difficilmente si potrebbe riuscire a contenere la trasmissione del virus. In quanto lo stesso è dotato di una buona resistenza nell'ambiente esterno e può rimanere vitale fino a 100 giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi e resistendo alle alte temperature. Da qui l'urgenza del provvedimento che voteremo oggi su proposta dei ministri Patuanelli e Speranza, resosi necessario per definire e quantificare i provvedimenti utili ad eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenire il contagio tra i suini di allevamento, quindi proteggere le esportazioni, come ho detto, il sistema produttivo nazionale e la filiera tutta. Una corsa contro il tempo. È necessario agire tempestivamente per arginare la malattia e scongiurare lo sconfinamento in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana, dove ci sono quasi tutti gli allevamenti sui nicoli d'Italia, da una stima approssimativa fatta dal Ministero della Salute e dall'ISMIA, risulta che nel caso di indennità di abbattimento dei capi sarebbero necessarie risorse pari a circa 1 miliardo e 442 milioni di euro se il virus arrivasse in queste regioni. Il professor Manuel Vizcaino, esperto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e direttore del Laboratorio di Riferimento per la peste suina africana in Sardegna, regione che ha già affrontato il problema, in audizione e in commissione, ha dichiarato che la situazione è davvero molto difficile e l'unica possibilità di cui si dispone è il controllo del virus mediante tre azioni da condurre con cura. La prevenzione precoce, il contenimento dell'aria infetta è la riduzione della popolazione dei cinghiali. Questo in sindesi è quando nei fatti sarà indispensabile portare a compimento. Quindi da qui l'utilizzo delle recinzioni per confinare i cinghiali, l'utilizzo anche di metodi precisi e puntuali per contenere il numero dei cinghiali, quindi che è sulla caccia tradizionale che purtroppo non è riuscita in tutti questi anni a contenere e tanti studiosi infatti confermano che purtroppo è dannosa, cioè piuttosto, non purtroppo, ma piuttosto dannosa per la fauna e quindi spesso agevola quella che è la prolificazione dei suini. Tante emissioni di suini sono state fatte, quindi le regioni sono risultate inadempienti a quella che deve essere una gestione della fauna selvatica che adesso è sfuggita di mano. Sicuramente tutti, tra agricoltori, cittadini, sono allarmati da questo numero che cresce a dismisura e sicuramente dovrà essere messo in atto un contenimento del numero, ma attraverso metodi scientifici e quindi tutto il discorso esula da quello che è la caccia, perché qui si parla di personale qualificato per la selezione e quindi devono essere pianificate anche le quantità, il come intervenire e quindi tutto verrà modulato su dei piani già definiti. Quindi è necessaria questa prevenzione precoce e stiamo qui ad agire in urgenza. Nel decreto si prevede che ogni regione adotti un piano di interventi che includa anche la ricognizione per provincia della consistenza delle specie, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali che sono importantissimi e necessario quindi crearsi una roadmap, come si dice, quindi davvero essere puntuali in quella che è anche la tempistica. Con il decreto si affida per un anno, prorogabile per un altro anno, ad un commissario che dovrà coordinare tutte le azioni del piano necessarie al contenimento e all'eradicazione del virus, non dei cinghiali, quindi del virus dove è presente, quindi nelle regioni di riferimento. Tale piano deve essere adottato in conformità a quello già sperimentato in Sardegna, su quale la Comunità Europea ha dato il nulla osta, in conformità al manuale dell'emergenza da PSA dell'aprile del 2021. È previo parere dell'ISPRA. Tutto quanto verrà messo in atto dovrà essere condotto con molta cura, avvalendosi delle guardie provinciali e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e sotto la vigilanza del comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri, nonché delle ASL competenti. Le aziende zootecniche dovranno munirsi di arie per la sanificazione di mezzi e persone, oltre che di recinzioni per proteggere gli allevamenti da ogni possibile contatto con l'esterno. Tutto questo viene fatto nel rispetto della salute animale e dell'equilibrio che è necessario per una sana biodiversità a cui dobbiamo tendere. La nostra attenzione deve essere proprio alla tutela degli ecosistemi e quindi ai giusti equilibri. E questo intervento vuole andare in questo senso anche in previsione di futuri approcci a quello che viene richiesto dal mondo produttivo riguardo la proliferazione della fauna selvatica. Grazie. Grazie. Senatrice naturale. Colleghi, tenuto conto della richiesta di sospensione dalle ore 12 alle 13 per una riunione di gruppo e avendo solo 10 minuti io rinvierei le repliche dei relatori se sono d'accordo alla ripresa dei lavori pertanto sospendo la seduta fino alle ore 13. La seduta è sospesa. Grazie. 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 La seduta è ripresa. Ha chiesto di intervenire la senatrice Castellone. prego. Sì, grazie presidente. Io ho avvisato i capi gruppo e anche la presidente Casellati che la nostra riunione di gruppo purtroppo è partita in ritardo e quindi è ancora in corso e ho bisogno di un altro po' di tempo. Chiederei una sospensione se è possibile fino alle 14. se nessuno in aula prego prego senatore La Pietra Grazie presidente io intervengo perché oggettivamente arrivare a questo punto dopo il lavoro che è stato fatto nelle commissioni nella commissione riunite dove abbiamo tutti discusso quelle che sono le emendamenti abbiamo fatto la discussione generale che come dicevo anche nel mio intervento ci devono essere dei problemi legati al gruppo del Movimento 5 Stelle solo per posizioni pregiudiziali e non nel merito perché questa è la verità e dobbiamo interrompere ancora un'ora l'aula io credo che sia inaccettabile quindi siccome non ci sono condizioni pregiudiziali per poter partire subito con l'esame degli emendamenti io chiedo di non procedere alla sospensione ma di procedere invece con il voto degli emendamenti grazie se c'è la contrarietà solo dei colleghi di Fratelli d'Italia io darei per accettata la richiesta da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle prego se nessuno vuole intervenire buonasera sì grazie presidente noi vorremmo invece continuare con i lavori e passare alla votazione degli emendamenti grazie prego senatrice presidente io vorrei far notare che sto chiedendo di continuare una riunione di gruppo che è fondamentale per poter poi proseguire con i lavori in commissione che non sono chiusi c'è ancora molto lavoro da fare in commissione congiunta sugli emendamenti e quindi credo che non sia mai stato negato a nessuno la possibilità di fare una riunione di gruppo tra l'altro ho detto che ho già avvisato i capigruppo e c'è anche l'ok della presidente Casellati perciò davvero vi chiedo di farci continuare questa riunione e poi riprendere i lavori io avviso l'aula che la richiesta della della sentrice Castellone per il gruppo Movimento 5 Stelle è stata anche avanzata alla presidente del senato che ha dato la disponibilità a farci riunire ho la contrapposizione del di fratelli d'Italia e del gruppo del senatore Paragone io se non ho altri interventi in dissenso accoglierei la richiesta della senatrice Casellone così come accordatoci anche dalla presidente prego senatore Casini colleghi io inviterei un secondo l'aula ad esprimere un momento di cordoglio perché questa notte è mancata Maria Romana De Gasperi figlia di Alcide De Gasperi una donna straordinaria che ha onorato con la sua vita la Repubblica e le istituzioni la Camera l'ho già fatto questa mattina io credo che sia importante che tutti noi ci raccogliamo un attimo perché questa personalità che tra l'altro ha lasciato le testimonianze scritte essendo stata anche stretta collaboratrice del Padre di tutte le vicende che hanno portato alla ricostruzione di questo nostro Paese ha onorato l'Italia e la memoria del grandissimo Padre che tutti riconosciamo costruttore della nostra Repubblica per cui volevo chiederle Presidente di onorare la memoria di questa donna con un minuto di silenzio del Senato della Repubblica sicuramente la Presidenza si unisce alle sue parole Presidente Casini e so che anche la Presidente aveva il piacere di richiamare l'Aula a un momento di silenzio a un ricordo così importante come lei ha anticipato quindi l'Aula in questo momento si unirà in un minuto di silenzio che poi sicuramente sarà dibattito alla presenza della Presidente di silenzio quindi colleghi sospetti prego senatore zanda presidente vorrei vorrei aggiungere alle sue parole le parole del presidente casini anche un brevissimo ricordo presidente presidente zanda non vorrei assolutamente interromperla ma sicuramente l'aula avrà un momento per i ricordi e credo che anche l'attenzione di tutta l'auta meriti per essere per ascoltare le sue parole quindi se vuole io le concederò la parola immediatamente dopo quando ci sarà un momento di ricordo per per casperi va bene grazie sospendiamo l'aula che riprenderà alle ore 14 grazie abbiamo avuto abbiamo avuto c'è stato accordato dalla presidente ho raccolto i vostri pareri gli altri capigruppo di maggioranza hanno dato l'ok quindi io sospendo l'aula che riaprirà alle ore 14 io ho avuto un'interlocuzione con la presidente e con tutti i presidenti di maggioranza la quale abbiamo chiesto di accordare a un gruppo politico una riunione di un'ora che non è mai stata negata quindi credo che l'aula si stia già svuotando chiedo la cortesia ai colleghi di fratelli d'italia di consentirmi di portare avanti i lavori così come anche concordato con la presidente la riunione è sospesa riprenderà alle ore 14 non la seduta è ripresa alla parola per la replica il relatore senatore bergesio prego senatore presidente scusi c'è stata questa inversione e io guardi intervento davvero brevemente per ringraziare ancora una volta anche del dibattito che in quest'aula si è svolto stamani in tanti interventi non posso dire proprio in tutti tutti ma in tantissimi interventi abbiamo colto come relatori l'interesse e soprattutto la comprensione dello stato emergenziale che ci porta a dover approvare velocemente forse qualcuno l'ha detto siamo un po in ritardo il senatore la pietra dalla loro posizione anche e non solo fratelli d'italia l'ha detto che forse siamo già un po in ritardo tuttavia possiamo dire che nel momento in cui abbiamo avuto questo questo decreto qua al senato fatte tutte le audizioni che andavano fatte perché come dicevo stamani sono stati tanti 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 i professionisti eh gli enti eh appunto che abbiamo sentito perché era necessario e gli emendamenti anche lo testimoniano e il decreto così come è composto in in commissione lo testimonia del fatto che c'era bisogno di ascoltare per trovare la soluzione migliore certo non perfetta perfettibile migliorabile ma intanto abbiamo un decreto quasi convertito lo avremo stasera speriamo nel migliore dei modi che ci permette di far lavorare chi adesso si deve occupare di gestire questa difficilissima emergenza dicevo che tanti sono stati sul merito eh qualcun altro un po meno io invito tutti non voglio fare eh riferimenti a colleghi o a colleghe nello specifico ma invito tutti davvero a rimanere sul merito del decreto e quindi della malattia infettiva e di tutto quello che deve essere fatto in questo momento è necessita per in qualche modo costringerla dentro confini ben precisi e poi eradicarla là dove c'è non ci possiamo permettere lo ribadisco di perdere tanti 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 eh milioni sulla filiera sui Nicola Dio non voglia si dovesse diffondere questa malattia quindi ancora un ringraziamento ai colleghi per il lavoro in commissione al governo anche alla commissione bilancio che ha dato ancora il suo apporto nelle ultime ore grazie al sottosegretario Sileri alla sottosegretaria Bini che ci hanno sempre accompagnati in questi giorni di discussione e speriamo davvero di arrivare a un risultato che possa essere visto perfettibile ma sicuramente buono grazie grazie senatrice Biti ha ora la parola per la repica il senatore Bergesio grazie grazie naturalmente presidente grazie a tutti coloro che ci sono espressi in discussione generale fino ad ora ricordo a tutti che questo provvedimento questo provvedimento il 17 febbraio 2022 ha coinvolto quattro ministeri nelle sue valutazioni in commissione dal MIT al MIPAP al MEP e alla salute due commissioni di merito la commissione agricoltura del senato la commissione salute io credo che sia stato fatto in breve tempo lo dico anche all'amico senatore Lapietra in 43 giorni abbiamo portato questo provvedimento in aula dopo aver udito ne abbiamo udito una ventina ma la richiesta era di 45 tra organizzazioni e associazioni che hanno richiesto di essere uditi su questo provvedimento abbiamo ripreso i contributi di tutti con molta attenzione è un tema delicato in tema io credo che questo decreto farà scuola nei provvedimenti futuri soprattutto per quanto riguarda sia la peste suina africana ma può riguardare anche l'influenza aviaria e ringrazio anche il senatore Vallardi che prima ha citato la risoluzione che noi abbiamo pronta per portare in aula è un tema importante il contenimento della fauna selvatica nel nostro paese tema che è stato sollevato anche dal senatore Lapietra la senatrice lunesu ci ha parlato dell'esperienza vissuta in sardegna da farne tesoro ne prendiamo atto ne abbiamo preso fatto anche in precedenza lei anche in commissione come senatore Zuliani che ha invitato a non fare più passerelle su palchi di grandi organizzazioni come col diretti come compagricoltura come cia le associazioni sindacali e organizzazioni sindacali ma di procedere con dei provvedimenti che siano in grado di risolvere il problema la senatrice pregola ci ha ricordato anche i danni alla filiera di agire subito l'abbiamo detto in precedenza sono oltre 20 milioni di euro a settimana che la filiera sta subendo un crollo pazzesco tra vendite prezzi di produzione dall'altra parte i costi che non sono solo i costi della peste suina africana ma sono i costi delle materie prime sono i costi energetici sono i costi anche soprattutto del lavoro combinato con tutti gli altri fattori economici che oggi gravano sull'allevamento sulle produzioni agricole sulle 25 mila aziende che nel nostro paese producono suini il senatore De Carlo ha parlato anche di una visione troppo urbanistica urbanizzata di un'Italia rurale è vero gli do ragione questo è un tema importante però dall'altra parte anche la questione vaccini va vista sia su questo tema se possibile ma anche sul tema relativo all'influenza aviaria che è un'altra piaga del nostro paese noi abbiamo poi abbiamo ascoltato anche la senatrice boldrini che ha parlato di questa condivisione vero il tema si voleva dare ancora più potere al commissario per riuscire diciamo non a mettere in secondo piano le regioni però a lavorare coordinate alla fine io credo che ne è uscito un buon testo perché potrà lavorare il commissario in stretto coordinamento con le disponibilità economiche che ci siamo date e anche il il senatore De Boni si ha ricordato le posizioni che non devono essere oltransiste è vero perché se noi partivamo da un concetto e lo dico anche a senatore Crucioli che questo provvedimento era un omnibus che doveva risolvere tutti i problemi legati all'allevamento all'agricoltura alla fauna selvatica le mancate incasso del turismo dei problemi legati agli enti locali ai costi di gestione non potevamo farlo ci saranno altri provvedimenti che saranno in grado di risolvere questo la senatrice Cantucci ha parlato anche io questo credo che sia un tema che dobbiamo mettere all'ordine del giorno di quest'aula la riforma della sanità pubblica veterinaria voi sapete che addirittura i veterinari negli altri paesi d'Europa non dipendono dalla salute ma dall'agricoltura io credo che una riflessione dovrà essere fatta su questo tema soprattutto partendo dal concetto di rapporto professionalità e soprattutto la tipologia di rapporto della professionalità tra il veterinario l'allevatore e comunque tutta quella che è la sanità pubblica che è un tema sostanzialmente molto caro a questo paese abbiamo ascoltato anche la senatrice naturale che ringrazio come capogruppo in commissione agricoltura che ha parlato anche di un percorso condiviso che è stato un percorso importante io credo che abbiamo fatto il possibile auspico che attraverso abbiamo preso atto e lo ricordo e ringrazio la commissione bilancio il presidente pesco e i commissari per il lavoro svolto perché sono riusciti sia su un emendamento importante che vedremo dopo il 2.4 ma anche sull'1.60 all'1.61 a riprenderlo nell'ultima commissione bilancio facendosi dichiarire quel punto che stava a cuore particolarmente al senatore bruzzone ma anche altri senatori l'individuazione di quelle che sono non solo le guardie provinciali ma anche alcune regioni come la liguria che ormai le provinciali non esistono più e sono guardie regionali alla fine col termine come ci ha spiegato bene il sottosegretario col termine locali polizia locale abbiamo ripreso tutto perciò grazie ancora grazie presidente grazie 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 a rappresentante del governo si intende intervenire no passiamo quindi alle illustrazioni la presidenza conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge gli emendamenti 1.68 1.71 1.72 1.95 1.104 1.105 1.107 1.0.3 e passiamo all'illustrazione degli emendamenti vedo gli emendamenti del senatore taricco ritirato ritirato giuliani tutti i ritirati bruzzone ritirati zaffini se vuole illustrare no la pietra vuole illustrare gli emendamenti no de carlo no ma gorno risultano ritirati parente ritirati russo ritirati senatore mantero mi sembra di no senatrice nunez se vuole illustrare gli emendamenti no senatrice de petris prego sì grazie presidente no illustro su questo articolo 1 un emendamento a cui tengo particolarmente che poi abbiamo anche discusso in commissione ma diciamo non ha avuto poi il parere favorevole ma credo che è una questione che dovremo in qualche modo via via affrontare ed è l'1.26 che chiede semplicemente a mio avviso di ed è al comma 1 dell'articolo dell'articolo 1 là dove espressamente il decreto prevede che al fine di prevenire e contenere l'entrata la diffusione della psa sul territorio nazionale ogni regione fa i piani quindi diciamo sono una serie di indicazioni ai piani di prevenzione quindi non stiamo parlando soltanto di dove ci sono i focolai e in questo emendamento noi proponiamo semplicemente che si intervenga nei piani anche per dare l'indicazione di escludere per esempio alcuni metodi di caccia che a nostro avviso rischiano di aumentare la mobilità dei cinghiali e quindi la possibilità di diffusione della peste e quindi noi chiediamo per esempio di fare in modo che siano vietate forme di caccia come la braccata, la battuta e la girata che sono alcune tipologie di caccia al cinghiale che ovviamente per chi è esperto sa aumentano la mobilità della popolazione dei cinghiali e quindi aumentano la diffusione della peste. Io ovviamente anche se c'è il parere in commissione non è stato contrario spero però che nell'affrontare anche i piani le regioni possano in qualche modo rendersi conto che è necessario mettere in campo anche queste forme di prevenzione. Grazie. Grazie senatrice De Petris. Senatrice Leonardo 1.96 se intende no? Io andrei avanti con le illustrazioni per poi votare tutto quanto. Passiamo all'articolo 2 per le illustrazioni. Senatore Zaffini. No? Senatore Lapietra. No? Senatore Ciampolillo. No? Senatore Berutti. No? Articolo 3 sempre Berutti neanche quelli successivi. Senatore Zaffini e senatore Lapietra neanche gli emendamenti successivi. No? E allora passiamo alla votazione. Allora pareri sull'articolo 1 da parte dei relatori. Allora 1.5 favorevole 1.3 non ho capito se è ritirato presidente 1.3 no non è ritirato 1.6 contrario 1.7 contrario 1.7 è stato ritirato 1.7 contrario 1.9 io ce l'ho ancora non ho capito se è stato ritirato è contrario così come l'1.10 no non sono stati ritirati dovrebbe essere uguale anche all'1.11 infatti contrario 1.14 testo 3 che è identico a 1.12 testo 2 favorevole 1.13 contrario 1.15 contrario 1.17 contrario 1.18 contrario 1.19 contrario uguale all'1.20 uno 21 contrario 1.22 contrario 1.23 contrario 1.24 contrario 1.26 contrario 1.30 contrario 1.31 contrario 1.34 contrario 1.33 testo 2 favorevole 1.35 favorevole 1.36 precumente preclusi, contrario, 1.37, contrario, 1.38, contrario, 1.39, contrario, 1.40, contrario, 1.42, contrario, 1.41, testo 2, favorevole, 1.43, contrario, 1.44, contrario, 1.46, contrario, 1.48, contrario, 1.49, contrario, 1.50, contrario, 1.53, contrario, 1.54, contrario, 1.58, contrario, 1.59, contrario, 1.60. Dovrebbe essere arrivata una riformulazione? Ho un parere della quinta condizionato. Sì, è arrivata la riformulazione. Quindi sono favorevoli 1.60 e 1.61, 1.63, contrario, 1.64, contrario, 1.27, testo 3, identico all'1.74, testo 3, favorevole. Poi arriviamo all'1.78, testo 2, identico all'1.80, testo 2, favorevole, 1.79, contrario, 1.81, contrario, 1.84, contrario, 1.86, contrario, 1.2000, favorevole, 1.89, io ho un ordine del giorno, quindi ritirato. Sì, mi risulta ritirato e trasformato in ordine del giorno. Esatto, perfetto, grazie, Presidente. 1.3000, favorevole, 1.90, lo avevo segnato tra i ritirati, contrario, scusi, 1.94, contrario, 1.93, favorevole, sì, l'avevo detto prima, 1.94, contrario, 1.96, contrario, 1.98, contrario, 1.100, contrario, l'101, chiedo conferma del ritiro e presentazione in ordine del giorno, come l'1.102, l'1.103. 1.97, contrario, 1.97, contrario, 1.000, poi si passa agli ordini del giorno, l'articolo 1 con gli emendamenti è finito. Sì, grazie. Diamo anche i pareri all'ordine del giorno, così. Prego, Senatore La Pietra, siamo sui pareri. Sì, scusi, solo per precisione, perché forse ho capito male io, ma nei pareri del relatore, all'emendamento 1.42, 1.43, ha dato parere contrario, mentre in Commissione era stato dato parere favorevole. O mi sono sbagliato io, oppure bisognerebbe capire quello che è la posizione, perché io sul fascicolo della Commissione avevo scritto parere favorevole. Io ho 1.41, Commissione riunite, con parere favorevole, 1.43, con parere contrario. Esatto, Presidente, anche il 1.42 è parere contrario da quello che dice la regola precedente. E 1.42, parere contrario, anche... Ma in Commissione ha stato parere favorevole. Allora, relatrice, forse l'1.41 assorbe il 42 e il 43? Perché vedo uno come le commissioni riunite, quindi... Esattamente, l'1.41, testo 2, sì, Presidente. Anche da un confronto con il relatore Bergezio e con la Presidente Parente abbiamo ricostruito questo. Senatore Lapietra. Grazie, d'accordo. Prego, senatore Bruzzone. Ma quindi li ritiriamo, eventualmente, l'1.42 e l'1.43, se assorbiti dall'1.41? Come, Presidente? Quindi vuole ritirarli, se sono quelli assorbiti dall'1.41? A me non mi risulta siano stati assorbiti... Scusi, Presidente. Io sapevo che noi abbiamo ripresentato, peraltro, questi riformulati come richiesto dalla Commissione e quindi avevo un parere favorevole. Senatore Bruzzone, prego. Grazie, Presidente. Mi pare di aver capito che l'1.61 rimane in vita, è vero? È da trasformare in ordine del giorno. Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno 1.61. L'emendamento 1.61? Sì, 1.61. Non è tra i ritirati e chiedo di trasformarlo in ordine del giorno, che peraltro è stato anche depositato. Sì. È vero? È così. Grazie. È trasformato nell'ordine del giorno. Senatrice Nuognaz. Sì, l'1.34 era uguale al testo 1.35 testo 2, quindi in Commissione era stato ritirato, ma comunque è accorpato e incluso. Quindi lo ritira? Eh sì, a questo punto lo ritira. E allora lo ritiriamo. Senatrice Caliggiori. Sì, era per ritirare l'1.86. 1.86, quindi ritirato. Senatrice Pirro. Grazie, Presidente. Io chiedo di riformulare l'1.37 come l'1.33 testo 2, altrimenti sarebbe precluso, ma che era molto simile, e poi segnalo di aver preparato un testo 2 all'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento. Allora, senatrice, un attimo, l'1.37 assorbito dall'1.33 testo 2. Sì, riformulato nello stesso modo. Ma lo vuole identico per votarlo insieme? Sì, grazie. Grazie. Mentre invece sull'emendamento 1.103 che abbiamo già comunicato di trasformare in ordine del giorno, avremmo preparato un testo 2 che include un secondo impegno per il Governo a valutare l'opportunità di prevedere le storie anche per la filiera agroturistica in aggiunta all'altro. Senatrice, appena arriviamo all'ordine del giorno, facciamo presente. Io comincerei con votare gli emendamenti all'articolo 1. Pongo in votazione l'emendamento 1.5 con parere favorevole. Il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Pongo in votazione l'emendamento 1.3 Zaffini con parere contrario. Il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Senatrice Leonardo, provi a spostarsi. Ha votato? Perfetto. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo in votazione l'emendamento 1.7 con parere contrario. Relatore del Governo, articolo 81, dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo in votazione l'emendamento 1.9 e 1.10 identici, così come l'1.11 con parere contrario. Il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo in votazione l'emendamento 1.14. Se approvato sono assorbito gli 1.13, 1.15 e preclusi 1.17, 1.18 e 1.19. Parere favorevole. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Quindi 1.13, 1.15, subiti, preclusi 1.17 e 1.19. Pongo in votazione l'emendamento 1.20. De Petris, identico all'1.21 con parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.22 Zaffini, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.23 Nunez, identico 1.24, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.26 De Petris, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.30 Zaffini, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.31, parere contrario. Relatore del Governo, articolo 81, dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.33, testo 2. Si è approvato e osservito l'1.37. Parere favorevole. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.35, con parere favorevole. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.36, mantero, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.38, De Petris, identico all'1.39. 1.40, con parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.42, Zaffini, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.41, testo 2, parere favorevole. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.46, La Pietra, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.48, identico all'1.49, 1.50, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.53, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.54, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.58, parere contrario. Relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. il Senato non approva. 1.59, parere contrario, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1.60, avete avuto l'emendamento riformulato, il parere è favorevole, pongo in votazione l'emendamento 1.60, con parere favorevole, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. 1.61, ritirato il trasporto del giorno, 1.63. L'ordine del giorno, Senatore Bruzzone, quindi, è stato accolto. 1.63, con parere contrario, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1.64, parere contrario, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1.27, testo 3, con parere favorevole, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. 1.78, testo 2, se approvato sono preclusi. 1.79, 1.81, con parere favorevole, il relatore del Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Sono preclusi 1.79, 1.81, 1.8. Senatrice Pirro. Mi scusi, ma con l'1.27, testo 3, andava approvato anche l'1.74 identico. Mi sembra che non l'abbia detto. Senatrice, mi ripete il numero dell'emendamento. 1.74, testo 2, che forse è diventato testo 3, con la riformulazione in Commissione, ma viaggiava insieme all'1.27, testo 3, identico all'1.74. Eh, quello lì. Assolutamente, sì, è stato approvato con parere favorevole. Non ho sentito che dicesse identico all'1.74, per questo mi sono preoccupata. No, non l'ho infatti detto, perché il testo 3 è identico all'1.74, testo 3, e sono andata velocemente alla sua votazione. Comunque sì, risulta votato e approvato. Siamo arrivati all'1.84 con parere contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. il Senato non approva. 1.2 mila con parere favorevole. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 1.90 Zaffini, parere contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.3 mila con parere favorevole. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 1.94 De Carlo con parere contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.96 Leonardo con parere contrario. Relatore Governo. Articolo 81 dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.98 De Petris con parere contrario. Relatore Governo e Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.100 Zaffini, parere contrario. Relatore Governo e Articolo 81 dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.97 con parere contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo quindi agli ordini del giorno sui quali chiedo i pareri. Prego, senatrice De Petris. Come lei sa noi avevamo ritirato l'1.102 e presentavo un ordine del giorno. Però sono a dover presentare un testo 2 perché c'è un errore nel testo che avevamo depositato. Quindi se lei mi autorizza. l'autorizzo. Lo facciamo controllare i relatori che mi danno il parere su questo testo 2. I relatori hanno ricevuto l'ordine del giorno così come è ripresentato con il testo 2 della senatrice De Petris. Provvediamo a farvelo arrivare per poter avere un parere. Prego, senatrice Pirro. Anche noi, Presidente, sull'1.103 propositiamo un testo 2 dell'ordine del giorno che hanno già avuto i relatori. Un testo 3 mi ha detto, senatrice Pirro. Un testo 2. Allora, appena i relatori possono, mi danno i pareri sugli ordini del giorno. Prego. Dopo i pareri sugli ordini del giorno, Presidente, al netto del testo 2 appena arrivato, su cui devo avere un minuto di tempo. Posso acquisire prima i pareri dei relatori e immediatamente dopo i pareri del governo? Allora, Presidente, i pareri sono contrario al G1.1 De Petris. G1.1 è improponibile. Ecco, allora me l'ero perso, mi scuso. 1.89. 1.89 è favorevole. 1.1 è improponibile. 1.1 G1.101 favorevole. G1.102 però vediamo. Abbiamo il testo 2 così come il G1.103 che avevamo visto e per noi è favorevole. Favorevoli entrambi, sia il 1.102 che l'1.103 testo 2? No, abbiamo visto solo l'1.103, il testo 2 è ancora dell'1.103 ed era favorevole, quindi rimaniamo in sospeso col 1.102. Grazie, Presidente. Io farei intervenire il Governo così può darci anche una lettura che può risolvere il parere dei relatori. Allora, sì, abbiamo detto che il G1.1 è improponibile. Esatto. Il G1.89 è favorevole però con una riformulazione nell'impegno quando si dice a reperire nel primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, invece che le risorse, si scrive ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziate dal Governo con l'articolo 26 del DL numero 4 2022, eventualmente e poi si riprende con necessarie ad indennizzare eccetera eccetera. Quindi con questa formulazione il parere del Governo è favorevole. Sul G1.101 il parere è favorevole a valutare la possibilità di Senatrice Nunez. Senatrice Nunez accetta la riformulazione? Quindi accetta la favorevole con riformulazione. Se il relatore ha preso visione del G1.102, testo 2, mi vuole dare il parere? Sì, Presidente, grazie, per noi è favorevole. Governo? Allora, il Governo aveva parere favorevole a valutare la possibilità di sul G1.102. Credo sia la stessa cosa su questo, ma diciamo aspetto... Non la sento Ministro. Comunque a valutare l'opportunità di. A valutare la possibilità di G1.102, testo 2. Senatrice De Petris, va bene la riformulazione, quindi riformulato. Favorevole. G1.103. G1.103, testo 2, è favorevole. Favorevole. Quindi gli ordini del giorno sono accolti. Passiamo alla votazione... No, al parere dell'emendamento 1.0.1. Sì, contrario. È ritirato. È ritirato. Passiamo ai pareri agli emendamenti all'articolo 2. Allora, 2.5 è contrario. 2.1, testo 2, identico a 2.3, testo 2 e 2.2, testo 2, favorevole. 2.6, contrario. 2.8, contrario. 2.10, contrario. 2.12, contrario. 2.13, contrario. 2.14, contrario. 2.4, testo 3, identico a 2.37, già 1.87, testo 2 e 2.38, già 1.88, testo 2, favorevole. 2.16, con la condizione della quinta, perché ho un parere della quinta condizionato. Bene. Sì, sì, con la correzione della quinta. Sì, scusi, Presidente. 2.16, contrario. 2.100, favorevole. 2.19, contrario. 2.20, contrario. 2.22, contrario. 2.23, contrario. 2.25, contrario. 2.26, contrario. 2.31, testo 2, favorevole. 2.29, contrario. 2.34, contrario. 2.24, contrario. 2.200, favorevole. E poi io non ne ho altri all'articolo. No, poi passeremo all'articolo 3. Governo. Conforme, mi scusi, Presidente. Sul ordine del giorno, che era l'emendamento 1.61 del senatore Bruzzone, non mi sembra che sia stato dato il parere. Era stato dato quando abbiamo trasformato l'emendamento in ordine del giorno, era stato dato parere favorevole, abbiamo chiesto al senatore Bruzzone se andava bene la trasformazione e io l'avevo dato per accolto. Mi dica... Era valutare la possibilità di, comunque... Vuole una modifica, quindi... A valutare la possibilità di... Senatore Bruzzone, va bene per lei con la modifica? Va bene, quindi accolto con riformulazione. Passiamo alla votazione degli... Prego, senatrice. 2.22, ritirato, per favore, grazie. 2.22, ritirato. Pongo in votazione l'emendamento 2.5, Zaffini, con parere contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.1, testo 2, identico a 2.3, testo 2, 2.2, testo 2, con parere favorevole. Relatore Governo si è approvato e precluso il 2.6, dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 2.6, è precluso. 2.8, Depetis, parere e contrario. Relatore Governo, articolo 81. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.10, Zaffini, parere e contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.12, Zaffini, parere e contrario. Relatore Governo dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.13, Ciampolillo, parere e contrario. Relatore Governo, prego senatore Ciampolillo, su dichiarazione di voto. Sì. Prego. Grazie, grazie Presidente. Brevissima dichiarazione di voto. Io mi chiedo qual è il criterio con cui i decisori possono individuare gli animali da battere. Con questo emendamento si chiede appunto che gli animali da battere siano stati definiti infetti solo in presenza di comprovata diagnosi in seguito ad analisi di laboratorio e strumentali. perché altrimenti si dà la massima discrezionalità e poi di fatto diventa questo un regalo senza limiti ai cacciatori che probabilmente non aspettavano altro. Grazie. Grazie, senatore Ciampolillo. 2.13, Ciampolillo, parere e contrario. Relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.14, Berutti, parere e contrario. Relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.4, testo 3, identica a 2.37, già 1.87, testo 2, 2.38, già 1.88, testo 2, con parere favorevole, parere della quinta condizionato. Si è approvato, sono preclusi 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 5.4, 5.6 e 5.7. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 2.16, con parere contrario. Relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.100, con parere favorevole. Relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Quindi 2.19, 2.20, 2.22, 2.23. 2.25, con parere contrario. Relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.26, parere contrario. Relatore Governo, articolo 81. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.31 testo 2. Parere favorevole. Il relatore del Governo dichiarà aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 2.29 la pietra. Parere contrario. Il relatore del Governo è articolo 81. Dichiarà aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.34 con parere contrario. Il relatore del Governo è articolo 81. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.200 con parere favorevole. Il relatore del Governo dichiarà aperta la votazione. 3.1. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato approva. Passiamo quindi ai pareri agli emendamenti all'articolo 3. non sarebbe una cosa nuova. Passiamo ai pareri del relatore 3.1. 3.1. Contrario. Grazie, Presidente. Grazie, Governo. Conforme. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 Berrutti. Con parere contrario. Il relatore del Governo dichiarà aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Articolo 5. Pareri agli emendamenti all'articolo 5. relatore 5. Ah, è precluso. Precluso da 2.4. Mi perdoni. Sì, sì, sono stati preclusi. Sì, sì, dalla votazione del 2.4. Quindi arriviamo al parere sulla proposta di coordinamento. È favorevole. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Governo. Favorevole. Pongo in votazione proposta di coordinamento. Coordinamento. Punto 1. Con parere favorevole. Il relatore del Governo dichiarà aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Che è scritta a parlare la senatrice parente, ne ha facoltà. Aspettiamo due minuti. Senatrice parente, è acceso il microfono. Se vuole, può intervenire. Se aspettiamo qualche secondo che i colleghi che stanno lasciando l'aula consentano alla senatrice di intervenire. Prego. Sì, grazie, Presidente. Aspettiamo qualche altro secondo. Mi sembra un corcino, Presidente. Non l'avete bevuto? Si, sembra un corcino, Presidente. Hai parlato del microfono. Colleghi, noi stiamo aspettando che si crei in aula un ambiente adatto per fare intervenire la senatrice parente. Se chi sta lasciando l'aula lo può fare in tempi brevi e chi rimane si può abbassare il tono della voce. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. La peste suina africana è una malattia infettiva, altamente infettiva, che colpisce in Italia esclusivamente i cinghiali selvatici. Ed è del gruppo genotipo 2, diverso dal virus della Sardegna, come hanno detto molto bene i colleghi, molti colleghi. Dal 2014 la peste suina africana è comparsa nei paesi dell'est. È attualmente presente in Polonia, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria e Bulgaria. In Belgio è comparsa nel 2018 e nel 2020, grazie a un piano del Governo serrato e con interventi mirati, l'investimento è stata eradicata. In Germania ha colpito purtroppo allevamenti di suini in Sassonia e al confine con la Polonia. In Italia, come sappiamo, è stata individuata in Piemonte il 7 gennaio 2022 per l'individuazione di una carcassa di cinghiale. Fortunatamente non è trasmettibile all'uomo. Però potrebbe rappresentare la più grave minaccia per la filiera suinicola e per le pregiate produzioni DOP della salumeria tipica italiana, lo diceva bene il relatore Bergesio. Siamo in presenza di un rischio economico enorme per le aziende che operano nel settore, più pesante, a mio avviso, anche persino degli effetti del Covid. La peste suina africana è letale al 100%, vale a dire che i cinghiali muoiono quasi tutti entro 3-7 giorni e al massimo 10 giorni dopo la comparsa dei sintomi. Questo virus purtroppo rimane vitale anche dopo la morte dell'animale. Infatti le carcasse restano ancora infette, in grado di trasmettere il virus per molto tempo. È importante quindi, grazie a questo decreto, segnalare la presenza di carcasse di cinghiale sul territorio, in modo che possono essere subito analizzate dai servizi veterinari competenti. Un monito per tutti, anche per le cittadine e i cittadini, di non abbandonare i rifiuti, che potrebbero essere fonte di attrazione per i cinghiale, di non somministrare scarti di cucina contaminati, del resto una pratica vietata anche dai regolamenti europei, e anche nella relazione di accompagnamento a questo decreto si legge che il fattore umano è il veicolo per la trasmissione indiretta della malattia. Del resto, purtroppo, l'uomo ha delle responsabilità. Abbiamo delle responsabilità. Abbiamo alterato il 75% degli ecosistemi terrestri e il 66% di quelli marini, con conseguenze ancora difficilmente ponderabili. Questa alterazione ha diverse cause, ma una prevale su tutto, la necessità agroalimentari. Naturalmente dare alimentazione a una popolazione globale è uno grande sforzo per il nostro pianeta, ma spesso le nostre abitudini alimentari non lo aiutano. Eccessivo consumo di alimenti di origine alimani, allevamenti intensivi e un rapporto deteriorato per la fauna selvatica hanno conseguenze rilevanti sugli ecosistemi e sulla nostra salute. Lo diceva con competenza la relatrice Caterina Biti. In Italia il numero di cinghiali è cresciuto a dismisura, se pensiamo che sono arrivati nelle nostre città, da Roma a Genova, e quindi la crescita dei cinghiali rendono il loro incontro con gli animali allevati sempre più probabile. Tanto è vero che dal 2021 il Ministero della Salute è già intervenuto con due documenti finalizzati al controllo della peste suina. Tempestivamente è arrivato il Governo a emanare il Decreto 9, che come molti colleghi e colleghi hanno detto, si fonda su due questioni principali. Le regioni devono fare dei piani per bloccare i contagi ed è istituito un commissario straordinario che ha il compito di verificare la regolarità dell'abbattimento e di istruzione degli animali infetti, mentre cacciatori, agricoltori e tutti coloro che dovessero imbattersi in cinghiali feriti o deceduti sono tenuti a segnalare i casi al servizio mediterraneo dell'ASL. Abbiamo fatto un buon lavoro in Commissione e in sede di conversione di questo testo abbiamo rafforzato soprattutto nella parte riguardante le risorse per la recensione e per impedire ai cinghiali di uscire dalle zone infetti. L'abbiamo rafforzato sulla possibilità di deroga e semplificazione delle norme. Queste richieste erano giunte dalle tante audizioni, soprattutto delle regioni che abbiamo compiuto e abbiamo dato maggiori strumenti di azione al commissario straordinario. Insomma abbiamo fatto un buon lavoro, anche io ringrazio i relatori in primis Caterina Biti e Giorgio Bergesio e anche i sottosegretari Biti, Bini e Sileri per quell'opera di mediazione che tante colleghe e colleghi hanno evocato perché all'inizio le posizioni tra di noi sembravano cozzare tra di loro, ma invece abbiamo trovato una mediazione importante. Il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento con una rassicurazione anche agli operatori economici che non molleremo, non abbasseremo la guardia e che se ci sarà bisogno di altri interventi sia il Parlamento è pronto a interloquire con il Governo perché questo possa accadere. E infine, come dal Covid, dobbiamo ricavare un insegnamento importante anche da questo terribile sciagura, dobbiamo imparare un monito per noi. Il nostro stile di vita spesso ha causato alterazioni degli ecosistemi, come ricordavo prima, che stanno finendo purtroppo per ritorcersi contro di noi. Quindi umani, animali e ambienti sono tre attori le cui vicende sono strettamente legate tra di loro e noi abbiamo il dovere, uomini e donne che viviamo questo tempo, di trovare un equilibrio sostenibile per chi crede, dobbiamo avere il dovere di custodire il creato, ma per tutti noi di custodire il pianeta così come l'abbiamo trovato e trovare un equilibrio è la nostra, diciamo, missione di ripeto di uomini e donne che viviamo questo nostro tempo. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Zaffini, Nea Facoltà. Grazie, Presidente. In realtà annuncio il voto di astensione di Fratelli d'Italia e è un riconoscimento al metodo, non tanto al merito, quanto al metodo, al lavoro che hanno fatto i relatori, al lavoro che ha fatto il collega La Pietra, al lavoro che è stato fatto in commissione. Diciamo che questo dovrebbe essere la regola, dovrebbe essere quello che facciamo sempre, arriva il provvedimento dal governo, come sempre fa acqua da tutte le parti, perché questo è un governo di troppo diversi, no? È un governo di gente che non si mette d'accordo neanche se prendere il caffè o il decaffeinato, quindi arrivano i provvedimenti che sono a sacco d'ossa, come direbbe in gergo giornalistico, come si direbbe in gergo giornalistico e il Parlamento con la sua attività migliorativa, emendativa, fa il suo lavoro, migliora i provvedimenti e ne escono provvedimenti un po' migliori. Questo sarebbe la regola, ma questa regola, come noi sappiamo, purtroppo si è derogato in modo assolutamente lineare con votazioni ripetute nelle quali è stata posta la questione di fiducia. Anzi, vorrei dire che sono rarissimi gli atti con cui si riesce a lavorare e quindi rispetto a questo e anche rispetto in parte ai contenuti che ne sono emersi, la decisione del gruppo dei Fratelli d'Italia è quella di astenerci su questo provvedimento. È evidente che rispetto a ciò, però, non possiamo non evidenziare le enormi lacune di questo provvedimento. Primo fra tutti, il dato delle risorse. In politica, la misurazione dell'importanza, la pesatura dell'importanza di un provvedimento avviene valutando le risorse che a questo provvedimento sono destinate. A questo riguardo, le risorse che è riuscita a migliorare l'attività emendativa aggiunte appunto alle risorse previste dal Governo, è veramente minima e lascia facilmente intendere il grado di attenzione del Governo rispetto a questo problema che, come è stato osservato da tutti, è un problema enorme e pesa sulla possibilità di prodotto interno nazionale che da alcune parti è stato valutato tra diretto e indiretto, cioè prodotto allargato vicino ai tre punti di PIL. Questa è una cosa assolutamente grave, perché ovviamente qualora dovesse accadere il salto di qualità di questo virus, che ricordo è un virus, è stato detto, è un virus pericolosissimo perché sopravvive nelle carcasse, perché non ha il vaccino, perché per mille motivi qualora dovesse fare il salto di qualità e passare al magliale domestico, al suino domestico, beh per noi sarebbe veramente una debacle, una gravissima debacle. Bene, secondo limite rispetto al provvedimento che esce da questo Parlamento, da questo ramo del Parlamento è il fattore tempo. Sappiamo tutti che il fattore tempo è esiziale rispetto ai provvedimenti di contrasto, non dico di eradicazione, che quella sarà più difficile, sarà di là da venire, ma di contrasto immediato alla diffusione. Bene, rispetto a questo noi, rispetto alla prima la prima evenienza di individuazione della presenza del virus nella prima carcassa, sono passati mesi e questo è gravissimo, l'ha detto il collega Lapietra, non è i tempi di lavorazione, lo dico al relatore del provvedimento in Parlamento, quelli sono stati adatti, utili e ripeto, noi stiamo apprezzando il metodo e il lavoro fatto. Sono i tempi in cui alla fine noi abbiamo reagito, cioè i tempi di reazione del governo, del sistema paese rispetto a un problema che era atteso, ampiamente atteso, perché la peste ce l'abbiamo endemica in Sardegna, anche se dice un po' diverso, ma soprattutto era annunciata, era assolutamente annunciata, tanto che ricordava il collega Lapietra, già quasi un anno fa era stato proposto un affare assegnato in commissione che qualora avesse trovato spazio e attenzione, beh avrebbe probabilmente lasciato che il sistema paese si fosse adattato e preparato all'emergenza che stava arrivando e che oggi è arrivata. Terza considerazione che a noi ci vede perplessi, vorrei dire anche sufficientemente sconcertati, è questo metodo dello scarico a barile sulle regioni, perché non è possibile, come è successo col Covid, come è successo in altri tanti precedenti, che qualora questo governo multicolore, arcobaleno, così siete contenti, non riesce a trovare una sintesi anche su materie assolutamente importanti e gravi, beh allora c'è sempre la via di fuga di dire, beh vabbè allora le regioni ci penseranno loro, faranno quello che vogliono, faranno quello che credono, è uno scarico a barile a tutti gli effetti e è grave e è grave perché? Perché al di là delle mille considerazioni di merito che potremmo fare il risultato immediato che potrebbe ottenere e che otterrà certamente e cosa che accadrà con tutta certezza è una diversità di regolamenti e di piani che sarà disorientativa rispetto all'emergenza e rispetto alle condizioni ad esempio del prelievo venatorio, cioè ci sarà una migrazione dell'esercizio venatorio perché ci saranno regioni che consentiranno di fare alcune cose ed altre di diverso orientamento o di diversa pesatura di certe posizioni ideologiche, è facile definirle tali che invece non consentiranno di fare cose anche assolutamente normali e quindi al di là della diciamo della bruttura di questa postura che vede il governo ogni volta scaricare sulle regioni la responsabilità di prendere provvedimenti difficili e probabilmente a volte anche in popolari c'è un problema serio di coordinamento questa cosa il testo non l'ha non l'affronta non l'affronta non è che non lo risolve non l'affronta nemmeno cioè chi dovrà coordinare le regioni nei piani di il commissario non lo fa perché è previsto specificatamente che il commissario faccia solo quello che attiene all'emergenza nelle zone rosse fuori dalle zone rosse in previsione dell'emergenza e va bene allora mi dice Bruzzone io lo prendo per buono perché lui ha studiato meglio di me questo provvedimento e quindi lo prendo per buono dice lo farà anche fuori dalle zone rosse ma può il commissario occuparsi di tutta questa roba sarà verosimile che il commissario si occupi anche di coordinare le regioni ad esempio sull'attività del prelievo venatorio io non ci credo non accadrà mai questo bene allora chi lo fa lo fa ispra che dio ce ne guardi che dio ce ne guardi chi lo fa lo può fare qualcuno nell'ambito ad esempio della conferenza stato regioni ma va individuata questa figura perché non è possibile che eh ripeto chi risiede in una regione a confine con un'altra regione si trovi a dover trattare di provvedimenti di norme di regolamenti completamente diversi ci sarà un disorientamento generale a discapito proprio delle delle capacità di aggredire il problema e di affrontare l'emergenza che ricordo è un'emergenza grave gravissima pesantissima dio non voglia che accade il salto di qualità bene allora rispetto a tutto questo l'atteggiamento al voto di fratelle italia è un atteggiamento di astenzione abbiamo contribuito in commissione per quanto possibile a migliorare il provvedimento l'avremmo fatto ben volentieri ehm in misura maggiore eh qualora avessimo trovato un minimo di sponda perché le idee che abbiamo esposto sono state idee anche condivise eh in separata sede ma poi nella logica dell'attività di governo tutto questo è risultato ehm diciamo sacrificato alla 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 logica di maggioranza eh è evidente che noi eh rispetto alla necessità di creare questo coordinamento faremo seguito presidente con degli atti apposi degli atti di indirizzo delle proposte di indirizzo e quindi speriamo che almeno questo si riesca a chiudere quindi ben venga questo metodo lo dico al presidente non mi sembra che abbiamo perso tutto questo tempo non mi sembra che abbiamo sacrificato i tempi di conversione del decreto non mi sembra che abbiamo fatto niente di grave se tutte le volte riuscissimo a fare la stessa cosa probabilmente anche la l'atteggiamento dei fratelli italia in aula potrebbe essere anche quello un po' diverso rispetto anche alle dinamiche e alla dialettica che ci scambiamo negli interventi eh di dichiarazione di voto. Grazie presidente. Grazie. Senatore Zaffini ha chiesto di parlare il senatore Taricco, ne ha facoltà. Grazie. Grazie presidente. Siamo qui oggi per dare il via libera ad una legge di conversione del decreto 9 del 17 febbraio del 2022 misure urgenti per arrestare la disfusione della peste suina africana. Un provvedimento come hanno già detto i colleghi fortemente atteso non soltanto dai territori interessati dai rinvenimenti di animali contagiati dalla peste suina africana ma da tutti i territori quantomeno circostanti per i rischi connessi al fatto che questo virus possa allargarsi e contaminare aree produttive di allevamenti sui nicoli cosa che sarebbe devastante dovesse succedere. Ricordo solo per inciso che nella direttrice nord dell'area interessata nord ovest, cioè la provincia di Cuneo, ci sono quasi un milione e mezzo di maiali e a est, verso le province di Parma e Piacenza, c'è quantomeno un altro milione e mezzo di maiali. Quindi il rischio, come anche bene sottorina la relazione, qualora dovesse allargarsi l'area di infezione, parliamo di oltre un miliardo di danni potenziali legati agli allevamenti che potrebbero esserne toccati. Siamo qui a, dicevo, ad affrontare questa legge di conversione con due sensazioni in cuore. Da una parte la consapevolezza che già il decreto in sé per i contenuti che aveva, le indicazioni che dava, gli orientamenti per i piani da predisporre e le misure da mettere in campo, sia quelle di biosicurezza che di tutte le altre attività previste, che non avevano risorse in questo decreto, ma che ricordo solo nel decreto che nelle scorse settimane abbiamo approvato, il sostegniter, vedevano risorse per 35 milioni dedicate agli interventi finalizzati ai danni sulle imprese legati a questo evento e vedevano 15 milioni di interventi messi in sicurezza, per la biosicurezza delle stesse aziende. Quindi un provvedimento che già aveva contenuti puntuali e che già aveva anche, se indirettamente, risorse per poterli affrontare. E poi credo la sensazione di aver fatto, lo hanno detto in molti, anche non di maggioranza nella discussione che abbiamo vissuto in queste ore, la sensazione, e la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro di condivisione e ringrazio per questo i relatori e il Governo per la ricerca delle soluzioni nel concreto che sempre su tutti i punti si è cercato di portare avanti, cercando di dare risposta a quelle questioni, a quelle sottolineature che nelle audizioni ci erano state portate di necessità di rafforzare alcune questioni. Cito solo le tre questioni principali legate al ruolo del Commissario in rapporto con il ruolo delle Regioni, che era una questione importante se vogliamo essere operativi concretamente. Il ruolo delle risorse, perché era necessario quantomeno per la recinzione e per tutti gli interventi di contenimento poter disporre di strumenti per poterli poi concretamente attuare. E poi tutti quei chiarimenti normativi che rendano effettivamente percorribile le ambizioni che mettiamo in questa norma. Credo che su queste tre questioni il testo che viene posto adesso alla nostra attenzione, che voteremo fra qualche istante, dia risposte assolutamente importante. E questa è una sensazione sicuramente positiva che tutti insieme coloro che hanno lavorato a questo tempo, questo testo, hanno vissuto. Poi c'è una sensazione meno positiva, che è quella di aver perso un'occasione importante, perché se noi siamo qui ad affrontare l'emergenza PSA, lo siamo anche perché c'è, lo dicono tutti i documenti ed è stato confermato durante le audizioni, un'eccessiva presenza di cinghiali e di selvatici sui nostri territori. Addirittura è stato detto in modo molto chiaro che la quantità ottimale, la densità ottimale sarebbe intorno al capo 1,1,5 capi per chilometro quadrato e ci è stato detto nelle audizioni che in alcuni territori arriviamo anche a 15 capi per chilometro quadrato. Quindi è chiaro che il problema esiste. Ricordo solo, per coloro che hanno letto i documenti credo sia evidente, che già nel manuale di intervento, nel documento che era stato predisposto il 21 aprile dell'anno scorso, quindi in una situazione in cui non c'era ancora in quel momento la sensazione che avremmo avuto questo problema all'orizzonte, ma giustamente gli uffici ministeriali avevano predisposto un documento che diceva, dato che c'è in tutta Europa, prepariamoci a prevenire i possibili guai che ne potrebbero derivare e tra l'altro in quel documento si diceva laddove densità è troppo alta bisogna abbattere fino all'80% dei capi presenti legati al censimento. Perché? Perché quel dato di densità era una bomba innescata che poteva esplodere come di fatto poi è successo. Ci è stato detto e ne siamo consapevoli che questo provvedimento era un provvedimento finalizzato ad affrontare l'emergenza peste suina africana e non era un provvedimento utilizzabile per risolvere il tema dei danni dei selvatici, in particolare dei cinghiali, sull'agricoltura, dell'incidentalità stradale e di tutte le altre problematiche connesse. Ne siamo consapevoli, ma siamo anche consapevoli che quel problema rimane un problema irrisolto. Prima di tutto perché i documenti che erano stati predisposti per prevenire la possibilità di infezioni da peste suina africana rimangono validi e quei documenti ci dicono che bisogna provvedere ad abbattere fino all'80% in determinati territori con determinate densità degli animali presenti. Ora io credo che questo rimanga un tema alla nostra attenzione perché anche se non è il tema di oggi è un tema fondamentale perché i danni all'agricoltura continuano a esserci, ad essere pesantissimi, perché l'incidentalità stradale legata a questi animali continua a essere un grandissimo problema. Per cui molto semplicemente io credo che noi abbiamo, ed è stato detto bene dai relatori sia nelle relazioni che nelle loro lepliche, molti motivi per essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questi due giorni in cui abbiamo lavorato nel dettaglio, dopo tutto il lavoro preparatorio e le audizioni che abbiamo fatto nelle scorse settimane nella limatura concreta e puntuale del provvedimento che abbiamo fatto. Perché sicuramente la figura del commissario ne esce molto rafforzata, perché sicuramente le procedure sia di natura urbanistica che, diciamo così, tutte le implicazioni autorizzative ne escono molto rafforzate, molto chiarificate nelle modalità attuative, perché il rapporto tra il commissario e le regioni e le sue funzioni con l'amministrazione straordinaria ne esce chiarificata e rafforzata, perché ha le risorse per poter intervenire e quindi questo dovrebbe conferire, a partire dai prossimi giorni, celerità ed efficacia al suo ruolo. Quindi da questo punto di vista sicuramente ci sono tanti motivi per essere, come dire, soddisfatti e convinti di aver risposto positivamente alle sollecitazioni che avevamo ricevute nelle audizioni. Rimane, ripeto, sul tappeto la necessità di affrontare il tema dell'eccesso di densità di selvatici in tantissimi territori, anche perché se no, come giustamente dice il documento dell'ISPRE del Ministero dell'aprile e del giugno dell'anno scorso, il rischio di infezioni con queste densità popolative di peste suina africana è assolutamente dietro l'angolo. Lo abbiamo visto in questo caso, non vorrei che adesso affrontassimo l'emergenza di questo caso e fra sei mesi ci trovassimo magari a dover affrontare altre focolai in altre aree d'Italia e di nuovo doverci dire che il problema contingente è quello della puntualità della peste suina africana e che i temi generali di prevenzione li affrontiamo poi un'altra volta. Io per questi motivi con convinzione il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento nell'auspicio che sia un primo passo importante, significativo, decisivo nella giusta direzione ma che al primo passo seguano il secondo, il terzo e gli altri passi necessari. Grazie. Grazie Senatore Paricco. È scritta a parlare la senatrice De Petris, Nea Facoltà. Sì, grazie Presidente. Questa purtroppo, diciamo, la peste suina è arrivata, anche se già circolava per certi versi anche sotto forma di influenza suina nel nostro paese e dopo che aveva, diciamo, colpito altri paesi, altre regioni europee e questo dovrebbe una volta per tutte, io credo, farci riflettere su quella che è l'emergenza della nostra epoca. Perché è bene che quando affrontiamo, abbiamo visto cosa è successo col Covid, perché poi tendiamo a dimenticare, ma noi ci troviamo, diciamo, a dover fronteggiare una situazione e spesso la fronteggiamo ovviamente cercando di mettere in campo degli strumenti che sanno, che provano a risolvere l'emergenza stessa. Ed è, qual è il punto su cui io richiamo l'attenzione? E mi dispiace che appunto ogni volta siamo costretti a fare questo ragionamento solo appunto in presenza poi di un'emergenza, che è un'emergenza sanitaria, io vorrei ricordarlo qui per tutti. Ed è il fatto che noi viviamo l'epoca e molti altri, sapete che molti esperti e scienziati dicono che noi ci troveremo di fronte ad altri virus, no? Che potranno colpire e che vengono appunto dal, che hanno una causa ben precisa, che è da una parte l'aggressione agli ecosistemi, nel caso del Covid questo è quello che noi, aggressione agli ecosistemi che fa sì che poi entrano in contatto, e ci sono salti di specie, perché si entrano in contatto specie animali che sono state separate dall'uomo per migliaia di anni e questo è un problema che noi dovremo con serietà discutere e affrontare. L'altro problema è, e anche questo invito a riflettere tutti, il fatto che ovviamente sono i sistemi di allevamento, i sistemi di allevamento, perché noi adesso siamo molto angosciati, guardo Taricco perché sa di che cosa parliamo, e cerchiamo il più possibile di confinare, di stoppare la diffusione della peste suina, perché sapete perfettamente l'impatto che già è arrivato, ma l'impatto che potrebbe essere devastante su un nostro settore, che è un settore diciamo molto importante per l'economia diciamo del paese. E quindi dobbiamo riflettere seriamente, quando genericamente parliamo anche di benessere animale, forse dovremo essere anche più conseguenti, la relatrice sa bene anche per attività professionali che cosa parlo, e quindi dovremmo ancora di più spingere, perché se noi tuteliamo e diciamo e mettiamo sempre di più, spingiamo le imprese con incentivi, con tutto quello che volete, ma a mettere in campo, a migliorare i sistemi di allevamento e quindi la qualità anche diciamo di vita di quegli animali, ridurre l'affollamento, evitare una serie di pratiche. Questo aiuta, questo serve al benessere umano, cioè è una questione assolutamente legata alla sicurezza alimentare e alla sicurezza dei cittadini. Quindi anche questo. E questi virus che si diffondono sempre di più, torno a ripetere, hanno un tipo di circolazione virale che entrano e escono, sono strettamente poi connessi. Noi poi viviamo in un mondo interconnesso, cioè questo è il punto. Non siamo più in un paese che non ha scambi, che non ha... Ecco, questo è quello che accade. Questo accade, ha un impatto forte, diciamo, poi con delle conseguenze economiche di salute, perché di questo stiamo parlando, e poi abbiamo delle conseguenze anche sugli ecosistemi. Le scelte del passato, e qui arrivo all'argomento che sapete, quello che diciamo, che adesso anche ricordava adesso Taricco, no? La crescita espotenziale anche della popolazione dei cinghiali. Noi abbiamo fatto, io lo dico senza polemica, però dobbiamo sapere che gli errori che sono stati fatti nel passato. E abbiamo sempre pensato, non abbiamo, diciamo, valutato anche in modo accorto e scientifico le emissioni che facevamo. Questo è il punto. I ripopolamenti che sono stati fatti, sono stati fatti con specie non autotone, perché questo è quello che è accaduto, non avendo ben chiaro, diciamo, l'impatto che tutto questo poteva avere, perché se noi immettiamo un animale che poi in natura, perché quando questo è accaduto, anche la popolazione di lupi, diciamo, era piuttosto scarsa, quindi l'antagonista, diciamo, naturale, neanche c'era, in alcune parti dell'Appennino e in parti ampissime nella regione, quindi non calcoliamo le conseguenze. Io penso che una volta per tutte abbiamo già lavorato su questo, sul divieto di ripopolamento, cioè oggi credo che anche sul controllo dei cinghiali bisogna avere il coraggio però di un approccio scientifico, perché questo è quello, io penso che bisogna una volta per tutte, insomma, sentire i tecnici, assumere le decisioni, ma con un approccio che sia, perché dico scientifico? Perché noi dobbiamo evitare di fare errori che potrebbero essere, danneggiare ulteriormente la situazione, questo è il punto. Quando io, e anche sui piani, voglio dire qui, voglio ringraziare i relatori, il governo, il lavoro della Commissione, perché ognuno ha fatto uno sforzo per cercare di capire i problemi e anche di migliorare il decreto stesso, perché credo che sia l'obiettivo comune di tutti, insomma, di cercare di fermare la peste e di eradicarla possibilmente. E anche lo sforzo di trovare le risorse, di cui ringrazio il governo, sapendo che poi, avendole prese dal sostegniter, dove erano dedicate, diciamo, al ristoro per le imprese che potrebbero essere in sofferenza, dobbiamo poi nel prossimo provvedimento anche recuperare quelle risorse stesse. E quindi risorse soprattutto per le recinzioni, perché è evidente che abbiamo un problema di confinamento. Abbiamo anche un problema nel dare l'indicazione dei piani che vengano messe in campo delle misure che siano assolutamente efficaci. In Beggio è stato facile fare le recinzioni, essendo praticamente quasi tutto piatto. Noi avremo più difficoltà, ma è evidente che riuscire nelle zone, scusate se la chiamo zona rossa, insomma, diciamo, ma nella zona dove ci sono i focolai accertati, dove c'è una circolazione virale, diciamo, più ampia. Anche lì si possono fare per approssimazione una serie di misure. Altre misure, lo dico qui, a mio avviso era necessario assumerle come indicazione per i piani regionali, che era quello di vietare un certo tipo di modalità di caccia, perché per evitare la mobilità, questo è il punto, perché noi per contenere, per impedire la diffusione, noi dobbiamo evitare, diciamo, che si possa, addirittura, per essere accelerata, la mobilità stessa. Poi, il controllo della popolazione, questo vale anche per la questione delle aree urbane, perché io vivo a Roma, no, non è che vi devo dire qualche altra cosa, noi abbiamo avuto barzellette, manifesti, no? Quindi abbiamo, diciamo, non dico che ci conviviamo, ma quasi. Eh ma, pure lì, forse delle norme igieniche, sanitarie, per impedire che ci siano rifiuti dovunque e dappertutto, e che questo quindi produca continuamente arrivi non solo di cinghiali, ma ovviamente sono la questione più grossa. Faccio questo esempio per dire che quando parla un piano bisogna anche mettere in campo una serie di misure. E anche avere, quando si seleziona, quando si seleziona anche con gli abbattimenti, bisogna sapere quello che si fa. Io lo dico con molta, con molta grossa. In passato abbiamo avuto esperienze, esperienze in cui sono stati introdotti in una serie di aree, chiamiamoli guardiutori, cacciatori, per fare, diciamo, la selezione di abbattimento e che magari lo facevano per interessi propri, diciamo, non selezionavano proprio esattamente come bisognava, come bisognava fare, avendo e conoscere quindi anche un pochino le abitudini delle popolazioni che bisogna controllare. Quindi dico tutto questo per dire che certamente questo decreto non poteva affrontare la questione più generale, che è necessario affrontarla con serietà, con metodi scientifici, con gli esperti che ci mettono in campo le misure adeguate. Dico anche che il decreto è stato indubbiamente migliorato, abbiamo trovato in qualche modo, grazie al governo, anche le risorse. Ora dobbiamo evidentemente fare in modo che i piani, anche in tutte le regioni e anche nelle zone infette, vadano avanti. Il commissario ha avuto anche, diciamo, più poteri. Quindi da questo punto di vista io spero che siamo sulla strada giusta. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole dei senatori Leu e Ecosolidali. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. L'otto luglio scorso centinaia di agricoltori protestavano in piazza Montecitorio per denunciare ancora una volta l'insostenibilità dell'eccessiva presenza di fauna selvatica e in particolar modo dei cinghiali. Noi di Forza Italia eravamo fisicamente lì, ma lo siamo stati anche in Commissione Agricoltura, dove abbiamo lavorato costantemente al fine di tenere alta l'attenzione su questa problematica, che non è solo controproducente da un punto di vista produttivo, ma lo è soprattutto per l'incolumità fisica delle persone e sanitaria del nostro comparto suinicolo. 7 gennaio, data in cui è stata rilevata nelle province di Genova e Alessandria la presenza di peste suina africana nel cinghiale. Due date, quelle dell'otto luglio e del sette gennaio, collegate tra di loro. La questione fauna selvatica deve essere gestita in maniera definitiva. Il decreto di cui stiamo discutendo oggi, misure urgenti per arrestare alla diffusione della peste suina, conferma, quanto appena detto, l'eccessiva presenza di fauna selvatica è diventata un'emergenza sanitaria nazionale per il comparto e di conseguenza va gestita con strumenti emergenziali. Infatti, trattandosi di una malattia con un vasto potenziale di diffusione, nel caso in cui dovesse estendersi agli allevamenti di suini, comporterebbe pesanti ripercussioni con danni ingenti sia per la salute animale, ricordiamo che gli allevatori si troverebbero obbligati ad abbattere gli animali malati, che per il comparto produttivo. E credo sia opportuno riflettere riguardo l'importanza strategica del settore suinicolo, il quale nel 2021, solo nella produzione primaria, ha raggiunto un valore di circa 2,5 miliardi. A questi andrebbero aggiunti i guadagni che si generano lungo la filiera, i quali rendono questo comparto di assoluta rilevanza economica, anche alla luce del fatto che la destinazione di oltre l'80% dei suini è rivolta verso i circuiti dei prodotti di qualità tutelata, in primis i prosciutti DOP. Quindi, il comparto suinicolo è parte fondamentale del patrimonio d'eccellenza agroalimentare made in Italy. Di conseguenza, è nostro dovere preservarne l'integrità dinanzi a esternalità negative, come la peste suina, che da gennaio ha portato alla perdita di circa 20 milioni di euro al mese di export per le nostre aziende. Cifra importante, che basta paragonare agli altrettanti 20 milioni stanziati per la ristrutturazione del debito in agricoltura, misura che è un sostegno importante per tutto il comparto agricolo, che è lo stesso più volte richiesto al Ministero e che quindi ringrazio. È evidente, i numeri lo confermano, che questa epidemia, intaccando la produzione, espone a un serio rischio di paralisi l'economia del settore. Settore già estremamente schiacciato dai costi di produzione oramai insostenibili, dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dalla limitazione all'export. Infatti, subito dopo i primi casi di peste, Cina, Giappone, Taiwan, Kuwait, Svizzera hanno imposto delle restrizioni. Compreso ciò, e arrivati ormai a fine marzo, credo sia il momento della tempestività e della operatività. Quanto previsto nel decreto e nella conseguente legge di conversione, deve essere adottata al più presto. E ringrazio per questo, per il lavoro svolto, i relatori ed il Governo e tutti i componenti delle commissioni coinvolte. Era necessario, infatti, rafforzare il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia. E il Commissario straordinario deve avviare un serrato dialogo con le Regioni al fine di adottare i piani di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina previsti all'articolo 1. Tutto questo sistema, però, è lo stesso ruolo del Commissario, per essere realmente funzionante, necessita di risorse. Ebbene ha fatto il Ministero a correggere il tiro e a destinare 10 milioni di euro per la concreta operatività del provvedimento. Noi di Forza Italia saremo, come siamo sempre stati, tutori degli interessi del comparto, esigendo tempestività nella risoluzione della problematica. Per questo annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, fiduciosa del fatto che, tutelati gli interessi del comparto, lo step successivo sarà quello della prevenzione della pubblica incolumità e sicurezza. Perché i sceni di incidenti, anche mortali come quelli in cui abbiamo assistito, non possono e non devono essere percepiti come normale. Di normale in tutto ciò non c'è assolutamente nulla. Grazie. È scritto a parlare il Senatore Bruzzone, ne ha facoltà. Presidente, grazie. Stiamo per votare un provvedimento che è tanto importante quanto urgente. aspettato ormai da qualche mese, da quel 7 gennaio in cui è stato trovato il primo caso positivo, la prima carcassa positiva, leggermente al di fuori di un parco naturale regionale, quello delle capanne di Marcarola in provincia di Alessandria, dove presumibilmente è nato e si è sviluppato questo virus. Sono scattati comunque, nonostante la carenza e anche la mancanza del decreto del Governo, degli interventi immediati a livello territoriale, per lo più concentrati verso il monitoraggio, per capire che cosa succedeva attorno a quel caso positivo. Io qui devo ringraziare tanti, alcune migliaia di volontari, nominativamente autorizzati uno ad uno dalle due regioni coinvolte, sono ad esempio per quanto riguarda la mia regione 1618 volontari, per lo più cacciatori che insieme, e si sono uniti forse per la prima volta a tutti gli altri utenti dell'outdoor, i camminatori, i bikers e tutti gli altri, in un'azione di ricerca delle carcasse infette. Un volontariato teso all'interesse generale della società e anche dell'economia, per i motivi che ben sono stati detti da praticamente tutti gli interventi che si sono svolti oggi. La PSA è pericolosa per gli allevamenti dei maiali domestici, per il fatturato. Il Piemonte ha circa 1.350.000 capi di maiali, la Lombardia a 6 milioni, l'Emilia che è lì vicino altrettanti. Le regioni, in modo particolare Piemonte e Ligure, si sono subito attivate, ma lo ha fatto anche la Lombardia, l'Emilia e la Toscana insieme ai Ministeri della Sanità e dell'Agricoltura e il problema è stato affrontato. Ad oggi, anzi a ieri sera, il dato aggiornato è di 490 carcasse trovate sul territorio da questi volontari, di cui 74 positive alla feste suina africana, tutte in provincia di Genova e di Alessandria. Nella disgrazia generale si è stato un dato positivo, cioè che il virus è stato trovato e si è sviluppato all'interno di confini artificiali, cioè di due autostrade, l'A7 e l'A26 racchiuse a nord dal raccordo fra le due autostrade. Soltanto nell'Ovadese abbiamo sei casi che hanno sforato la barriera delle autostrade. Le autostrade hanno una recinzione che ogni tanto viene abbattuta, perché troviamo anche, ci sono stati anche incidenti cinghiali su quelle autostrade, però è difficile passare due carreggiate con due recinzioni. Due casi positivi hanno sforato nella zona di Arquata-Scrivia. Questo dato determina l'urgenza di interventi di contenimento, soprattutto a partire dai punti dove sono state sforate le barriere autostradali. L'urgenza deriva dal fatto che oggi stiamo per votare questo provvedimento con un auspicio, cioè che diventi il più presto possibile legge dello Stato e vada sulla gazzetta ufficiale. In queste settimane, principalmente nella giornata di venerdì, le due regioni produrranno il piano previsto dal decreto per il contrasto alla PSA, con la possibilità finalmente di derogare anche ad alcune attività all'aperta. Pensate che quest'area, dove non puoi camminare, dove non puoi fare nulla, comprende circa un milione di abitanti. Quanti sono i cani da affezione e per altre attività detenuti da un milione di abitanti che ormai da gennaio sono costretti a camminare soltanto sull'asfalto e non possono andare sullo sterrato? Questo è un ulteriore motivo dell'urgenza. Quali sono le difficoltà di una parte dell'area rossa, quella della riviera di Ponente, ad esempio, che da Arenzano finisce al confine con il Comune di Savona, dal Bissola Marina, dove non puoi fare nulla tranne che andare sull'asfalto o al limite sulla spiaggia, e se hai il coraggio va anche in mare. E siamo di fronte a un periodo in cui il turismo, dopo aver subito i problemi del Covid, dovrebbe ripartire, così come la introterra, dei due parchi che sono penalizzati. Presidente, noi voteremo a favore, convintamente e energicamente di questo provvedimento e ringrazio i colleghi relatori Bergesio e Biti, i Presidenti della Commissione nona dodicesima e il Governo. Ma alcune considerazioni non sono abituato a recitare o a trattenermi, nel limite della regolarità le devo fare. Vedete, lo ha detto bene il Correga Tarrico prima, la giusta presenza del cinghiale in quelle aree, come in tante altre, dovrebbe essere di un capo a chilometro quadrato, ce lo dice Isfra. Lì siamo a 14-15 capi per chilometro quadrato. E questo tanto aumenterà a breve per la riproduzione che è in corso. Lasciatemi dire una cosa, e lo dico col cuore. Io più volte, noi più volte siamo intervenuti su questo tema. Noi siamo convinti di non essere stati e di non essere dei matti quando dicevamo che bisognava intervenire per consentire un maggior abbottimento dei cinghiali. Non pensiamo di essere stati dei matti quando parlavamo di danni all'agricoltura, quando parlavamo di diminuire il numero degli incidenti stradali e con l'occasione andrebbero anche ricordati tutti i morti che ci sono stati. Non eravamo dei matti quando io, anche ingenuamente, parlavo ma se scoppia domani un'epidemia, la chiamavo così allora, che cosa va a succedere con tutti questi animali? Succederà un paciugo. Io dicevo queste parole in aula, niente da fare. E per cinque volte, adesso sesta volta, un po' al Senato, un po' alla Camera, non è stato possibile portare a compimento quella necessaria modifica della legge 157 che avrebbe potuto prevenire un depopolamento di questi animali. Niente da fare. Perché? Non ce la facciamo forse a far capire a qualcuno che è arrivato il momento di bisogna, che bisogna abbandonare la fantasiose visione del cinghiale da proteggere, che ancora qualcuno oggi ha, che i metodi ecologici non hanno funzionato fino adesso e purtroppo non funzionano. E ringrazio quella parte del Partito Democratico che ha voluto accantonare questa idea che nell'ambito dei lavori di Commissione è anche apparsa. In Commissione abbiamo addirittura ascoltato, insieme alla proposta di debellare la PSA senza abbattere un cinghiale. E vabbè, se dobbiamo abbattere qualche d'uno abbattiamo soltanto quelli malati. Cioè, prima li catturiamo, gli facciamo l'esame del sangue e poi andiamo a decidere se vanno abbattuti o non vanno abbattuti. Di fronte a queste cose è necessario tornare coi piedi per terra. È necessario capire, cari colleghi, che il petto di pollo non nasce in un supermercato dentro una confezione di plastica. Quello dice uno genovese, e non è bello per nessuno vedere i cinghiali rumare, scavare tra le tombe del cimitero monumentale di Stadieno a Genova. Non è una bella cosa. pensate, finalmente, lo dico veramente col cuore, una volta ogni tanto, a coloro che sostengono ancora queste cose così anacronistiche, distante dalle realtà, di provare a scendere da questa nuvola a cinque stelle. Perché è necessario stare coi piedi per terra. Ogni tanto piace a tutti stare sulle nuvole. Ma quando si è di fronte a cose serie come queste, tornate, cari colleghi, sulla terra. Non voglio fare alcun tipo di cenno particolare, ma, vedete, e mi avvio a concludere, Presidente, a volte l'esperienza, la realtà, la capacità di affrontare i problemi devono ricadere in quelle che sono le esigenze del territorio, quello che ci hanno insegnato. Corriano hanno forse detto, e chiudo, per farvi capire che cosa vuol dire il territorio agro-sirvopastorale e le attività rurali. Mi hanno forse detto che la mucca fida il latte. La mucca non ci dà il latte. Se ci avete creduto avete sbagliato. Da bambino mi hanno insegnato che se vuoi il latte ti devi alzare alle 4 del mattino, prendere il secchio, il seggiolino, andare là, sporcarti le scarpe e sporcarti anche le mani. Perché il latte non ti viene a cercare nel supermercato. E quindi, se vogliamo provare a debellare la peste suina, bisogna abbandonare un po' di quelle filosofie. Qualcuno deve, dovrà continuare, come è avvenuto nelle scorse settimane, a sporcarsi le scarpe e le mani. E ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto sul territorio e lo faranno. E ringrazio tutti per questo provvedimento che stiamo approvando, perché i contenuti di questo provvedimento continueranno a dare la possibilità di farlo. Grazie, senatore Bruzzone. È scritta a parlare la senatrice Pirro. Prego, senatrice Pirro. Grazie, presidente. Colleghi, colleghe. Arrestare la diffusione della peste suina africana nei cinghiali, prevenire il contagio nei suini di allevamento e salvaguardare le esportazioni nella relativa filiera sono ovviamente delle priorità indifferibili. Come sappiamo, la PSA è una malattia con un vasto potenziale di diffusione che, se sottovalutata, potrebbe comportare pesanti ripercussioni sia sul comparto produttivo, sia sul commercio comunitario ed internazionale che sul patrimonio zootecnico a causa dell'abbattimento forzato degli animali infetti. In premessa, però voglio ribadire l'inopportunità di cercare di approfittare di questa situazione per modificare indiscriminatamente le norme sulla caccia e sul controllo della fauna selvatica. Bene hanno fatto in merito i presidenti a dichiarare improponibili una serie di emendamenti che andavano in quella direzione. Il Movimento 5 Stelle, in vero, non sta sulle nuvolette, ma si mantiene sempre sulla stessa linea di pensiero, quella che percorre i binari di affidamento incondizionato alla scienza, lasciando da parte fervori e paure dettati da una situazione sicuramente emergenziale, ma che deve essere per questo fronteggiata per mezzo di indispensabili interventi necessari e urgenti. Partendo dal presupposto che l'APSA è una malattia infettiva che non si trasmette all'uomo, ma per questo non meno dannosa, molti sono i punti su cui abbiamo ragionato per mettere in campo una strategia anche preventiva e non solo difensiva. Va in questa direzione sicuramente il divieto di caccia nelle aree con focolai tramite mezzi che favoriscano la mobilità e la dispersione degli animali e quindi del virus. Ma non basta. Dovremmo... Presidente. Sì, colleghi, la senatrice Piro sta cercando di svolgere il suo intervento e noi siamo tutti interessati ad ascoltarlo, quindi vi prego di abbassare di molto il volume della voce e parlo in particolar modo al lato destro dell'emiciclo che in questo momento è disattento. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Dovremmo ad esempio rendere autonoma la gestione della fauna selvatica dagli interessi venatori. Dovremmo potenziare il sistema di sorveglianza nazionale sulle zoonosi e sulle altre patologie, monitorando la fauna selvatica e le aziende zootecniche con un focus particolare sugli allevamenti. Ancora, nel solco della tanto auspicata transizione ecologica, dovremmo proteggere gli habitat e le biodiversità, mantenendo un equilibrio spaziale e fisico tra uomo e specie selvatiche, per impedire il passaggio di un virus tra uomo e animale o, come nel caso di specie, il propagarsi del virus all'interno della stessa specie animale. Dovremmo intervenire anche e soprattutto sui sistemi di allevamento intensivo, terreno fertile per la diffusione di malattie infettive. Sebbene la PSA non sia ad oggi una malattia zoonotica, è ampiamente riconosciuto come le condizioni degli allevamenti intensivi offrano opportunità ai patogeni di replicarsi, mutare e diventare più virulenti. Una stalla per suini molto affollata è un ambiente ideale per una rapida trasmissione. I suini allevati in modo intensivo, infatti, possono essere più suscettibili alle malattie. Il loro sistema immunitario può essere compromesso a causa dello stress d'affollamento e confinamento, mancanza di luce naturale, tassi di crescita rapidi, grandi dimensioni delle cucciolate, scarsa diversità genetica determinata dalla selezione di razze e da un uso massiccio di antibiotici. Anche gli allevamenti all'aperto, secondo l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, comportano comunque un rischio notevole di contrarre e diffondere la PSA a causa del contatto con specie selvatiche positive come i cinghiali. È dunque importante che proprio in questi allevamenti vengano installate recinzioni adeguate e che vengano rispettate le condizioni di biosicurezza. Nonostante le criticità degli allevamenti intensivi... Mi perdoni, senatrice. Allora, colleghi, così non riusciamo a concludere i nostri lavori che alla cui conclusione manca davvero poco. Quindi vi invito per l'ultima volta, vi prego, di tacere se non abbassare il volume. Perché io non faccio riprendere la senatrice se non ci sono le condizioni per ascoltare. No, questo vale per tutti. Siccome intervengo sempre tutte le volte che chiunque stia parlando non riesce a terminare, vi prego di abbassare il volume. Prego, senatrice. Grazie. Nonostante le criticità degli allevamenti intensivi siano ben note da tempo, per contenere l'inflazione sui prodotti suini, verificatesi a seguito dell'epidemia di PSA nel 2017-18, con conseguente aumento dei prezzi sia della materia prima che del suo trasporto, la Cina ha aumentato il dimensionamento degli allevamenti in termini di estensione e densità di capi. Questo nonostante siano scientificamente noti i rischi specifici per la salute posti dalle unità intensive, comprese le opportunità di mutare che offrono ai patogeni. L'aumento del numero degli animali negli allevamenti, con il conseguente aumento della densità degli animali per singola azienda, è la prima risposta alle dinamiche del mercato. Purtroppo però sembra che non siano esenti dalla PSA neanche gli allevamenti biologici, che puntano sulla qualità dei prodotti piuttosto che sulla quantità, con un impatto minore dal punto di vista ambientale della filiera. Nel 2001 la PSA infatti è stata riscontrata anche tra suini di aziende agricole e biologiche tedesche. L'infezione nei cinghiali selvatici allo stato brado ha contribuito alla diffusione della malattia anche nei suini domestici allevati all'aperto. È evidente quindi che pur garantendo ampi recinti, le probabilità di contanti indiretti con i cinghiali presenti nel territorio è maggiore. Fortunatamente ad oggi in Italia non risultano casi di peste suina in maiale allevati. E l'EFSA a gennaio 2022 ha escluso l'Italia dalle zone di preoccupazione. Quindi gli allevamenti italiani si possono considerare sicuri. Ma resta l'allerta. Con circa 700 milioni di maiali allevati in tutto il mondo, la possibilità che ci siano nuove ondate di malattie infettive di origine animale, nuove varianti e fenomeni di spillover nell'uomo, potrebbe essere alta. Infine, Presidente, faccio riferimento in questo momento ad un territorio già stressato, quello della zona rossa per la peste suina africana. È ferito da eventi alluvionali negli ultimi anni, colpito duramente dalla pandemia e che oggi si trova ad affrontare anche questo grave fenomeno. Oltre agli allevamenti dobbiamo pensare a tutto il settore silvopastorale, a tutto l'indotto economico fatto di escursi turismo legato all'outdoor che, anche se stanziale, concorre all'economia di questi territori. Ci auguriamo quindi che nei prossimi provvedimenti si possano trovare le risorse necessarie per un sostegno a queste attività. Ci auguriamo inoltre che tutta la gestione delle fasi successive avvenga a stretto contatto con gli enti locali, con i sindaci dei territori colpiti che sono, prima di ogni altro soggetto, depositari delle necessità dei loro cittadini e che possono essere, per questo, fonte di grande aiuto al lavoro del commissario straordinario. Ci auguriamo inoltre che le regioni facciano la loro parte nelle missioni delle ordinanze che non possono essere messe in capo solo ai piccoli comuni. Mi avvio a terminare, Presidente. Colleghi, la natura ancora una volta ci dimostra che siamo fragili al suo cospetto. Ricordiamolo e rispettiamola di più. In questo decreto, in conclusione, ci sono interventi necessari che, se prontamente messi in atto, potranno servire allo scopo. Per questo annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie, Senatrice Piro. Ora un intervento in dissenso del Senatore Crucioli. Prego, Senatore Crucioli. Grazie, Presidente. Questo provvedimento per contenere la peste suina è un provvedimento non equilibrato ed eccessivo. È in forza di questo provvedimento che da gennaio 114 comuni tra Liguria e Piemonte soggiacciono al cosiddetto lockdown dei boschi, ovvero non è più possibile fare alcuna attività nei prati o nei boschi o comunque nelle strade sterrate. Questo provvedimento, peraltro, è anche pericoloso perché rimanda ai piani regionali che avrebbero potuto fare delle deroghe rispetto a questi contenimenti assoluti, rimanda appunto all'applicazione del piano nazionale di sorveglianza e al manuale delle emergenze redatti appunto a livello nazionale che prevedono dei lockdown nei sei chilometri, in un arco di sei chilometri, in un raggio di sei chilometri dal ritrovamento delle carcasse e quindi il rischio è che da oggi in poi, qualora verranno trovate nuove carcasse in punti diversi del territorio, ci sia l'impossibilità di fare qualunque tipo di deroga in questo raggio di sei chilometri e quindi questo ovviamente porterà ancora più danni all'economia dell'entroterra, oltre a togliere delle libertà di spostamento e di svago e anche di salute, perché stare nei boschi, andare in bicicletta e fare delle passeggiate è non solo una libertà importante dei cittadini ma è anche appunto qualcosa che va a favore della loro salute. Per questi motivi appunto i comuni Liguri e Piemontesi, in particolare Genova, sono attualmente colpiti da queste chiusure troppo eccessive che non tengono conto, non bilanciano gli interessi in gioco. Per questi motivi io voterò contro e vi invito tutti a riflettere che anche questo provvedimento ha in sé delle limitazioni eccessive che troppo spesso Governo e maggioranza stanno apportando alle libertà degli italiani, in particolare dei Liguri e dei Piemontesi. Grazie. Grazie Senatore Crucioli. Allora sono terminate le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 febbraio 2022 numero 9. la votazione è aperta. Votato tutti. Ci siamo? Bene. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Ora, in accordo con i gruppi anticipo le dichiarazioni di interventi di fine seduta, posto che la ripresa, la seduta sarà senza orario di chiusura. E quindi è iscritta a parlare per il primo intervento la Senatrice Lonardo. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente Draghi per l'attenzione mostrata nei confronti della città di Napoli. La firma dell'accordo salva comune per affrontare il deficit ed evitare il default al maschio angiuglino è un atto sicuramente importante, un segnale importante di vicinanza da parte dello Stato, ma anche l'unico modo per rimediare ai disastri delle gestioni passate, che hanno prodotto un debito esponenziale come il decennio dell'amministrazione guidata da De Magistris, grazie alla quale il debito è levitato di ben 800 milioni agli attuali 1,5 miliardi, spesa per debito pubblico. Così come i dati di Open Police Napoli dal 2016 al 2019, quindi dimostra che ha triplicato la spesa per il debito pubblico. Rivolgo quindi un sincero in bocca al lupo al Sindaco Manfredi affinché possa condurre il capoluogo regionale, a questo punto ne ha tutte quante le facoltà, anche economiche, fuori dal baratro. Benvengono quindi gli aiuti del Governo alle altre grandi città indebitate come Torino, Reggio Calabria e Palermo. Ma sarebbe opportuno non dimenticarsi anche delle realtà più piccole. Altre città con pesanti disavanzi ereditati dalle precedenti amministrazioni, come per esempio Terni, Vibo Valencia, Benevento, ma pure del Nord, come Massarosa, Labagna, che sono state costrette a dichiarare dissesto e a vedersela da sole, senza alcun supporto. I comuni italiani con dissesti attivi dichiarati tra il 2016 ed il 2021 sono quasi 200 ed andare avanti con questi presupposti è davvero complicato, nonostante grandi sforzi profusi. Per questo ritengo che lo Stato, laddove ci siano situazioni di conclamata difficoltà non ascrivibili all'amministrazione in carica, non debba fare discriminazioni tra grandi e piccole realtà. Vanno considerate anche le aree interne e i sostenuti, e sostenuti quindi i comuni più piccoli. Altrimenti non si farà altro che aumentare il divario esistente e marginalizzare ancora di più che è costretto ad operare nel più completo isolamento. Un appello quindi al Governo e da questo Parlamento affinché sia vicino alle aree interne e alle piccole città. Grazie. Grazie Senatrice Leonardo. È scritto a parlare il Senatore Augustori. Prego Senatore Augustori. Grazie Presidente. Intervengo per segnalare all'Aula un tema che sta molto a cuore al nostro gruppo, ma credo anche a tanti altri colleghi qua presenti. È del tema dei lavoratori fragili. Purtroppo nel decreto riaperture, quello uscito in gazzetta il 24 marzo, la famosa manina ha colpito ancora. Nella bozza che tutti abbiamo visto, che era sugli organi di stampa, era presente un articolo specifico per proseguire le tutele dei lavoratori fragili. Per carità delle bozze possiamo non fidarci. Ho verificato con i ministri presenti nel Consiglio dei ministri e mi assicurano di aver votato quel testo. Purtroppo in gazzetta ufficiale quell'articolo è scomparso. Non è la prima volta che accade e ciò è sempre molto grave, ma lui ancora di più questa volta perché va a colpire persone veramente deboli in difficoltà. Si dice che il problema sia economico. In queste ultime settimane si sono trovati giustamente miliardi per il caro bollette, si sono trovati ingente risorse per tagliare la cisa sulla benzina, si trovano i fondi per aumentare giustamente lo stanziamento delle armi, si trovano i fondi giustamente per i profughi ucraini, ma il MEF non trova 70 milioni per i laboratori fragili. E vi dico, la norma che era presente nel Decreto Legge 24 non era il massimo oltretutto, non era ottimale. Si limitava solo ai cosiddetti super fragili, quindi riduceva la platea e garantiva solo lo smart working, ma non l'assenza tutelata per chi non può fare smart working. Quindi sarebbe stata comunque una norma insufficiente. Avremmo comunque potuto migliorarla in fase di conversione parlamentare. Ora invece ci troviamo che dal primo aprile e dal dopodomani queste persone sono richiamate a lavorare in presenza. Stiamo parlando di oncologici, immunodepressi su cui il vaccino non fa nessun effetto e gravi malattie respiratorie. In questa fase in cui con le riaperture giustamente e finalmente torniamo a circolare un po' più liberi, il virus non è scomparso e rischia comunque di colpire queste persone che non hanno difese. Noi non possiamo attendere due mesi per la conversione parlamentare per porre rimedio. Non è vero che sono 20 giorni, come una deputata dei 5 Stelle ha detto ieri in televisione, non si fa in 20 giorni, ci vogliono due mesi. Chiediamo che il Governo intervenga subito. Serve un provvedimento correttivo del Governo, con decreto. Questo deve arrivare se non oggi, se non domani, al più presto. Perché dal primo aprile queste persone tornano in presenza e rischiano la vita. Grazie, Senatore Augustori. Scritto a parlare il Senatore De Vecchis. Prego, Senatore De Vecchis. Grazie, Presidente. Intervengo per segnalare l'ennesima vergogna politico-amministrativa di questo Governo, che colpisce l'ex Compagnale Italia, oggi ITA, e colpisce tutto il trasporto aereo. Un fallimento che, purtroppo, giunge con la notizia delle dimissioni di sei consiglieri del Consiglio di amministrazione di ITA su otto. Questo getta veramente un'ombra su quella che è veramente la gestione sia del Governo, ma anche del commissario Altavilla. Altavilla ha fallito e, purtroppo, il suo fallimento costerà migliaia e migliaia di posti di lavoro, famiglie che non sanno qual è il loro futuro. Un settore che veramente è stato abbandonato da questo Governo e dai ministri che si andano a occupare. Una vergogna, e questo lo voglio sottolineare. Migliaia di licenziamenti, macelleria sociale, per arrivare alle dimissioni del Consiglio di amministrazione. Io chiedo le dimissioni del commissario e di tutti coloro che sono i colpevoli di questa veramente tragedia che riguarda non solo il territorio di Fiumicino, ma tutto il territorio nazionale. Abbiamo voluto creare una compagnia di Stato per vendere le quote a chi? Ai francesi? Ai tedeschi? Agli inglesi? A breve l'Italia non avrà più una compagnia aerea. E voi ne siete i colpevoli. Grazie, senatore Devecchi. Sono così terminati anche gli interventi di fine seduta. E ora, secondo quando concordato, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 18. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Come sapete, è venuta a mancare Maria Romana De Gasperi, cognome dice subito la discendenza. E io credo che doverosamente quest'Aula possa e voglia ricordarla. E ci sono iscritti a parlare diversi senatori. Il primo è il senatore Paroli. Prego, a facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, nonostante avesse raggiunto la splendida età di 99 anni, Maria Romana De Gasperi, spentasi oggi a Roma, aveva mantenuto fino all'ultimo piena lucidità mentale ed era stata attenta a quanto accadeva in Italia e nel mondo. ma non va ricordata solo per essere stata la figlia di uno dei più autorevoli statisti, ma soprattutto per il suo impegno che ha attraversato l'intera sua esistenza, teso a conservare, mantenere e alimentare tra i giovani i valori in cui aveva creduto il padre e che avevano ispirato la sua opera nelle istituzioni del Paese, contribuendo in modo tangibile e riconosciuto dalla storia alla nascita della Repubblica e alla fondamentale scelta atlantica dell'Italia. Giova ricordare, colleghi, che Maria Romana fu preziosa collaboratrice politica e poi assistente personale del padre durante gli anni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ebbe un ruolo fuori dal proscenio, dietro le quinte, ma da riservata protagonista, dapprima a favore del ripristino della democrazia durante il secondo conflitto mondiale e poi negli anni di governo, fino all'uscita di scena del padre, visse da testimone diretta gli avvenimenti cruciali che hanno scandito la storia della nostra democrazia. Maria Romana ha contribuito alla nascita della Fondazione De Gasperi e attraverso essa ha svolto un'intensa attività editoriale, convegnistica e di testimonianza, finalizzata a tenere viva la memoria di Alcide De Gasperi, del suo pensiero, dell'eminente ruolo rivestito nelle istituzioni. Credo che i numerosi riconoscimenti ricevuti da Maria Romana, in particolare dal Presidente della Repubblica Mattarella e da ultimo da Papa Francesco, attestino meglio di ogni altra prova il valore della persona. E noi vogliamo qui ricordarla per la sua semplicità, per la sua grande umanità e moralità, unite ad un rigore intellettuale non comune. Le siamo grati per aver incarnato gli ideali del padre e averli alimentati e tramandati nel corso della sua lunga esistenza, ideali sui quali si è realizzata la Repubblica e che sono divenuti bagaglio essenziale per tutti noi che crediamo profondamente nella libertà e nella democrazia liberale. Alla famiglia di Maria Rosaria De Gasperi giunga il commosso cordoglio dei senatori di Forza Italia. Grazie. La ringrazio. Senatore Zanda, se ritiene a facoltà di intervenire. Grazie, grazie signor Presidente. Maria Romana De Gasperi, una scomparsa che io penso tocchi molto l'opinione pubblica del nostro Paese, che non la ricorda soltanto per il suo cognome importante, ma anche come una grande donna, una personalità esemplare per doti morali, qualità civili, per un rilevante spessore culturale che abbiamo conosciuto anche nelle tante cose che ha scritto ed anche che emergeva spesso per l'assoluta riservatezza del suo comportamento. Una dote che apprezziamo in modo particolare in questo nostro tempo, diciamo la verità, spesso tanto sguagliato. Maria Romana era figlia di Alcide De Gasperi, figlia e collaboratrice stretta dello statista cui più di qualunque altro noi dobbiamo la nostra democrazia. L'impostazione di quella politica di sviluppo che ci ha portato a diventare la settima potenza economica del pianeta da Paese distrutto da una guerra mondiale terribile persa. Lo statista che ha determinato la collocazione internazionale dell'Italia in Europa e nella Nato. Maria Romana completa la figura del padre Alcide, non solo perché è stata sua stretta collaboratrice, come ho già detto, ma anche perché ha mostrato con chiarezza quanto il ruolo della famiglia di un grande leader possa pesare nella stessa storia del Paese. E va ricordata quindi per le sue qualità personali, intellettuali e morali e per la grande discrezione con cui è vissuta, ma anche per la forza civile e democratica che Alcide De Gasperi ha ricevuto dalla sua famiglia, a cominciare proprio dalla moglie Francesca e dalla figlia Maria Romana. Dobbiamo quindi anche a Maria Romana De Gasperi parte del merito per la grande dignità con cui l'Italia è uscita dal fascismo. Grazie Presidente. Di recente mi è capitato di rivedere una miniserie televisiva che riguarda la figura di Alcide De Gasperi, l'Uomo della speranza con la regia di Liliana Cavani. In questa bella opera filmica emergeva la figura di Maria Romana. Leggiamo tanto, ma quando poi ci sono le immagini che ce lo testimoniano e sono più vicine a noi. E di quanto la primogenita di Alcide De Gasperi abbia partecipato alla vita di suo padre. E Maria Romana infatti ad assistere De Gasperi, Presidente del Consiglio, ad assisterlo come segretaria privata senza stipendio. È lei che lo accompagna nella difficilissima conferenza di pace di Parigi e descrive anche quell'attimo importante quando lei dice «Io c'ero, ricordo il silenzio assordante dopo il suo intervento». E poi negli Stati Uniti, nel 1947, era lei accanto ai giornalisti con il padre. E così Maria Romana è diventata una memoria storica del Novecento, come titola anche un giornale «L'avvenire di oggi», con i suoi saggi, i suoi scritti, la sua storiografia, l'attività della fondazione di cui era presidente, la sua raccolta documentaria. Ripensavo nello stesso tempo alla sua vita da bambina, dei racconti che lei faceva, con una grande tenerezza, quando il padre fu arrestato dalla polizia fascista, e lei racconta che al CIDE si sentiva sicuro che l'avrebbero mandato libero, perché in fondo era un deputato che criticava il governo, ma lo condannarono a quattro anni. E la madre racconta che non era riuscito neanche a piangere. Un altro episodio che Maria Romana raccontava è di un regalo del 1927 che il padre gli fa, dei pezzetti del National Geographic, perché non c'erano risorse per farlo. E allora immaginavo quale esempio, quale esempio, abbiamo avuto Maria Rosaria, Maria Romana De Gasperi, quale esempio di rettitudine, di etica, di morale e di spiritualità. E quindi ci lascia una donna importante, testimone del Novecento appunto. Abbiamo perso un'osservatrice scrupolosa degli eventi, una paladina appunto di valori ideali e conserviamo però tutto quello che ci ha voluto donare e tramandare, tutte le vicende che hanno portato alla ricostruzione del nostro Paese. Lo ricordava adesso il senatore Zanda, in questi tempi difficili che stiamo vivendo, mai come adesso abbiamo il dovere di raccogliere il suo testimone e se c'è momento nel quale la storia è magistra vitae. Credo che dalle cose che ci ha tramandato e ci ha lasciato Maria Romana dobbiamo imparare molto. Naturalmente siamo vicini al cordoglio della sua famiglia, dei suoi amici e di quanti l'hanno amata. Grazie. Senatore De Bertolti, prego. Grazie Presidente. Per un Trentino ricordare la figura di Maria Romana De Gasperi è un motivo non solo di particolare onore ma anche di una particolare riflessione e anche commozione. Per tutti coloro che sono nati in Trentino, la famiglia De Gasperi e il padre Alcide hanno rappresentato da sempre un riferimento culturale, ideologico, comportamentale e quando noi pensiamo a Maria Romana De Gasperi pensiamo ad una figura tutt'altro che secondaria nella storia della nostra democrazia. Noi nel renderle omaggio, nel rendere omaggio a nome del gruppo di Fratelli d'Italia e nell'esprimere il nostro più profondo cordoglio, vogliamo ricordare quanto importante sia stata Maria Romana una figlia che è saputo essere al fianco del padre, in certi momenti all'ombra del padre, una persona che ha saputo non ricercare il protagonismo ma proprio per questo essere protagonista della vita culturale e politica del nostro paese. Dobbiamo a lei tanti momenti culturali, lei è stata la fondatrice e la presidente onoraria ora, fino alla sua morte, della fondazione De Gasperi. Una fondazione che ha raccolto tutta la documentazione, la storia culturale, politica di Alcide De Gasperi, un uomo dell'altro secolo, un uomo che ha saputo e ha vissuto a cavallo non solo di epoche ma a cavallo anche di una realtà storica che ha visto il nostro territorio passare dall'appartenenza a un territorio certamente non italiano, dall'appartenenza all'impero asburgico, austro-ungarico allo Stato italiano. Quindi De Gasperi ha vissuto da protagonista nelle due fasi dell'appartenenza del Trentino a mondi diversi, a realtà storiche diverse. Ecco, De Gasperi ha saputo esserne protagonista comunque. Io voglio ricordare la figura di Maria Romana come testimone di tutti i momenti della vita del padre, i momenti nei quali il padre ha rappresentato la rinascita di questo Paese, la rinascita democratica e liberale, ha rappresentato una barriera fortissima verso quella deriva del comunismo del dopoguerra che ha rischiato di portare l'Italia in una situazione certamente non consona ai desiderata degli italiani. De Gasperi in quegli anni nel dopoguerra è stato la barriera al comunismo. De Gasperi ha rappresentato i valori liberali e cattolico-democratici che hanno portato il nostro Paese agli anni dello sviluppo, agli anni del boom economico. Ecco perché il lavoro di Maria Romana è stato quanto mai apprezzato da noi tutti, perché lei ha saputo testimoniare il ruolo che il padre ha avuto per la nostra nazione, per i nostri cittadini, per i valori che noi oggi tutti vogliamo incarnare nella nostra attività politica e nella nostra vita quotidiana. Ma io voglio ricordare anche l'impegno che ci mise Maria Romana per ricordare la figura dell'autonomia, perché De Gasperi è stato un protagonista di un'autonomia che mi sia permesso di dire è stata in parte tradita dopo la sua morte. De Gasperi ideò l'autonomia regionale, quell'autonomia della regione Trentino Alto Adige che doveva dare come adatto a un territorio periferico di montagna, a un territorio che aveva certamente anche dei problemi di convivenza, doveva dargli delle prospettive e gliele ha date, perché la prospettiva regionale di De Gasperi conseguente anche agli accordi De Gasperi-Gruber e mi avvio la conclusione sono stati determinanti per il nostro Trentino. Un Trentino che quindi ricorda la figura di Maria Romana e del padre Alcide con la massima rispetto e con il massimo ovviamente cordoglio ci rivolgiamo alla famiglia per esprimerle la nostra vicinanza e il nostro pensiero. Grazie. Grazie senatore De Bertoldi. Il senatore Quagliariello si è iscritto a parlare, ne ha ovviamente la facoltà. Grazie presidente. La collega parente è voluta partire da un'immagine, da un filmato. Io vorrei partire da un libro, De Gasperi, un uomo solo. Se dovessi consigliare ad un ragazzo che si avvicina alla politica una bibliografia di formazione, al primo posto metterei questo libro e forse dopo quello di un altro grande europeista, il Tiero Spinelli, come ho fatto a diventare saggio. Sono due libri molto differenti tra di loro, che esprimono anche un europeismo molto diverso, ma spiegano le ragioni epocali della sovranazionalità e spiegano anche come alcuni tragitti politici che partono da punti di partenza completamente diversi si possano incontrare. È un libro importante quello di Maria Romana De Gasperi. Lo è innanzitutto da un punto di vista letterario, perché è un libro bello, godibile. E poi da un punto di vista storiografico, perché è entrato a pieno nel dibattito sulla figura di Alcide De Gasperi. In qualche modo quella interpretazione che veniva da chi gli è stato vicino e testimone della sua azione politica si è contrapposta a quella di un grande storico, che è agito non a livello della memoria, ma a livello della ricostruzione storiografica. Mi riferisco a Pietro Scopole e alla sua proposta politica di De Gasperi. Erano due interpretazioni differenti. Una voleva un De Gasperi che orgogliosamente difendeva la stagione centrista, la stagione che poi è stata riconosciuta come la più felice della Repubblica, anche da tanti storici ed economisti di sinistra. E l'altro invece che riteneva che il suo percorso avrebbe portato inevitabilmente al centro-sinistra, quella che fu invece una conseguenza voluta da quanti gli successero nella democrazia cristiana. Ma soprattutto quel libro si caratterizza per una grande, infinita umanità. È la testimonianza della grandezza della politica e anche della sua durezza. Perché quel libro ci mostra come chi a tutti gli effetti deve essere considerato il nostro ricostruttore, il National Builder che salvò l'Italia dalla guerra, dalla fame e dal comunismo, abbia dovuto subire durezze e accuse indicibili. Si dovette persino difendere dall'accusa di non essere un italiano. E quel libro ci dice anche molte cose attuali. L'ultima spina di De Gasperi che Maria Rosaria ricostruisce, fu quella della CED, dell'esercito europeo. E vorrei che qualcuno rileggesse oggi le sue lettere dalla Val Sugana per capire quanto è importante per la dignità di un Paese rispettare gli impegni internazionali che si assumono. E infine è un libro che ci spiega come la politica sia una missione. E in questo trova la sua bellezza e il suo riscatto, anche il riscatto dalle sue ingiustizie. Io ho un ricordo personale di Maria Romana perché l'ho frequentata anche per ragioni professionali quando ho scritto sul padre. E ricordo un tratto di dolcezza, di innata cortesia, ma anche di una intransigenza che arrivava quasi alla durezza. Che mi fa capire come a volte essere dei moderati, come certamente lo era lei o lo era stato suo padre, vuol dire dover avere la schiena dritta ancora più di chi ha posizioni radicali. Sono tutte cose che noi dovremmo recuperare alla politica di oggi, che la politica ha in parte smarrito. E se volessimo oggi ricordare veramente Maria Romana dovremmo farlo con questo impegno da parte di tutta l'Aula. Grazie. Senatrice Elena Testora, facoltà di intervenire, prego. Grazie Presidente, colleghi. Questa notte all'età di 99 anni si è spenta Maria Romana De Gasperi, primogenita di Alcide De Gasperi. Ho conosciuto e incontrato diverse volte Maria Romana e per questo la ricordo con molta commozione. E da quest'Aula vorrei rivolgere le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il gruppo Lega ai familiari e alle tante persone che le hanno voluto bene, va la nostra vicinanza. Nata a Trento nel 1923, a solo quattro anni, quando comincia a soffrire per l'assenza del padre, arrestato nel 27, Maria Romana trascorre l'infanzia e l'adolescenza nella sobrietà, studiando a Roma e laureandosi in lettere alla sapienza. Da subito attiva all'opera del grande statista e con lui vive momenti cruciali della storia della Repubblica. Lo assiste come segretaria privata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, lo segue e accompagna nei viaggi di rappresentanza e durante i memorabili incontri con le più illustre personalità politiche internazionali conosce quindi Schumann e Adenauer durante il processo di unificazione europea. E lei c'era a Parigi nel 1946, alla conferenza di pace dove De Gasperi rappresentò l'Italia. In un'intervista ricordava «Io c'ero, ricordo il silenzio assordante dopo il suo intervento, imputato, responsabile di una guerra che in realtà aveva combattuto». Maria Romana De Gasperi ha dedicato completamente tutta la sua vita al padre, quel padre amatissimo, tanto da diventare custode e divulgatrice del suo pensiero, della sua straordinaria attività politica. Autrice di numerosi libri sul grande statista, è stata presidente onorario della Fondazione De Gasperi, dalla stessa istituita nel 1982, diventata appunto di riferimento nel panorama politico e culturale italiano per chi si rivede nell'originario spirito europeista De Gasperiano, dei valori vissuti e sostenuti da Alcide De Gasperi, come la centralità della persona umana, la difesa della democratica e l'integrazione europea. Maria Romana diceva di sentirsi trentina, a tutti gli effetti, e infatti ha sempre mantenuto con il trentino un rapporto intenso. Tornava ogni volta che c'era un incontro o un'iniziativa dedicata alla memoria del padre. Fu lei, in uno degli incontri, proprio in Trentino, a ricordare la più grande delusione di Alcide De Gasperi, quando nelle settimane prima di morire, nel 1954, vide sfumare la possibilità di costruire un esercito europeo e a provvedere ad una difesa comune in Europa. In quella occasione Maria Romana raccontò di aver visto per la prima volta il padre piangere, proprio quando capì che il momento stava passando. La sua vita è stata segnata da diversi lutti, ma ripeteva spesso di aver avuto la fortuna di vivere la sua giovinezza davanti a un uomo onesto, che con il suo esempio le aveva insegnato il coraggio e di tenere fede alle proprie idee, anche se causa di sofferenza e di soddittudine e ad affrontare le difficoltà con tenacia. Maria Romana De Gasperi ha incarnato alla perfezione gli ideali del papà, tenendo alto il suo nome, con il costante e prezioso impegno per conservarne e diffonderne la memoria. Da Trentina, ma soprattutto da Ladina, non posso non ricordare l'importante pensiero di Alcido De Gasperi, promotore dell'accordo De Gasperi-Gruber, i cui principi fondamentali si basano sul rispetto della diversità linguistica come concetto di convivenza tra i popoli, principi alla base della costruzione della stessa unità dell'Europa, che si fonda sul rispetto delle diversità culturali dei relativi Stati membri, radicate nella grande ricchezza linguistica. Riprendo le parole dell'arcivestico di Trento, Laura Otisi, Maria Romana De Gasperi è scomparsa nei giorni in cui i cannoni rimbombano vicini, forse una ferita troppo grande da sopportare, dopo aver condiviso da vicino il sogno dei padri fondatori di un'Europa unita e in pace. Concludo volgendo un pensiero di riconoscenza per le sue testimonianze, per i suoi racconti, che ci hanno permesso di conoscere Alcido De Gasperi da una prospettiva non solo politica, ma anche di uomo e soprattutto di padre. E una delle tante testimonianze, forse la più tenera, ci parlava di un papà che non raccontava le favole alla sua figlia prima di andare a dormire, ma raccontava il Vangelo. E oggi possiamo dire che quel Vangelo soprattutto lo viveva. E quindi un grande uomo che ha saputo crescere una grande donna. Ciao Maria Romana, che la terra ti sia lieve. Grazie. Abbiamo così concluso gli interventi che hanno doverosamente ricordato Maria Romana De Gasperi. A questo punto invece l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge e conversione in legge con modificazione del decreto legge 25 febbraio 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei Deputati. La Presidente delle commissioni riunite terza e quarta, Senatrice Pinotti, riferisce sui lavori della commissione. Senatrice Pinotti. Grazie Presidente. Nonostante le migliori intenzioni delle commissioni esteri e difesa, che hanno provato anche oggi pomeriggio a riunirsi dopo il parere della bilancio, il parere della commissione bilancio è arrivato pochi minuti prima dell'inizio dell'aula. Quindi siamo riusciti a prenderne atto come commissioni, ma non abbiamo potuto concludere il provvedimento e votare il mandato al relatore. La ringrazio Senatrice Pinotti. Quindi, onorevoli colleghi, in regalazione a quanto riferito dalla Senatrice, il disegno di legge non essendosi concluso all'esame in commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, senza relazione ai sensi dell'articolo 44,3 del regolamento. Il primo iscritto a parlare è il Senatore Zanda. Per la verità sarei io, Senatore Zanda, ma non mi posso sdoppiare. Quindi, leggevo volentieri, molto volentieri il posto. La ringrazio molto per avermi dato la parola e anche per questa particolare cortesia. Inizio dicendo che intervenendo su un provvedimento molto rilevante, i cui contenuti verranno analizzati e ben evidenziati in questa discussione generale, io vorrei svolgere soltanto qualche considerazione di carattere politico. Mi ha molto colpito il dibattito che si è svolto ieri nelle commissioni riunite esteri e difesa. Un collega senatore ha sostenuto, e mi scuso per la sintesi, che in fondo per un Paese come l'Italia l'armamento non può avere fetti di deterrenza, perché oggi l'unica deterrenza che conta è quella nucleare. E questa dichiarazione mi ha sorpreso. Non tanto per il suo contenuto, perché il peso della deterrenza nucleare non può certo essere messo in discussione, quanto perché mi è parsa sottostimato il rilievo e il peso della guerra in Ucraina e le modalità con cui si sta combattendo da più di un mese. E' il coraggio degli ucraini che con i loro armamenti tradizionali ha impedito che la Russia occupasse in 24 ore l'intero Paese. Gli armamenti nucleari sono la deterrenza che ferma il mondo davanti ai rischi di una terza guerra mondiale, ma sono il coraggio, le armi tradizionali e le nuove tecnologie, il deterrente nei confronti di quegli Stati canaglia che vogliono aggredire ed invadere nazioni libere. Questa è la ragione per la quale l'Italia, quasi all'unanimità, approva la nostra partecipazione all'invio di armamenti destinati alla resistenza ucraina. Un altro collega senatore, sempre ieri in Commissione, intervenendo sull'ordine del giorno che invita il Governo a dar seguito all'impegno italiano a stanziare il 2% del bilancio per il parto della difesa, ha chiesto di riflettere su quali siano le ragioni ultime per le quali l'Italia deve o non deve rafforzare il suo sistema di difesa con la massima urgenza possibile. Questa questione è di grande importanza perché è vitale per noi conoscere le ragioni di fondo delle nostre decisioni. Non voglio intervenire anch'io sul dibattito politico delle ultime ore, sul voto della Camera dei Deputati sul 2% con il concorso di tutta la maggioranza e nemmeno sull'onore della Repubblica, messo alla prova quando si discute se e come mantenere gli impegni sottoscritti da tutti i governi che si sono succeduti almeno negli ultimi 15 anni. Sono questioni importanti, così come è importante conservare sempre la memoria del passato recente e quello meno recente. Ma oggi il punto centrale è un altro. Qual è la ragione strategica per la quale l'Italia deve potenziare il suo armamento difensivo ed anche contribuire ad armare la resistenza ucraina? E qual è l'urgenza? Perché i nostri impegni con la Nato debbono essere onorati subito e non secondo un noto costume italiano rinviati? La forza dirompente dell'invasione armata dell'Ucraina da parte della Russia di Putin segna un taglionetto tra un prima e un dopo nella storia dell'Europa del nostro tempo e conseguentemente nella storia del mondo. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale i confini di un grandissimo Paese europeo democratico sono stati violati dalle forze armate di una grande potenza confinante, con una forza infinitamente maggiore e con il dichiarato obiettivo di assoggettarlo in tutto o in parte. Ma la gravità dell'invasione dell'Ucraina, già pesantissima di per sé stessa, va inquadrata in un contesto più vasto, che ne segna la vera natura e il livello di gravità. L'Ucraina segue interventi armati della Russia di Putin, gravi e illegali, in Cecenia, in Georgia e in Siria. Segue l'annessione della Crimea e il riconoscimento unilaterale della indipendenza di due province ucraine del Donbass. Ma segue anche numerosi avvelenamenti di oppositori del regime russo, l'uccisione o il carcere per tanti giornalisti liberi, la chiusura di giornali, televisioni, network informativi indipendenti, per non dire delle interferenze tecnologiche nelle elezioni di diverse democrazie occidentali. Questo è il contesto che qualifica l'aggressione russa all'Ucraina e che va valutato attentamente per comprendere bene i rischi che sta correndo l'Europa occidentale. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Nato non solo hanno considerato l'invasione russa un atto di guerra e una violazione del diritto internazionale ingiustificati, gravissimi e intollerabili, ma anche un chiaro indice di una brutale politica di aggressione messa in atto da un potere assoluto che oggi governa una grande potenza come la Russia. E' la politica del Presidente Putin che ha determinato non solo una vasta solidarietà dei confronti dell'Ucraina e della resistenza dei suoi cittadini, ma anche un intenso allarme per la sicurezza dell'Europa occidentale, che improvvisamente si è vista non astrattamente, ma molto seriamente esposta a rischi evidenti di carattere militare. Ha ragione Biden quando parla di una sfida tra i regimi autoritari e le democrazie. Ed ha ancora più ragione Zelensky non solo quando chiede che la resistenza ucraina venga aiutata anche militarmente, ma anche quando sollecita che gli aiuti arrivino subito e non dopo che l'invasione avrà occupato per intero il suo Paese. Ed ha ancora ragione Zelensky quando ci ricorda che gli ucraini non stanno combattendo solo per la loro patria, ma per l'intera Europa occidentale. Perché è così. Oggi è la pace in Europa ad essere stata compromessa e noi, aiutando l'Ucraina, aiutiamo anche noi stessi e la nostra democrazia. Tutto diventa quindi urgente, ben sapendo che la sicurezza dei Paesi dell'Europa occidentale è garantita dall'Alleanza della Nato, ma che questo non basta e che la realizzazione di una politica estera e di difesa europea sono e resta il nostro obiettivo, ma non sono e non possono essere realizzate in tempi brevi che servirebbero. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma considera sacro il dovere di difendere la patria. E lo sottolineo. Il dibattito su quale debba essere la priorità tra la spesa per la difesa della patria e quella per le politiche sociali è sempre esistito. Governi precedenti all'attuale hanno aumentato, ed io l'ho approvato, la spesa per la difesa del nostro Paese, nonostante dovessero fronteggiare imponenti percentuali di disoccupazione giovanile. E allora non c'era la guerra che oggi invece c'è. Oggi dobbiamo riflettere sul fatto che la nostra Costituzione ci richiama molti doveri, ma considera sacro un solo dovere, quello di difendere la patria. Grazie. Grazie senatore Zanda per il suo bellissimo intervento. Do la parola alla senatrice Paola Nugnes. Grazie presidente. Come si esce da un conflitto? Lo ha detto il Papa, per lui non con le armi, neanche per noi. E lo ha detto indirettamente anche il presidente Mattarella, per cui vi siete spellati le mani solo poche settimane fa. Con la pace è sempre e dove Rosa è possibile, ha detto. Ma ci sono solo due possibilità per uscire da un conflitto, o costruendo con la diplomazia un complesso e delicato equilibrio geopolitico che rassicuri tutte le parti, o con la guerra, con il conflitto armato, la violenza che prevede solo un finale, l'annientamento militare dell'avversario, con un costo, in termini di vite innocenti, considerato in tanti casi un costo necessario. Avete ragione, la complessità degli equilibri della geopolitica è enorme, ma sono soprattutto gli interessi in gioco ad essere in mani. Bisogna essere realisti. Proprio per questo la semplificazione della polarizzazione che volete imporre come verità assoluta e immutabile non va bene. Gli impegni del Governo ad aumentare la spesa militare fino al 2% del PIL sono un impegno preso con la Nato già nel 2014, è vero, ma non rappresentano un impegno vincolante assoluto. Non sono previste conseguenze e sanzioni. Così come non era un impegno vincolante per la Nato quello di non doversi spingere ad est neanche di un centimetro o come quello di sciogliere l'alleanza nel 1992. La Nato stanzia già 18 volte la spesa militare della Russia, 1.103 miliardi, la Cina 252, l'India 79, la Russia 61 miliardi. In Italia vorrebbe dire passare dai 25 miliardi l'anno ai 38 miliardi l'anno. Il sito della Nato spiega che la soglia del 2% rappresenta un indicatore della volontà politica dei diversi Paesi. Bene, quindi si parla di volontà politica e la volontà politica non può essere immutabile. Cos'è la democrazia di cui vi gonfiate tanto il petto e con cui vi riempite tanto la bocca, se non la volontà politica del popolo, espressa attraverso la propria sovranità esercitata con il voto? Che impegni abbiamo noi con il popolo italiano che per il 50% in piazza si dice contrario all'invio di armi? Che impegno con la democrazia, con la volontà espressa dal popolo sovrano che quattro anni fa ha votato con quasi il 34% di preferenze un partito, il Movimento 5 Stelle, con questo programma che prevedeva testuali, uno, ripudio della guerra, due, disarmo come premessa alla pace, tre, la Russia, partner economico contro il terrorismo, quattro, riforma della Nato in un'ottica multilaterale finalizzata alla pace. Credo che il vostro estremo realismo politico sovranazionale vi costringa a riporre nel cassetto non solo la Costituzione, non solo il Parlamento con le sue funzioni, ma anche questa parola da voi abusata, democrazia, che non corrisponde più alla forma di governo esercitata dal popolo tramite i suoi rappresentanti, ma neanche all'espressione del libero pensiero, se divergente dalla vostra ideologia assolutista. E a cosa ci ha portato la propaganda sull'esportazione della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli, ma orientata pericolosamente secondo alcuni precisi interessi, operata spostando pericolosamente assi delicatissimi di equilibri instabili, come in Iraq nel 2003 o in Siria nel 2011, ci ha portato esattamente al punto in cui siamo precipitati oggi. Da questo decreto, ma soprattutto dall'ordine del giorno approvato alla Camera, mi sembra si voglia procedere celermente e speditamente alla seconda ipotesi di cui dicevamo sopra, alla guerra. Ad una guerra che non debba finire oggi, ma una guerra perenne tra blocchi contrapposti, tra noi e loro, che ci fa precipitare indietro al secolo scorso, ma non ce lo possiamo permettere. Ma con quali costi? Costi umani, abbiamo detto, e costi ambientali, certamente, ma ci sono anche i costi economici. E forse, seguendo la linea dei costi e dei guadagni in termini economici di questa guerra, possiamo capire qualcosa di più, chi ci guadagna e chi ci perde. E quali interessi? Stiamo rispondendo. Qual è la situazione da noi? Il gas, le materie prime per l'industria, ma anche il grano e il mais per i mangimi animali e fertilizzanti ci vengono dai paesi in guerra. E quindi, zincarano. Sono in aumento anche il costo del vino e il rischio del turismo italiano. Aumenta il costo dell'energia, della benzina, ma anche il pane e la pasta, i prodotti dolciari. A causa del lamento del mais, che è un mangime animale, sale anche il prezzo della carne e del latte. Questi aumenti sono per il momento frutto del nervosismo dei mercati, come definisce Draghi il meccanismo speculativo del libero mercato, che in via preventiva hanno rialzato i prezzi. Ma molto dipenderà da quanto tempo durerà questa guerra. Chiaramente sul gas non ci sono stati le sanzioni, quindi ancora la fonte costa più o meno lo stesso, ma da noi è rincarato il 30%. Gli osservatori economici ci dicono che se la Russia decidesse di ridurre anche del 10% le sue forniture di gas all'Italia, noi perderemo lo 0,8% del PIL previsto nel 2022. Intanto la Russia si organizza per vendere il gas a destra, alla Cina e all'India. Chi sarà travolto quindi dai costi alla guerra? Certamente l'Europa e certamente l'Italia, mentre gli Stati Uniti d'America sono in una botte di ferro, perché da noi la Russia è il secondo o terzo partner commerciale per gli Stati Uniti è solo il trentesimo partner commerciale. Questo naturalmente se non scoppierà la guerra, la terza guerra mondiale, voglio intendere, perché con la bomba atomica è stato calcolato che l'Italia sarebbe spazzata via in solo 12 minuti. Pace. bene, si fa perdire naturalmente. Il prossimo intervento è riservato al senatore Dalmas. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio il collega Gasparri della fiducia preventiva in meritata. Io ho condiviso le parole in gran parte dell'intervento del senatore Zanda nell'importazione che gli ha voluto dare al suo intervento e condivido senza sé e senza ma il fatto che c'è stata una violazione del diritto internazionale grave della Carta dell'ONU, un Paese aggressore e un Paese aggredito che si difende da giorni, strenuamente e con l'aiuto dell'Occidente e anche del nostro Paese. Noi non dobbiamo avere esitazioni su questo. Il neneismo che appartiene alla storia di questo Paese, che qualcuno oggi vorrebbe far rivivere con qualche resipiscenza, resipiscenza comportamentale, perché quando stava Presidente del Consiglio, pur aveva aumentato le spese della difesa, improvvisamente ritiene che tutto ciò non sia conveniente e non riesce a spiegarlo ai suoi elettori. Ce lo spiegava prima la Nunez. No, abbiamo chiesto i voti per questo, oggi non siamo. Allora quei voti dovete restituirli perché li avete presi illegittimamente, non democraticamente, perché avete violato i principi sui quali si fonda la nostra carta costituzionale, cioè la libertà di manifestazione del pensiero. Avete imposto un pensiero via etere sul quale avete cercato conferma più che nella conferma delle urne. Cos'è successo? Cosa sta succedendo in questi giorni? Noi ovviamente ci auguriamo, come tutti, che questa guerra finisca presto e la diplomazia riesca a trovare una soluzione. Però non possiamo pretendere e pensare che tutto ciò accada così, da solo, per autofacilitazione. La storia, purtroppo, diceva Hegel, è un banco da macellaio. Sono parole terribili. Lo stesso autore ha detto che la storia è finita. In realtà la storia ricomincia sempre dalla fine di qualcosa, si ripresenta. Era convinto che con Napoleone ci fosse la grande codificazione dell'Europa e quindi l'Europa entrasse in pace. Non è successo questo. Abbiamo avuto il Novecento, un secolo con due guerre mondiali. E oggi ci troviamo ancora una guerra dentro l'Europa. Rispetto alla quale, con una caratteristica particolare, cioè dopo l'evento che qualcuno si è dimenticato, che ha segnato la storia più brillante della politica estera dal 2000 in poi, cioè pratica di mare, con il Presidente Berlusconi, quando il mondo incominciava, quando Putin stesso ebbe a dire, e qui potete smentirmi, inizia una collaborazione con la Nato. Questa fu una visione nella quale noi italiani dobbiamo riconoscerci. La storia della Russia è una storia vicina all'Europa, una storia dell'Europa. Emanuele Severino, prima di morire, riconobbe questo dicendo che proprio una caratteristica indiscussa nell'abilità politica di Berlusconi fu nel vedere nella Russia di allora la possibilità, nella Russia di Putin, di un avvicinamento agli ideali europei e alle opposizioni europee. Poi ci siamo dimenticati, improvvisamente il mondo è cambiato. C'è stata la primavera araba, c'è stato di tutto. E abbiamo fatto, tutto è accaduto. Penso alla guerra di, penso alla vicenda della Crimea 2014, ci siamo girati dall'altra parte. Il mondo si è girato dall'altra parte. Abbiamo lasciato che ci fosse quell'invezione, che nessuno dicesse alcunché. Anzi, qualcuno dice ci siamo alleati, abbiamo chiesto il voto alleandoci con quella Russia di Putin che avrebbe combattuto il terrorismo internazionale. D'accordo, ma nel frattempo qualcosa era successo. Era successo in quel paese. Saranno le memorie del sottosuolo. Sarà il sottosuolo russo che determina queste cose. Non vorrei citare Dostoievski, ma Ivan Karamazov sicuramente avrebbe pensato all'Europa non come un'Europa di invasione, ma come una culla di civiltà. Bene, oggi noi credo non dobbiamo avere dubbi ed esitazioni sulla collocazione del nostro Paese. È bene fatto e bene fa il Presidente del Consiglio dei Ministri ad avere una posizione chiara, a tratti anche intransigente rispetto a taluna e quelle che ho prima definito resipiscenze, che farebbe anche rima con altre cose, le quali mi astengo. È bene una posizione chiara, univoca, dell'Occidente, laddove in un momento in cui addirittura Putin sostiene e dice che sta conducendo una guerra contro il relativismo. Stia tranquillo perché quella battaglia contro il relativismo l'aveva già vinta un Papa polacco e poi un Papa tedesco. E oggi abbiamo l'azione di Papa Francesco. Lo dice una persona che non frequenta ogni domenica la Chiesa, ma che è convinta che esista un ordine nel mondo ed esiste la possibilità di garantire la pace nel mondo, non attraverso l'ampliamento delle sfere di influenza. Questa non è una guerra di conquista, mi sembra una guerra di posizionamento. Sembra, c'è quasi l'idea per cui ci siano degli imperi, non più nazioni, ma imperi. Allora l'impero russo e cinese, che vuole governare il mondo contro l'impero occidentale o ciò che ne rimane, io direi anche sommessamente l'impero latino. Chi diceva queste cose era un allievo, proprio era un russo che insegnava negli anni 30 a Hegel a Parigi e diceva proprio queste cose, finirà così. Ebbene, quel funzionario che si chiamava Kochev era colui che realizzò il VTO per conto della Francia e quindi fu un funzionario praticamente del Ministero degli Esteri che organizzò il commercio internazionale ad immaginare che questa sarebbe stata la sorte del mondo, la sorte dell'Europa. Ebbene, abbiamo teorizzato la storia alla fine della storia, ma siamo alla fine della fine della storia, quindi siamo sempre ad un nuovo inizio, siamo sempre ad un inizio. E l'inizio non può che incominciare incominciare dagli atti concreti, da quello che abbiamo chiesto l'altro giorno, che questo Senato ha chiesto insieme ai colleghi di quest'Aula, quando in un confronto con il Governo abbiamo chiesto un impegno concreto per la popolazione ucraina, per i rifugiati, per i bambini, soprattutto per coloro che arrivano qui senza tutele, quindi minori non accompagnati. E c'è stato un impegno preciso del Governo, anzi avremmo voluto fare un emendamento e questo emendamento è stato superato dalla volontà di imporre un ordine del giorno che in realtà non abbiamo potuto presentare perché le cose stanno così, siamo arrivati in Aula senza relatore e probabilmente verrà posta la fiducia, credo, su questo Governo. Ecco, io credo che non ho dubbi sul fatto che l'Occidente sia ancora una culla di valori, anche se complesse e complicati, e molte cose debbano essere ripensate, riviste, finisco Presidente. Ho personalmente anche molte difficoltà a riconoscermi nella diffusione di alcuni concetti, però non ho dubbi su un fatto che l'Italia deve mettere tutto ciò che può a disposizione di chi combatte per la difesa della propria autodeterminazione, della propria libertà e del suo popolo e del suo territorio. Credo che non ci siano altre cose da aggiungere. Grazie. Grazie. Senatore Fusco. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membro del Governo. La crisi in Ucraina ha posto l'attenzione su un tema, quello delle spese militari, che in realtà è stato oggetto di ampio dibattito e di analisi, sia politico che accademico, nel corso di questi ultimi anni. A diverse riprese, nei vari contesti di approfondimento in Commissione, si è evidenziata la necessità di finanziare in maniera maggiore e allo stesso tempo di razionalizzare ed efficientare la nostra spesa militare. La grande attenzione causata in questo momento da uno scenario di guerra ai confini dell'Unione europea non deve confonderci e distoglierci da una riforma del nostro sistema di sicurezza che è quantomeno necessaria. La volontà di impegnare i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica a raggiungere la quota del 2% del PIL per le spese per la difesa si ricorda risale al vertice Nato nel settembre 2014 in Galles. Nelle conclusioni del vertice, al punto 14, si trova tal impegno. Il nostro Paese negli ultimi anni ha dato prova della volontà di rispettare tale promessa, invertendo la tendenza dell'abbassamento della spesa militare che è proseguita inesorabile dal dopo guerra. Pertanto, al netto del dibattito odierno, è plausibile pensare che il nostro Paese abbia già pianificato un percorso che porti a rispetto di impegni assunti in sede internazionale. È importante, però, lo sottolineo, non sovrappore la situazione di conflitto ai nostri confini con l'incremento delle spese per la difesa. Sarebbe un grave errore. Parlare di corsa a riarmo è improprio. Confonde l'opinione pubblica e non rende giustizia all'immenso lavoro che le nostre forze armate fanno per il nostro Paese. Investire nel settore difesa vuol dire anche e soprattutto investire in ricerca, in lavoro. Proprio nelle conclusioni del vertice della Nato, prima citato, viene esplicato questo concetto. Nel punto 14 si chiede che gli alleati spendono almeno il 20% delle spese militari, ricerca e sviluppo, perché la nostra sicurezza e la nostra difesa dipendono sia da quando spendiamo sia da come lo spendiamo. Per cui è certamente importante una volontà unanime ribadita in sede parlamentare. Ma è ancora più fondamentale avere una chiara visione di dove andare e di come voler migliorare la nostra spesa militare. Bene l'impegno quantitativo, ma che sia accompagnato da un impegno di modernizzazione ed efficientamento. Questa piccola osservazione, che può essere utile a un futuro dibattito sul tema. Per migliorare la spesa della difesa bisogna puntare ad avere una visione di interforze sempre più strutturale, che superi l'attuale approccio di forza armata divisa in settori chiusi e separati. A proposito dei sistemi d'arma, dei veevoli e di imbarcazioni, abbiamo grandi eccellenze industriali italiane che vanno tutelate e spinti a una maggiore cooperazione con gli altri grandi player europei mondiali. L'istituzione devono accompagnare e sostenere tale processo. Infine, investire e ribadisco investire nei processi di addestramento del nostro personale, che va formato sull'utilizzo di sistemi complessi e costantemente aggiornato. Ricordiamoci che il ruolo del personale e quindi del valore umano all'interno delle forze armate è anche superiore alla capacità tecnologica degli armamenti. Addestramento e aggiornamenti costanti, quindi anche ritribuzione che siano competitivi e funzioni non mortificanti. ricordandoci che le nostre forze armate devono svolgere un ruolo diverso da quelle delle forze di pulizia. Mi sia permesso, signor Presidente, di ringraziare il grande lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini, che ogni giorno si occupano della sicurezza nel nostro Paese. Sono stati fondamentali in questi due anni di pandemia e continuano a lavorare nell'ombra quotidianamente per l'Italia. Spesa militare non vuol dire solo fare la guerra, ma anche rendere giustizia a queste persone. In conclusione sulla questione ucraina vorrei dire solo un grande grazie ai nostri concittadini. In queste settimane ho assistito personalmente ad una vera e propria corsa alla solidarietà, grazie anche all'aiuto dei comuni in soccorsa alla popolazione ucraina, sia in termini di invio di aiuti umanitari che in termini di accoglienza. Un bellissimo esempio di solidarietà e vicinanza non scontato in un periodo certamente non semplice sul piano economico. È su questo e sugli sforzi diplomatici in favore di una risoluzione pacifica che dobbiamo lavorare, ribadendo tutta la nostra contrarietà a qualsiasi tipo di guerra. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Grazie Presidente. Si è sviluppato un dibattito in commissione soprattutto un po' singolare. si è sovrapposto il tema del disegno di legge sull'Ucraina dove ci sono delle cose utili, importanti che riguardano l'accoglienza dei profughi, che riguardano tutta una serie di misure che riguardano le imprese sulle quali ovviamente tutti quanti noi convergiamo e a questo dibattito a un certo punto si è inserito un elemento destabilizzante. L'elemento destabilizzante è stata questa discussione sul incremento della spesa militare. Quello che potremmo dire prima di tutto è che questo incremento della spesa militare deve partire da un'analisi dei dati perché se non abbiamo i dati noi sbagliamo l'analisi. I dati sono molto chiari, ce li ricorda il CIPRI che è l'istituto di ricerca di soccolma sulla pace. Nel mondo in totale ogni anno si spendono 2.000 miliardi di dollari per la spesa per la difesa, di cui circa il 40% è spesa dagli Stati Uniti con 780 miliardi di dollari. In questo contesto particolarmente importante l'Unione Europea spende 230 miliardi di dollari che è quattro volte come abbiamo già detto la spesa della Russia. Quando parliamo di un incremento delle spese militari dovremo iniziare a ragionare su qual è l'obiettivo, quale strategia vuole raggiungere l'Unione Europea. Quando parliamo di queste cose dobbiamo capire dove vogliamo andare a parare. Storicamente gli Stati Uniti hanno sempre svolto un ruolo fondamentale, detto quello dei gendarmi del mondo, ovviamente l'Unione Europea non ha questa pretesa, ma un riarmo importante, vediamo che sta avvenendo in Germania. La Germania ha deciso di stanziare 100 miliardi di euro, aumentando da sola la spesa complessiva dell'Unione di ben il 50%. Allora dovremmo un attimo ragionare, anche il Presidente Draghi ricordava questa anomalia della Germania, dovremmo iniziare a ragionare su qual è l'obiettivo che tutti quanti ci vogliamo porre. Perché se il concetto è che armarsi serve a tutelare l'interesse dei popoli europei, allora teoricamente bisognerebbe farlo sul serio. Allora non dovremmo parlare del 2%, forse dovremmo parlare di molto di più. Teoricamente bisognerebbe fare questo, no? Se vogliamo avere voce in capitolo. In commissione qualcuno ci ricordava del peso che hanno gli Stati Uniti all'interno della Nato, allora se vogliamo aumentare il peso non si capisce questo incremento, così repentino, così efficace, così immediato, dove ci voglia portare. Noi dovremmo iniziare a ragionare di queste cose, perché se no noi sbagliamo l'obiettivo. Ed è fondamentale ragionare su queste cose, anche perché poi vediamo quello che succede. Il Global Five Power, che è un'associazione che fa analisi delle potenze militari, ci ricorda che la prima nazione delle potenze militari è naturalmente gli Stati Uniti, seguita dalla Russia, ma l'Italia nell'Unione Europea è seconda dietro la Francia. Come dire, le nostre forze armate sono importanti, poderose, e ce lo dice qualcuno fuori dall'Italia. E tutto questo succede, ce l'ha detto la Rera poco fa, che in un anno le spese per l'elettricità sono aumentate dell'83% e le spese del gas del 73%. Allora il problema è di priorità. Qual è la priorità della nostra azione? Tutelare le persone, così come abbiamo fatto durante il conto 1 e il conto 2, le abbiamo messo a disposizione delle persone e delle imprese ben 130 miliardi di euro. Ricordiamocelo dell'azione che abbiamo fatto, 130 miliardi di euro, prima i cittadini e poi tutto il resto, e le imprese, perché se non sbagliamo completamente l'obiettivo. E quindi, quando vediamo questa situazione, noi dobbiamo ricordare perché siamo qua. Noi siamo qua per fare l'interesse delle persone. Punto. E basta. Solo questo dobbiamo fare. Mi piacerebbe che si ragionasse su questi temi e cosa significa, come ho detto prima, l'incremento di spese validare per fare in modo che l'Unione europea abbia una sua autonomia strategica? Beh, se si va verso l'autonomia strategica, questo comporta delle cose e tutti quanti magari un domani ne potremmo parlare, potremmo ragionare su cosa comporta una reale autonomia strategica dell'Unione europea, considerando che avvengono anche altre cose in campo industriale, come abbiamo ricordato quando c'era il Presidente Draghi, per esempio le grandi società di produzione di chip che vengono a investire in Europa, quindi un'autonomia strategica un po' strana, se vogliamo essere realmente autonomi. E questo è un discorso molto importante. Quando parliamo di spesa militare, dobbiamo ricordarci che la legge 244, in una parte della legge, in una nota specifica, spiega che bisogna arrivare a un equilibrio di 50%, 25%, 25%, cioè 50% spese per il personale, 25% per l'esercizio e 25% per i meni immobili, chiamiamoli così, potremmo chiamarli anche armi. Comunque, il bilanciamento oggi è tutto spostato sul peso del personale, 65% di quella spesa è per il personale. Quando parliamo quindi di incremento di spesa per riequilibrare quel 50%, 25%, dove dobbiamo andare a mettere i soldi? Allora, quando ragioniamo, noi dobbiamo stare realmente molto, molto, molto attenti alle azioni che facciamo. Ribadisco, io forse mi piacerebbe che in quest'anno si parlasse dei 100 miliardi che la Germania ha messo, ha deciso di mettere sulla sua spesa militare. Non è secondario, direi che è importante. Certo, non è che mi preoccupo, perché ben sappiamo la Germania come fa a finanziare la sua industria, però noi forse dovremmo ragionare qual è il ruolo del nostro Paese e su questi temi è quello, diciamo, che è il momento principale della nostra azione. Ribadisco, questo discorso si è fatto persino un po' ampolloso e persino un po' strano. Nel decreto ucraina, ribadisco, ci sono delle cose assolutamente importanti, assolutamente utili, ma pensare che nel 2023-2024 si incrementino le spese militari di ben 13 miliardi, come dire, ci fa forse dubitare di qual è la migliore azione che noi dobbiamo mettere in campo. Questa è stata la posizione chiara, pulita, limpida, netta, che il Movimento 5 Stelle ha assunto nella discussione che abbiamo fatto. Poi sembra pure un po' strano che un ordine del giorno presentato dall'opposizione sia stato accolto dal Governo senza neanche valutare l'opportunità di. È sempre un po' strano, è molto singolare, così come è singolare che non si sia riuscito a votare, nonostante una delle forze di maggioranza sia espressa in maniera assolutamente contraria a quell'azione. Sono tutte cose un po' strane e quindi siamo trovati ancora una volta, come tante volte è successo, da soli a sostenere una battaglia. Una battaglia, ribadisco, sempre nell'interesse delle persone, perché le persone fuori di qua ci chiedono di un aiuto per pagare le bollette. Noi dobbiamo intervenire su alcune cose, perché non possiamo immaginare di intervenire su alcuni gangli importanti. Quando leggiamo che il prezzo del gas di cui si è tanto parlato è legato ai TTF, cioè a quel sistema di scambio che avviene sulla borsa olandese, e vediamo che tutto avviene con i future, che nascono come titoli assicurativi, ma sono diventate poi speculazioni, e i future scambiati nel mercato del gas sono dieci volte il quantitativo di gas disponibile sul mercato. Ecco, forse dovremmo iniziare a fare un ragionamento su che significa comprimere un pochino la finanza e espandere un po' l'economia, perché con l'economia ne produciamo i posti di lavoro, non con la finanza. Forse dovremmo iniziare a fare questo tipo di ragionamenti, sono ragionamenti molto complessi, li dovremmo portare all'organizzazione del Mondiale del Commercio, ma non dobbiamo avere paura di affermare determinate cose, se no ribadisco il concetto, è sempre che sbagliamo l'obiettivo. Sul decreto, ho già detto, abbiamo una posizione chiara, il tema riguarda sempre tutte le cose che abbiamo detto. Cosa possiamo fare di più? Possiamo cercare di stare molto attenti, dobbiamo ricordarci qual è l'azione, dobbiamo ovviamente continuare a chiarire che c'è un aggredito e un aggressore, quindi a Russia è l'aggressore... Prego di chiudere perché il suo tempo è già passato. E questo lo ribadiamo in maniera chiara e netta, però se non mettiamo... Prego, concludo, è già oltre un minuto il suo tempo. Concludo, Presidente, se non mettiamo l'interesse dei cittadini davanti a altri tipi di interessi, noi sbagliamo l'obiettivo. Senatrice Bianca Granato, prego. Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, senatrici e senatori, oggi ci accingiamo a votare un decreto con il quale il Governo ha disposto, per conto del popolo italiano che non lo vuole, l'invio delle armi agli ucraini. Grazie a questo decreto siamo dunque ufficialmente parte cobelligerante in un conflitto che non ci coinvolge direttamente, ma che, anche a causa di questo atto sconsiderato, potrebbe durare più a lungo del previsto, con grave danno, sia per i cittadini ucraini usati come scudi umani dai loro stessi eserciti irregolari, sia per gli europei, che ne vedranno le conseguenze nefaste, sia sulle loro attività produttive, che sul loro tenore di vita e sulla loro sicurezza. In Consiglio di Europa, a cui giorni fa ha partecipato per conto dell'Italia Mario Draghi, infatti, si è stabilito che la guerra proseguirà fin quando Putin non lascerà l'Ucraina senza condizioni e non si ripristineranno i confini riconosciuti a livello internazionale, ossia finché le repubbliche del Donbass non torneranno a unificarsi all'Ucraina. Senza condizioni significa, salvaguardando anche la licenza per gli ucraini di proseguire le persecuzioni ufficiali e non dei filorussi impunemente, anche con una dotazione bellica incrementata a spese degli europei e del popolo italiano. Prima che Putin invadesse l'Ucraina, l'Europa ha tollerato le violazioni dei diritti umani dei cittadini filorussi in Donbass senza battere ciglio e ha tollerato che l'Ucraina non rispettasse i patti di Minsk e che quindi non sciogliesse le truppe irregolari neonaziste armate fino ai denti anche dagli USA ai tempi del colpo di Stato di Maidan. L'Ucraina ha oltretutto ospitato diversi laboratori finanziati dagli USA che producono armi biologiche e ben tre esercitazioni militari NATO nel 2021 sul suo territorio e ha reiteratamente provocato nei giorni precedenti l'invasione la Russia intensificando le aggressioni sulle repubbliche del Donbass. Oggi l'Europa e gli USA pongono quindi alla Russia condizioni irricevibili. Intendono promuoverle ad oltranza sotto banco nonostante le due parti in causa pare si stiano accordando. Oltre l'Atlantico, infatti, non si vuole la pace. Qual è dunque il nobile fine di questa raffinata elitto occidentale che vuole esportare la democrazia? L'isolamento e la destituzione di Putin perché sia sostituito con un fantoccio prono anche egli agli interessi d'oltreoceano, come d'altronde anche noi europei lo siamo. E il destino desiderabile per un Paese ricco di materie prime e di cultura sarebbe quello di rinunciare alla propria dignità, alla propria autonomia e sovranità in cambio di Netflix e di McDonald's? Quella non avremmo mai immaginato di vedere un capo di governo definirne un altro pubblicamente macellaio, dittatore assassino. Non avremmo mai immaginato che il Presidente del Consiglio italiano prendesse le parti di una testata giornalistica che ha inneggiato esplicitamente all'omicidio del capo di Stato della Federazione russa. Quella di Europa e USA è una condotta irresponsabile, innanzitutto verso il popolo ucraino usato come carne da cannone, verso i popoli europei, poi, che subiscono tutti i contraccolpi delle sanzioni masochistiche volute dagli USA contro la Russia, che si traducono solo in un vantaggio per i nostri alleati atlantici. Non era questa l'Europa che ci aspettavamo. Volevamo un'Europa dei popoli, che fosse alternativa in un mondo multipolare agli USA, alla Federazione russa, alla Cina, che fosse rispettosa delle differenze e del principio di autodeterminazione dei popoli e che pretendesse rispetto per le sue peculiarità culturali. E cosa abbiamo ottenuto oggi? Una confederazione di Stati retta da un'oligarchia prona di interessi bancari e finanziari medi in USA, in nome dei quali è disposta a cancellare gli interessi delle singole nazioni e di tutte messe insieme, salvo poi definire oligarchie i consessi che operano nei Paesi degli altri. Fino ad alcuni mesi fa ci chiedevate di rinunciare alla nostra libertà in cambio della salute e della sicurezza. Oggi ci chiedete di mettere a rischio le nostre vite e la nostra sicurezza in cambio della libertà di un altro popolo, affinché continui a disporne anche per opprimere minoranze interne. La vostra politica è schizofrenica e inaccettabile e il popolo italiano non la condivide. Quel popolo vuole che oggi votiate no all'invio di armi in Ucraina. Oggi possiamo dare una svolta alla storia, esercitando in modo responsabile finalmente la nostra funzione. La storia ricorderà i nomi di chi oggi voterà a favore di questo provvedimento, anche e soprattutto se si procederà con votazione di fiducia. E non sarà clemente. Grazie. Grazie a lei. Senatore Lucidi. Grazie Presidente, membri del Governo, colleghi. Allora, decreto Ucraina. In questi giorni abbiamo scoperto che l'Ucraina è un Paese essere molto più vicino a noi di quanto forse immaginavamo. e forse anche per questo il motivo per cui l'Italia è e sarà al fianco dell'Ucraina. Tutti quanti abbiamo delle relazioni con questo Paese. Lo abbiamo scoperto, forse purtroppo, in questi giorni. Che cosa è successo in questi mesi precedenti? È andato in crisi un modello al quale abbiamo fatto riferimento per molto tempo, che è quello del multilateralismo. Ma negli scorsi anni si percepiva il fatto che stava avvenendo una nuova polarizzazione, un nuovo bipolarismo a livello geopolitico. E i segnali, per esempio, che arrivavano anacronistici dalla Corea del Nord ci riportavano indietro di almeno 30-40 anni. E quei segnali, secondo me, hanno portato a quei fatti di 30 giorni fa oramai, ai fatti che stiamo vivendo in questi giorni. Purtroppo, molto spesso in queste settimane, abbiamo sentito la parola scegliere. Dobbiamo scegliere da che parte stare, ma l'Italia non deve scegliere da che parte stare, perché l'Italia ha già scelto da che parte stare. E la Lega ha ben chiara la collocazione politica atlantica dell'Italia. Io credo che il mondo occidentale stia reagendo molto bene, misurando azioni e misurando le reazioni. Lo stiamo facendo in maniera consapevole e matura. Ed è anche per questo che nei giorni scorsi abbiamo chiesto che anche le parole siano misurate nei colloqui con quelli che in questo momento sono degli avversari e addirittura dei nemici. Perché anche le parole, e soprattutto le parole a livello diplomatico, sono fondamentali. Purtroppo in queste ore il dibattito è stato spostato in maniera, secondo me, errata e strumentale su questo famoso aumento della spesa militare al 2%. L'abbiamo sentito anche poco fa in aula, l'abbiamo sentito in maniera dura ieri in Commissione. Non credo sia importante dire che è un argomento che non c'entra o un argomento che c'entra. È chiaro che durante una guerra in corso uno dei temi principali è quello delle spese militari. Ma perché è importante sottolineare che questa inutile polemica che è stata fatta sull'aumento della spesa militare al 2% perché è un impegno che il Governo ha già preso alla Camera, un impegno che il Governo onorerà. Quindi non è possibile per nessuno cantare vittoria se un ordine del giorno verrà o meno ripresentato in questa aula del Senato perché se vale ancora il bicameralismo perfetto vale anche l'impegno preso alla Camera. La cosa che a me stupisce è che molto spesso chi si scaglia contro il mondo militare, il mondo degli armamenti, il mondo dei sistemi di difesa, molto spesso è gente, sono persone anche, devo dirlo qui dentro, che non sanno assolutamente che cosa sia oggi un'arma, non sanno assolutamente che cosa sia un sistema di difesa, non sanno assolutamente che cosa sia un supporto logistico. Perché dico questo? Perché non dobbiamo nasconderci dietro a quella che è poi alla fine la realtà dei fatti. L'Italia non ha mai rinnegato quello che è scritto nella Costituzione e potrò fare un'affermazione forse banale ma è la realtà dei fatti. Noi abbiamo discusso questo decreto in una commissione che si chiama Commissione Esteri e Difesa. Abbiamo ovviamente un ministero a cui fa capo questa commissione, a cui fa capo il ministro, che è il ministro della difesa e quindi non c'è bisogno di ribadire questi concetti. L'Italia ha già scelto da che parte stare, ha già scelto l'atteggiamento che è non cobelligerante perché è un termine che non esiste e non ha senso perché basti vedere l'impegno e qual è stato lo sforzo sul terreno degli italiani in Ucraina per dare una risposta a questa affermazione che trovo veramente sconcertante. L'Italia ha già scelto qual è la sua posizione che è quella in linea con la Costituzione. Quindi abbiamo una spesa che ovviamente i fatti di questi giorni ci ricordano quanto sia importante avere dei sistemi di difesa. Ma è inutile secondo me fare ricorso al costo in miliardi che comporterebbe questo aumento della spesa militare se accanto a questo poi noi non aggiungiamo non tanto quant'è la spesa militare ma dobbiamo aggiungere quant'è ad esempio il fatturato delle nostre imprese della difesa. Quindi additare come un fatto negativo l'aumento della spesa militare semplicemente dicendo perché si tolgono soldi agli italiani è un fatto assolutamente non accettabile perché il bilancio dello Stato ha una sua costruzione, ha una sua architettura. Questa è una voce importante e in questi giorni lo stiamo scoprendo quanto sia importante avere un sistema di difesa. In altre voci aiuteremo e lo faremo come l'abbiamo fatto, come continueremo a chiederlo in quest'Aula, come lo faremo fra qualche giorno, aiuti alle nostre famiglie italiane. Chiudo semplicemente dicendo e ribadisco sostanzialmente quello di cui stiamo parlando e i soldi, i finanziamenti di cui stiamo parlando sono quelli che afferiscono al mondo della difesa. La Lega ha sempre ribadito in questi giorni che la via maestra è quella della diplomazia. Speriamo di arrivare nei prossimi giorni, le voci che arrivano in queste ultime ore non sono rassicuranti, ma noi continuiamo a sperare e lavoreremo affinché si possa arrivare a una fine immediata, prima possibile, del conflitto perché riteniamo che la pace sia l'orizzonte al quale tendere. Grazie. La ringrazio per il suo intervento. C'è scritto adesso Crucioli. Crucioli ha quattro minuti. Prego. Ho ascoltato con molto interesse la discussione dei colleghi, la cui tesi di fondo, a mio avviso, è quella che era già stata presentata dal Presidente Draghi, in particolare è stata ripresa in maniera nitida, a mio giudizio, dal collega Zanda. E cioè la tesi è questa. Siccome in Ucraina si sta combattendo per la libertà di tutta Europa, perché la Russia avrebbe intenzione di non fermarsi all'invasione ucraina, ma poi di proseguire nei paesi dell'Europa occidentale, e che quindi l'Ucraina sta resistendo anche per noi, anche per la nostra libertà, da cui discende l'obbligo italiano sia di inviare armi alla resistenza ucraina, sia la necessità di alzare al 2% la spesa di armamenti. Ora, questa tesi, se fosse fondata, se fosse dimostrata, sarebbe condivisibile negli effetti. Cioè, anch'io sarei dell'idea che qualora ci fossero le prove, o qualora ci fosse una ragionevole aspettativa che la Russia sia in procinto appunto di andare oltre il cancello ucraino e arrivare in Europa, allora le conseguenze sarebbero quelle appunto di fermarlo lì. E sarebbe necessario, come dire, schiacciare un avversario e un nemico, e il paragone con Hitler sarebbe giustificato. Qualora si fosse fermato in tempo, qualora l'Europa l'avesse fermato in tempo, gli alleati l'avessero fermato in tempo, si sarebbero evitati i grossi disastri. Purtroppo, io per fortuna credo che questa tesi sia non provata. Non vedo elementi che inducano a ritenere che l'aggressione, seppur censurabile della Russia, sia il primo di una serie di passi. E quindi, se gli obiettivi che noi stiamo mettendo in testa alla Russia e a Putin non sono quelli appunto di un'escalation e di una progressiva aggressione dell'Europa, allora la tesi che vuole l'invio di armi e una guerra a tutti i costi e una reazione da parte di tutta Europa e di tutta la Nato e anche un aumento di spese militari, allora è una tesi appunto non necessaria, una conseguenza non necessaria e anzi potrebbe essere dannosa, perché è chiaro che con la benzina non si spegne un fuoco, così come con le armi non si estingue una guerra in corso e non si salvano vite umane inviando carri armati e missili, così come non si evita l'aumento di questa guerra o di future guerre con un'escalation militare, perché se l'Italia, se l'Europa, se la Nato si doteranno di più armamenti, anche il blocco contrapposto farà così e invece bisogna tendere a una de-escalation, perché saremo tutti più sicuri se ci saranno meno armi, non se ci saranno più armi. Ed è questo spunto che vi offro e vi invito alla riflessione su questo tema che è il tema di fondo. Poi ci sono tutte le questioni tecniche di come si è svolta la discussione in Commissione, ma di quello parlerò domani quando verrà apposta la questione di fiducia. Grazie, Presidente. Bene, siamo arrivati a Virginia Lamura, che ha cinque minuti, prego. D'accordo, per la seconda volta oggi mi trovo ad intervenire. Due decreti, deroghe su deroghe. Questo decreto potenzia le iniziative della Nato, inviando fino al 2023 personale militare e risorse per un totale di circa 170 milioni di euro al comma 1 dell'articolo 1. E questo io lo dico ai cittadini più che ai colleghi, perché poi è bene che i cittadini sappiano esattamente come stanno le cose. E questo per dispositivi di sorveglianza dello spazio aereo e navale dell'Alleanza e per l'impiego della forza ad elevata prontezza per interventi militari entro le 48 ore nelle aree di crisi. Quindi una vera potenza di fuoco, pericolosissima. E quindi è come se stessimo in guerra. Lo siamo, perché siamo lì pronti. In violazione all'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra, il decreto numero 14 in esame, quindi quello di oggi, in cui è stato traspuso anche il contenuto del decreto numero 16, autorizza l'articolo 2 bis che è stato aggiunto fino al 31 dicembre 2022, la cessione di mezzi materiali e equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina, in deroga alla legge 185, che tramite decreti saranno individuati tra i seguenti armamenti. All'articolo 2, io dico ai cittadini, andate a leggere cosa c'è nell'elenco degli armamenti. Armi nucleari, biologiche, chimiche, armi da fuoco, automatiche, bombe, mine, razzi. Insomma, stiamo derogando ai nostri principi, ai nostri valori e i cittadini lo hanno capito. Ci scrivono di dire no all'invio delle armi, per dire no alla guerra, perché hanno ben compreso la gravità della situazione, ma noi non li ascoltiamo. Io voglio ascoltarli, perché la propaganda del mainstream dice delle cose, ma i cittadini hanno capito che è tutt'altro, è più grave la situazione. Ci scrivono che i prodotti tossici degli stati di emergenza si chiamano deroghe, come ti aggiro le leggi, le norme, le regole, le convenzioni, trattati, accordi, e non solo per l'invio delle armi, ma anche per le misure in materia di energia all'interno dell'articolo 5b sta aggiunto appunto a questo decreto. Deroghe previste riferimento agli impianti di generazione di energia elettrica. Ci siamo dimenticati di tutto, siamo andati in guerra e quindi siamo in crisi, che utilizzano carbone e olio, semplificazioni per l'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas. Voi chiedete anche la modifica del PNRR, questo è il momento giusto per farlo, giusto? E no, non ci siamo, i cittadini non lo vogliono. Deroghe anche connesse alla guerra in Ucraina relative agli obblighi di greening dei terreni agricoli. Noi andremo a coltivare, a mettere il fosfito farmaci sui terreni che dovevano essere inerbiti, lasciati a riposo. Ma cosa stiamo facendo? Il dipattito degli ultimi giorni si è concentrato sull'aumento delle spese militari. E allora io chiedo al Movimento 5 Stelle che ha detto tramite Conte che queste spese militari non dovessero aumentare e i cittadini hanno dato fiducia a Conte proprio perché aveva detto questo. Allora il Movimento 5 Stelle che cosa farà? Siamo dei folli. Mi scusi un attimo. Stiamo rinunciando alla civiltà, alla cooperazione pacifica e alla solidarietà tra gli Stati. Abbiamo dimenticato la pandemia, oggi ci stiamo tuffando in una nuova era, quella della guerra nucleare, della legge del più forte, dei peggiori istinti umani che in secoli di civiltà pensavamo di aver mitigato in favore del mantenimento del patto sociale. Basta, diciamo basta alla guerra, non con la pace, cioè non la pace e la guerra insieme. Basta, diciamo basta alla guerra. E' iscritto a parlare il senatore Vescovi. Prego. Grazie. Ti prepara Errani. Grazie Presidente. Io penso che siamo tutti per la pace. Nessuno di noi è per la guerra e stiamo lavorando proprio per riuscire ad arrivare al prima possibile alla pace, anche grazie alla nostra diplomazia. Io, Presidente, venendo al punto del decreto ucraina, mi sono sempre posto una domanda, perché la questione in quell'area era nota dal 2014. E noi dal 2014 non abbiamo fatto una politica di diversificazione, tanto che oggi il 40% del gas l'Unione Europea lo importa dalla Russia, tra virgolette finanziando la Russia. Per cui bisogna stare attenti da una parte a porre giustamente le sanzioni, però dall'altra parte l'Unione Europea oggi compra il 40% del gas. Forse tutti questi no degli ultimi dieci anni, no la TAP, no la TAV, no tutto, ci ha portato oggi poi a questa situazione in cui dipendiamo dalla Russia. Il nostro Paese ha bisogno di una visione, di una visione anche come politica del gas, politica energetica, avere una propensione al futuro, riuscire a parlare con i sì, a dare una visione dei prossimi dieci anni. Se no ci troviamo come ci troviamo oggi, sempre con un decreto ucraina, sempre vivendo nelle urgenze. Con le urgenze non si costruisce un grande Paese. Il secondo punto, e l'ho fatto anche attraverso una interrogazione, l'Italia ha la fortuna anche a livello geografico di essere al centro del Mediterraneo. Per cui dobbiamo iniziare a avere questa visione e a iniziare a avere anche dei rapporti con il Nord Africa, giusto avere dei rapporti con dei Paesi in cui importare il gas e non essere tra virgolette ostaggio di un'unica nazione. Poi anche riuscire a trovare delle soluzioni all'interno del nostro Paese, avere dei rapporti con i Paesi del Balcano. Io ho fatto un'interrogazione al Ministro 15-20 giorni fa parlando dell'elettrodotto che collega l'Italia con il Montenegro, dove c'è già la struttura, c'è già un cavo che importa l'energia elettrica e basterebbe mettere un secondo cavo per raddoppiare l'energia elettrica per importarla nel nostro Paese. Per cui iniziare ad avere questi rapporti di visione e di lungimiranza che ci portano anche a dei collegamenti con tutti i Paesi del Balcano, in questo caso specifico con il Montenegro. Perché per noi potrebbero essere anche delle soluzioni, un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' dall'altra, è meglio diversificare che non avere un fornitore importante. E poi mi permetta un passaggio politico. La grandezza di un Paese si misura dalla propria politica estera. Dai giornali stiamo vedendo tutti che in Turchia si sta svolgendo un passaggio per cercare di riuscire a trovare una via diplomatica tra l'Ucraina e la Russia. Mi sarebbe piaciuto che questo passaggio fosse avvenuto nel nostro Paese, visto che abbiamo una classe di ambasciatori molto importanti ai quali faccio il mio applauso perché abbiamo degli ambasciatori, secondo me, e tutta il nostro all'estero che sono veramente delle persone straordinarie. Però non avviene. E pongo al Ministro degli Esti una domanda. Forse gliela pongo a lei in senso di riflessione. Ma i termini che lei sta usando, che ho visto in alcune trasmissioni televisive, sono adeguate per riuscire ad arrivare a una via diplomatica importante tra l'Ucraina e la Russia. Cerchiamo di diventare noi il punto di riferimento a livello diplomatico per trovare una soluzione tra i due Stati. Grazie, Presidente. Un attimo. Grazie. Senatore Rani, ha facoltà di intervenire e noi di ascoltarla. Grazie, Presidente. Colleghe e colleghe, noi sosteniamo con convinzione il decreto del Governo e, per sgombrare il campo da discussioni astratte e inutili, non abbiamo nessuna posizione di terzi età. La nostra posizione è chiarissima. La responsabilità di Putin e della Russia sono gravissime, non hanno alcuna giustificazione. Ledono un principio fondamentale, che è quello dell'autodeterminazione di un popolo. E quindi sosteniamo l'azione del Governo e dell'Ucraina e anche la resistenza del popolo ucraino. Su questo punto sarebbe bene che tra tutti noi non ci fossero equivoci. Io credo che l'unità dell'Unione Europea in questo momento sia fondamentale. È questo il campo su cui noi dobbiamo giocare una partita importante. ma una qualche riflessione in più sarà pur necessaria. Alcuni colleghi, prima di me, hanno detto giustamente che questa vicenda dell'invasione dell'Ucraina produce un cambio radicale nel mondo. È verissimo. Anzi, per la verità ne avevamo avuto segnali anche prima, segnali che riguardano gli interventi della Russia per la Crimea, ma segnali che riguardano il fallimento della politica invece dell'Occidente in Afghanistan, o in Siria, o in Libia. insomma, che siamo di fronte ad un cambio e che ciò richieda un nuovo pensiero che non mette in discussione di un millimetro la nettezza, la fermezza, la durezza della condanna delle giuste scelte che abbiamo fatto e che ha fatto l'Europa in queste settimane. dalle sanzioni, sapendo che pagheremo un prezzo, anzi questo Paese pagherà un prezzo più alto di altri Paesi, certamente degli Stati Uniti, tuttavia queste sono state scelte giuste. Ma ciò che a me non convince, lo dico esplicitamente, anzi mi si era aperto il cuore quando il Presidente Draghi ha detto non si vogliamo nelle guerre di civiltà, giusto, sacro santo, un mondo complesso e complicato, non si può ridurre ad uno e quando tu lo riduci ad uno crei una situazione di maggiore insicurezza. L'ho detto in un altro intervento, noi dobbiamo avere la saggezza che altri non hanno e dobbiamo costruire un percorso, fermo restando tutte le iniziative che abbiamo fatto, un percorso di diplomazia che sia in grado di disegnare una nuova idea di sicurezza nel mondo. Lo dico per brevità in questi termini, una nuova Helsinki, c'è bisogno di una nuova Helsinki che si fa carico della sicurezza di tutti e le nostre maggiori qualità democratiche sul valore della democrazia, della libertà. È proprio qui che si misurano, è proprio sul terreno che avremo, se avremo la capacità di disegnare una prospettiva. Certo, non potremmo consentire, abbiamo fatto bene affinché in due giorni la Russia conquistasse l'Ucraina. Non è questo il punto, ne pongo un altro, che è più generale, colleghe e colleghi, che riguarda perfino la storia e il tracciato della politica estera italiana di questo Paese, una grande politica estera, che io posso dire senza alcun tipo di sospetto, visto che la mia cultura di provenienza non era esattamente sovrapponibile alla cultura che ha costruito questa politica estera. Sto parlando di Moro, di Fanfani, di Alcide De Gasperi, che abbiamo giustamente ricordato, ricordando la figlia, in quest'aula. Ora, questa tensione, Andreotti per quello che riguarda il Medio Oriente, insomma, ci siamo intesi. Questa tensione, siamo in grado di riproporla? Alcuni colleghi di Forza Italia giustamente hanno citato nel corso di altri dibattiti la, diciamo, lo sforzo di pratica di mare. Insomma, è questo il terreno grande dell'Europa, è questo. E non lo dobbiamo dimenticare, soprattutto ora, soprattutto ora. Nel 2014, lontano da me, non onorare la Repubblica sugli impegni che la Repubblica prende. Nel 2014 abbiamo preso degli impegni, sì, e nessuno vuole ribaltare quegli impegni. Ma attenzione, dal 2014 è successo qualcosa? A me pare di sì. Ed è successo qualcosa di molto serio, no, colleghe e colleghi? Allora, che cos'è che ci pone... Grazie, Presidente, ma io vado tranquillamente. E anche se lei prevalentemente ama parlare rivolto verso il gruppo del PD, è giusto che l'ascoltino tutti. Lei ha ragione. Faccio immediatamente un'autocritica, Presidente. Nel... Zappini... Nel... No, fatemi fare questo ragionamento che è importante. Allora, l'Europa è di fronte a una sfida. La sua politica estera, la difesa europea, che non è e non può essere sovrapposta alla Nato. Il Presidente Draghi ha detto che deve essere complementare. Siamo d'accordo. Ora, la domanda su questo 2%. Trovo, lo dico con sincerità, che affrontare la questione, una questione così fondamentale, con un ordine del giorno, sia una semplificazione del tutto inadeguata. Draghi ha detto, ve lo voglio rileggere perché l'ho detto la settimana scorsa. La cosa importante, però, è che in questo periodo in cui tutti parlano di difesa, di aumento delle spese militari, e alcuni Paesi hanno deciso di aumentare le spese militari in maniera straordinariamente significativa, è importante che questi aumenti vengano annunciati all'interno di una strategia europea e non all'interno di una strategia nazionale. Applausi. E lui va avanti e dice, capite bene che il rischio di andare avanti con una strategia nazionale è piuttosto serio, specialmente in prospettiva. E abbiamo già visto, tra l'altro, i rischi. Ora, è questo il quadro su cui dobbiamo discutere. E sulla base di questo ragionare su come facciamo un passo in avanti il più rapidamente possibile su una politica estera comune, su una politica di difesa comune, razionalizzando le spese e definendo qual è la governance di questa politica di difesa. Qual è la governance? Perché non vorremmo trovare in situazioni poi domani complicate nel gestire questa governance. Questo va chiarito subito. Io sono per la difesa europea. È in questo quadro ragionare sulle scelte da fare. Naturalmente, ha ragione il ministro Guerrini, non è sospetto. Dovrebbe chiudere perché oltre due minuti... ...con equilibrio e con una capacità di tenere conto dei limiti della finanza pubblica italiana. Grazie. Ora, ho finito. Ora, questo è un punto al quale, al di là delle narrazioni sbagliate, dobbiamo dare una risposta ai cittadini italiani che la pensano da questo punto di vista con un loro pensiero autonomo, con il quale dobbiamo dialogare assolutamente. Grazie. Grazie. Spero che gli altri colleghi non se ne abbiano avuto a male. Se le ho dato due minuti oltre il tempo che le aspettava. Presidente Errani. E Fiammetta Modena. E Fiammetta. No dai, hai aperto il microfono. Parlavo con Gasparri, del tuo papà. Eh, lo so. Lo so perché in quei tempi noi abbiamo visto insieme la televisione quando è caduto il muro di Berlino e quando a casa parlavamo del fatto che tutte le popolazioni che erano sotto la vecchia Unione Sovietica correvano nella sostanza per venire in Occidente, per avere la nostra economia, per avere la nostra libertà. Ed è per questo motivo che, devo dire, sono rimasta abbastanza colpita dal dibattito surreale che si è venuto a creare intorno a questo decreto. E credo che sia dovuto, nella sostanza, a due motivi sostanziali. Il primo, e qui perderò proprio un paio di minuti, riguarda il contenuto e il merito dei provvedimenti. Cioè non si può far passare all'esterno l'idea che noi stiamo votando un decreto che porta le armi all'Ucraina. Perché questo significa fare una specie di operazione per cui si crea un finto problema per montare un finto caso che in realtà nei fatti e nelle carte non esiste. Noi oggi andiamo a votare un decreto, tra l'altro già votato alla Camera, dove si stabiliscono delle cose che sono importanti. Cioè la partecipazione del nostro Paese, intanto a difesa di quello che è lo spazio aereo dell'Alleanza Atlantica, la sorveglianza navale, la presenza in Lettonia, e solo per sei mesi, quindi c'è anche ottimismo, devo dire, da questo punto di vista, in modo tale da tutelare un'area che è quella naturalmente che ci interessa, l'area, diciamo così, di confine. E questo decreto non è che parla di imbandare armi, parla dei viveri, vogliamo dare da mangiare, penso a questi soldati che vanno a fare questo lavoro, di supporto logistico, dei botti antiproiettili, parla in modo particolare anche dell'autodifesa per i giornalisti, per i reporter, la funzionalità delle ambasciate, i dispositivi per le unità di crisi, le misure di sicurezza per quello che riguarda il gas, le misure per le imprese che hanno subito dei problemi dal punto di vista delle importazioni e dell'export anche, soprattutto, ovviamente, con Ucraina e Russia, e poi, naturalmente, accogliamo i profughi con tutto quello che comporta dal punto di vista delle spese e della logistica. Allora, noi poi, si prevede in questo decreto, quello che è un aiuto, ovviamente, alla Ucraina, in quelle che sono definite gli equipaggiamenti e che sarebbero chiamati equipaggiamenti militari non letali, e poi si specifica chiaramente che sulla base di un atto di indirizzo votato dalle Camere, cioè votato a stragrande maggioranza delle Camere, compresa per parti separate anche dalla forza di opposizione, la cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari. Ora, questa cosa si è trasformata, in questo immaginario collettivo, in un invio di armi, come se noi stessimo mandando delle armi, invece stiamo cedendo, e speriamo anche di cedere del buon materiale, dei mezzi, degli equipaggiamenti ad un popolo che è stato aggredito militarmente in Europa al nostro, diciamo, vicinissimo da noi. Allora, noi non possiamo essere ingannevoli, dobbiamo imparare a spiegare i provvedimenti nel merito, perché con i finti racconti, con le narrazioni che non ci hanno né capo né coda, siamo noi per primi colpevoli della, tra virgolette, non conoscenza delle persone che poi pensano che ci siano complotti o cose di questo genere, terreno dove gli paesi che ci vogliono male, e che comunque sia chi ci vuole male, semina per dividerci, per indebolirci, per rappresentarci come un paese non affidato. Noi dobbiamo assolutamente evitare le divisioni che vengono fatte da fuori per rappresentarci come un paese diviso, un pezzo che guarda la Cina, un pezzo che guarda la Russia. No, noi siamo europei e siamo nell'alleanza atlantica e dobbiamo il rispetto alle forze armate, perché, e chiudo così, Presidente, non ci dobbiamo dimenticare che domani finisce il famoso stato di emergenza e oggi ci ha salutato il generale Figliuolo, perché le forze armate sono anche e soprattutto queste e quindi invece che stare a discutere di un armamenti o vatterà a pesca, io credo che potremmo questa sera degnamente ringraziare il generale e l'esercito per tutto quello che hanno fatto nella pandemia. Grazie. Grazie, Senatrice Modena. Senatore Cantura. Buonasera, grazie Presidente. Un saluto ai membri del Governo e a tutte le onorevoli colleghe e colleghi presenti. Abbiamo toccato molti punti stasera, però vorrei tornare alla radice del problema. Noi oggi stiamo discutendo di questo provvedimento dopo che il Governo di Vladimir Putin ha deciso di aggredire in maniera proditoria e predatoria uno Stato sovrano chiamato Ucraina. È un'invasione che ha un po', come dire, rotto la bolla di comfort in cui vivevamo da decenni pensando che questo tipo di guerre appartenessero al passato, quantomeno nel nostro quadrante geopolitico, nella nostra zona, nella nostra Europa. E invece no. E invece no. Abbiamo appreso con sconforto che uno Stato isolato a livello internazionale, che non sia parte di una forte alleanza, è preda del più forte, è preda del più aggressivo, del più prepotente. Questo ci porta innanzitutto a condannare in maniera inequivocabile, dal punto di vista del diritto internazionale, ma anche dell'etica, il Governo di Vladimir Putin per quanto sta facendo in Ucraina. ci porta però anche a riflettere su un conflitto che ha nella dimensione militare solamente l'apparenza. C'è una questione politica di base molto importante. Quando noi ci volgiamo a pensare ai paesi dell'est dell'Europa, pensiamo a degli Stati sovrani, individuati precisamente la Polonia, la Romania, l'Ucraina stessa. Ma se prendessimo il volo e dal Cremlino guardassimo verso Occidente, la visione da quella parte non è quella di Stati sovrani, ma di una dimensione securitaria, egoistica e egocentrica in un certo senso, ma comprensibile a livello storico ed illegale e illegittima secondo il diritto internazionale contemporaneo, per cui l'Ucraina, la Polonia, i paesi baltici non hanno il diritto di scegliere autonomamente a quale mondo appartenere, se al mondo delle democrazie occidentali o alla sfera delle autocrazie, devono semplicemente rimanere a servizio della sicurezza della Russia. E questa visione politica è assolutamente inconciliabile. Abbiamo un gravissimo problema che non è semplicemente l'aggressione della Russia all'Ucraina. Il problema è che cosa vogliamo fare di quei principi che fino ad oggi abbiamo decantato e che ci hanno inorgoglito, almeno a parole. Può uno Stato sovrano decidere di entrare nella Nato e nell'Unione Europea? Oppure deve essere il bullo del quartiere, arbitro della posizione internazionale di una democrazia? Noi come democrazie siamo dipendenti dal gas russo, diceva prima un mio collega, e ha ragione, e noi chiaramente dobbiamo scegliere se essere persone e paesi di principio, coerenti, o dei mercanti che vendono i principi di libertà propri quando si parla di altrui persona, in nome del soldo. Perché non spendere per la difesa del nostro Paese, che poi non è solo la difesa del nostro Paese, è la difesa della Nato e di un sistema, un sistema che è politico. Se noi non ci mettiamo in testa che la pace, che non è sottomissione, e la libertà, che non è anarchia, non sono valori scontati, ma sono valori che richiedono sacrifici, ecco, se non ci mettiamo in testa questo, è molto meglio che chiudiamo i nostri Paesi, chiudiamo i Parlamenti, chiudiamo le spese per la difesa, e ci regaliamo o svendiamo al primo bullo del quartiere, che si chiama Vladimir Putin, Xi Jinping. Vi consiglio di leggere il comunicato congiunto che Xi Jinping e Vladimir Putin hanno siglato il 4 febbraio 2022, il 4 febbraio, 20 giorni prima dell'invasione e all'apertura dei giochi olimpici di Pechino. In questo comunicato, oltre a una collaborazione strategica in vari punti che non sto qui a delineare, non ne ho il tempo, soprattutto si reinterpreta a uso e consumo di due dittature il concetto di democrazia, dicendo che ci sono dei modelli e dei percorsi di democrazia alternativi a quelli che l'Occidente egoisticamente vuole imporre al mondo. E la Cina e la Russia hanno trovato il loro modello di democrazia perché i popoli cinese e russo hanno scelto due regimi non democratici. Pensate al ragionamento circolare. La democrazia è che il popolo scelga di non essere governato in maniera democratica. È scritto molto chiaramente ed è sconvolgente. Di conseguenza invito i colleghi che giustamente dicono la pace è un valore io non condivido che la pace sia sottomissione. Condivido la pace ma condivido anche il fatto che bisogna essere coerenti nel difendere se stessi e i propri principi e se qualcuno tra i nostri elettori i nostri di tutto l'emiciclo non è convinto della bontà delle spese militari per la difesa del paese cioè per la loro difesa è compito nostro insegnarglielo parlare non ci possiamo piegare a fake news e propaganda che esiste propaganda dei nostri avversari perché ripeto la politica di dittature che dicono che è democrazia scegliersi la dittatura è una politica che è antitetica a noi e quindi abbiamo la responsabilità non solo di sostenere il decreto il 2% e l'azione del governo Draghi ma abbiamo anche il compito di farlo capire ai nostri elettori di ciascun gruppo parlamentare qui rappresentato Presidente la ringrazio grazie senatore Barboni grazie Presidente signori sottosegretari onorevoli colleghi in aprivo del mio intervento occorre ribadire oggi come in tutta la nostra storia sia quando siamo stati al governo e quando siamo stati all'opposizione Forza Italia da forza politica seria e responsabile si è sempre schierata dalla parte della nazione delle forze armate della libertà e della democrazia quanto sta accadendo dal 24 febbraio come ricordava prima più di un collega sta riportando nel cuore dell'Europa la linea di frattura non solo militare ma anche politica e sistemica che c'eravamo illusi fosse stata superata con il crollo dell'Unione Sovietica e del muro di Berlino molti avevano ritenuto allora che le nuove pericolose sfide fossero solamente quelle portate dall'integralismo islamico dopo l'attentata alle torri gemelle e in relazione alla recrudescenza del terrorismo si era creduto che eventi di guerra e di repressione potessero venire esclusivamente da qualche pericoloso dittatore in Corea del Nord o in Venezuela si è ritenuto a torto forse che la madre di tutti i problemi fosse lo strapotere economico della Cina non era stato capito o è stato sottovalutato il messaggio nato dalla fine di alcune egemonie politiche europee che avevano portato alla dissoluzione per esempio della ex Jugoslavia una realtà federativa che comunava etnie simili ma diverse che al verilmeno del collante politico dato dal generale Tito si è trasformato in uno scontro armato senza quartiere che è infiammato l'ultimo decennio del secolo scorso l'Europa e l'Occidente avrebbero dovuto rispondere insieme a queste sfide sistemiche che sono sfide ai nostri valori alla nostra cultura al nostro modo di vivere esportando un'idea di Europa e di Occidente a tutti i popoli e a tutte le nazioni di tradizione greco-romana e giudaico-cristiana anche a quelli liberati dal gioco della dittatura comunista per fare questo ci voleva e ci vuole capacità di intermediazione arte della convergenza visione strategica ci voleva ci vogliono e ci vorranno interpreti capaci in altre parole ci vuole leadership e ci vogliono leader politici che creano le condizioni per la sua realizzazione e qui consentitemi è fin troppo facile dire e riconoscere che un solo uomo un solo leader illuminato e capace ha saputo interpretare questo snodo politico solo Silvio Berlusconi capì che fra i paesi della Nato e la Russia si dovevano porre le basi per una convergenza di prospettive e di interessi strategici e nel 2002 a pratica di mare avviò questo processo virtuoso che avrebbe portato in un futuro migliore per il mondo per l'Europa per l'Italia diceva Malcolm X la storia è la memoria di un popolo e senza una memoria l'uomo è ridotto al rango di animale inferiore infatti solo chi non ha leadership politica non è a memoria pensare che le macerie del regime comunista fatto di oppressione di invasioni di repressione dalla carestia artificiale con la quale Stalin massacrò milioni di ucraini la spietata repressione della resistenza patriottica anticomunista in Lituania i carri armati russi a Budapest e a Praga non segnassero profondamente il sentiment di quei popoli una volta affrancati dalla dittatura non solo verso il sistema comunista ma verso il paese con quel sistema si identificava quei popoli che hanno scelto la libertà e la democrazia si sono rivolti all'Europa chiedendo di essere parte della nostra comunità di popoli liberi e noi abbiamo il dovere di essere della loro parte con chi è aderito all'alleanza atlantica e con chi come l'Ucraina con l'alleanza atlantica e l'Europa stava costruendo un rapporto di mutualità senza alcun significato ostile verso la Russia sull'origine di questo conflitto vi sono in ogni caso elementi oggettivi di discussione quali ad esempio le discriminazioni delle minoranze russe in alcune aree dell'Ucraina o i battaglioni azov con i mercenari che esibiscono le svastiche non è il nostro compito fare le segesi del conflitto il governo e il Parlamento hanno il dovere di dare risposte al contesto geopolitico economico e sociale che questi eventi hanno determinato e l'approvazione di questo decreto con le prime misure urgenti sono un segno tangibile della risposta del popolo italiano la politica ha anche il dovere di impedire che nel terzo millennio vi siano guerre e quindi esortiamo il governo ad agire nel solco della mediazione che porti quanto prima non c'è stato il fuoco a una soluzione negoziale efficace occorre in ultimo e non per ultimo ribadire che lì dove ci sono violazioni della sovranità territoriale lì dove ci sono bombe pseudo intelligenti lì dove c'è distruzione e morte di civili senza se e senza ma Forza Italia nel solco del dettato costituzionale dello spirito fondante del nostro movimento e nel rispetto dei diritti inalienabili dei cittadini d'Italia e del mondo è stata e sarà sempre dalla parte della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli grazie il senatore Luca Ciriani ha facoltà di intervenire per Fratelli d'Italia grazie presidente non so se userò tutto il tempo a disposizione domani la nostra collega Isabella Rauti interverrà sulla dichiarazione di voto in occasione della fiducia e lì entraremo anche nel dettaglio delle tante ragioni che ci spingono a questo passo che avremmo potuto evitare ma la quale ci avete spinto con la vostra condotta irresponsabile vorrei semplicemente ricordare all'aula i pochi che sono rimasti in aula quello che è successo in questi giorni perché ho letto e sentito ricostruzioni surreali di quanto abbiamo vissuto tutti insieme in commissione difesa esteri riunite sono successe cose incredibili non vuol dire che siano cose positive anzi sicuramente molto negative soprattutto per il paese che ha la sventura di essere amministrato e governato da una maggioranza che ha perso il controllo di se stesso in un momento così grave della vita politica internazionale dicevo succede una cosa incredibile succede ad esempio che Fratelli d'Italia presenti un ordine del giorno in commissione per chiedere una cosa molto banale un ordine del giorno che semplicemente ripete cose già accadute ripete dichiarazioni virgolettate del Presidente del Consiglio Draghi su alcuni impegni che l'Italia ha sottoscritto in ambito internazionale più volte negli anni scorsi ripete quanto già contenuto in ordine del giorno analogo votato a larghissima maggioranza alla Camera e chiede semplicemente che quegli impegni che valevano alla Camera una settimana prima potessero valere anche al Senato la settimana successiva invece nel novoro delle cose incredibili succede che il Movimento 5 Stelle probabilmente voleva utilizzare il nostro ordine del giorno per le sue finalità di carattere politico per boicottare la maggioranza di cui fa parte perché il Governo di fronte in ordine del giorno talmente lineare talmente trasparente fa l'unica cosa che poteva fare lo accoglie perché il Governo non può non accogliere un ordine del giorno che riflette la posizione dei fratelli d'Italia storica posizione dei fratelli d'Italia che esisteva prima della nascita di questo Governo e prima della nascita di questa legislatura perché faceva parte del nostro programma elettorale già molti anni prima e quindi il Governo fa una cosa semplice banale vota accoglie un ordine del giorno che dice cose per le quali il Governo si era già espresso positivamente la settimana prima alla Camera però poi naturalmente non basta così succede che un ex Presidente del Consiglio di questo Paese Presidente del Consiglio per tre anni va dall'attuale Presidente del Consiglio che lui almeno formalmente sostiene e gli dice che non è d'accordo e succede che il Presidente del Consiglio si rivolga persino al Presidente della Repubblica per confermare la linea del Paese in coerenza con gli impegni internazionali sottoscritti però il giorno dopo va in onda va in scena tutto un altro film e il film è questo tentativo puerile e ridicolo puerile e ridicolo del Movimento 5 Stelle che convince la maggioranza che ormai ha lo sbando a mettere in scena questa trovata geniale la trovata geniale qual è? l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo e questa è storia storia e dalla storia non si può tornare indietro però noi siamo furbi e quindi cosa facciamo? ci impegniamo a non andare in aula con il relatore facciamo in modo che la Commissione non conclude i suoi lavori in modo tale pensate la trovata ingegnosa di arrivare in aula con il vecchio testo e quindi quell'ordine del giorno accolto dal Governo non esiste più magicamente non esiste più non è mai esistito non è mai accaduto che il Governo approvasse quell'ordine del giorno quindi abbiamo il Valzer dell'ipocrisia abbiamo il 5 Stelle che fingono di non sapere che il resto della maggioranza è contro le sue posizioni e abbiamo il resto della maggioranza che finge di non sapere che la forza parlamentare di maggioranza relativa ovvero il 5 Stelle sono contrari a quello che sostiene il resto della maggioranza quindi questo è il quadro politico in cui ci apprestiamo a votare la fiducia a un Governo che non ha una maggioranza in tema di politica estera nel momento più grave della storia repubblicana degli ultimi 40 anni di questo stiamo parlando e non bastano i trucchetti le ipocrisie i giochetti i regolamenti in cui siete bravissimi per nascondere questa semplice verità ai colleghi superstiti delle 5 Stelle presenti in aula vorrei dire se voi avete il coraggio delle vostre opinioni il coraggio vero non quello finto dovete prendere carta e penna un pezzo di carta una penna scrivere un ordine del giorno in cui si dice le dichiarazioni del Presidente Draghi non ci riconosciamo nelle dichiarazioni del Presidente Draghi non ci riconosciamo nella politica estera di questo Governo non ci riconosciamo in quanto detto le Presidente del Consiglio in aula alla Camera questo dovevate dire oppure potrete fare una cosa ancora più semplice chiamare il vostro Ministro degli Esteri perché voi avete un Ministro degli Esteri e dirgli caro Ministro ma tu da che parte stai? stai con Draghi o stai con noi? e se come io immagino il Ministro degli Esteri è lealmente fedelmente coerente e con le vostre posizioni perché non si è espresso? perché non ha detto quello che pensa? quanto dobbiamo attendere per sapere qual è il pensiero del Ministro degli Esteri sulla posizione del gruppo 5 Stelle a cui appartiene? e in questo contesto noi come opposizione possiamo anche lontanamente immaginare di votare a favore di un provvedimento che nel merito condividiamo sapendo che quel voto darebbe forza a una maggioranza e a un governo che è irresponsabile in un momento di massima serietà il mondo ci osserva ci guarda e si domanda come sia possibile che un paese che è in una situazione difficile come il resto del mondo sia governato da una maggioranza che non ha una politica militare che non ha una politica estera condivisa che tradisce gli impegni internazionali sottoscritti dallo stesso governo e dai governi precedenti e dalla stessa maggioranza in cui siede un signore che faceva il presidente del consiglio e che adesso dice le cose opposte a quelle che diceva soltanto un anno fa o sei mesi fa questa è la maggioranza questa è una maggioranza che si chiama il governo dei migliori ma che ci fa sfigurare a livello internazionale ecco il motivo per cui noi manteniamo la nostra chiarezza di opposizione manteniamo la nostra coerenza manteniamo la nostra disponibilità a votare sempre a favore degli interessi italiani soprattutto quando è gioco la nostra credibilità a livello internazionale ma non possiamo votare la fiducia a un governo che si comporta di questo modo grazie grazie senatore civiani senatore porta del partito democratico prego grazie presidente rappresentanti del governo colleghi quando poco più di due mesi fa sono entrato la prima volta in quest'aula non avrei mai immaginato che il mio primo intervento sarebbe stato su un tema di questo genere sapete per una generazione come la mia ma potrei dire come la nostra rivolgendomi alla maggior parte dei colleghi la guerra non è una parola astratta l'abbiamo conosciuta tramite i racconti dei nostri genitori le sofferenze anche le vittime di familiari eppure la guerra ha bussato nuovamente alle nostre porte e alle porte dell'Europa ci rendiamo oggi tutti conto lo ha detto bene anche il segretario del nostro partito Letta che la guerra porta a rivolgimenti nelle coscienze nel campo dell'economia della società e anche della politica stiamo vivendo un momento molto importante ma anche molto delicato pieno di tensione e conflittualità perché mai avremmo immaginato di vivere una situazione di conflitto una situazione di morte e di distruzione tutti credo noi stiamo lavorando anche oggi per arrivare il più presto possibile a un cessate il fuoco alla pace la brutale aggressione come quasi tutti l'abbiamo definita anche in quest'aula della Russia da parte dell'Ucraina da parte della Russia ci ha coinvolto in maniera forte e diretta come persone come paesi come istituzioni democratiche e richiede risposte all'altezza di questa sfida un'aggressione brutale ingiustificata che ha colpito indiscriminatamente civili e militari alla quale fortunatamente il grosso della comunità internazionale l'Unione Europea in particolare hanno risposto con una compattezza che probabilmente ha sorpreso lo stesso Vladimir Putin in poco più di un mese di bombardamenti da parte dell'esercito russo le vittime civili in Ucraina sono oltre duemila tra le quali ricordiamo centinaia di bambini e come riportato da diverse organizzazioni umanitarie è molto probabile che il reale numero delle vittime civili sia molto più alto occorre evidenziare che la maggior parte delle vittime dell'invasione sia dovuto all'uso incontrollato e massiccio di armi esplosive all'interno delle zone urbane dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo un impatto devastante che sembra peggiorare di giorno in giorno oltre 650 mila persone sono rimaste senza energia elettrica 130 mila senza gas parliamo di un milione e 700 mila sfollati e quasi 7 milioni di profughi all'interno della stessa Ucraina ecco rispetto a questo quadro il governo italiano con questo decreto ha deliberato uno stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2022 un decreto che si compone di quattro parti la prima tanto discussa e che tante polemiche ha generato prevede la cessione di apparati di difesa all'Ucraina nel pieno della legalità internazionale secondo quanto sancisce l'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite che prevede il diritto all'autodifesa di un popolo che viene aggredito e se oggi esistono alcune tiepide speranze per arrivare a un accordo di pace lo dobbiamo proprio alla straordinaria e per qualcuno imprevista capacità di autodifesa del popolo ucraino nei confronti dell'aggressore una seconda parte del decreto si occupa del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del sistema nazionale di gas naturale quindi delle misure per farvi fronte una terza parte prevede poi importantissime misure relative all'accoglienza dei profughi misure delle quali forse si è parlato troppo poco in questa discussione e in Italia ricordiamolo esiste una grande comunità ucraina una delle più grandi in Europa 250.000 persone e 75.000 si sono aggiunte proprio in questi giorni a questa comunità va la nostra solidarietà alle famiglie ai comuni che stanno provvedendo a questa accoglienza il massimo sforzo del governo e quindi il sostegno del Parlamento e infine voglio ricordarlo perché è significativo un fondo per finanziare misure di sostegno per studenti ricercatori docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università istituzioni di alta formazione artistica musicale e anche enti di ricerca un punto al quale il presidente Draghi proprio qui nella sua replica al Senato ha dedicato una particolare attenzione e che voglio sottolineare perché credo che questo tema l'accoglienza l'apertura a studenti e ricercatori non solo ucraini ma di tutto il mondo debba essere affrontato e sostenuto con sempre maggiore organicità e serietà e non soltanto in un momento di emergenza permettetemi adesso di andare verso la conclusione soffermandomi su due aspetti che hanno concentrato anche la nostra discussione e che poi sono i due aspetti centrali del decreto l'accoglienza ai profughi ripeto e l'impegno italiano sul fronte della spesa delle armi sul primo versante vorrei sottolineare il grande intervento umanitario che ha già portato l'Europa a stanziare 600 milioni di euro dal bilancio europeo e soprattutto il fatto che per la prima volta sia stata applicata la direttiva europea che prevede la possibilità di garantire la protezione temporaria a chi fugge dalla guerra non solo ricordiamola cittadini ucraini ma tutti i cittadini di quei paesi che si trovano in Ucraina che hanno bisogno di trovare assistenza sicurezza e protezione nei nostri paesi una risposta senza precedenti e anche l'Italia in questo senso deve fare la sua parte questo decreto si inserisce a pieno titolo nello sforzo di dare sostegno non soltanto alla resistenza ucraina ma anche all'accoglienza alle migliaia di profughi che da oltre un mese hanno scelto il nostro paese come meta solidale e sicura con riferimento poi al dibattito che ha acceso tanti animi e che capisco è una discussione che riguarda anche le coscienze di ciascuno di noi voglio ricordare e mi riferisco ovviamente all'incremento progressivo delle spese militari come sia stato il nostro ministro della difesa a dichiarare in maniera chiara e autorevole che stiamo da tempo lavorando per interventi graduali costanti e sostenibili finanziariamente al fine di rispettare gli impegni assunti nel corso degli anni da governi di diversa natura e soprattutto di fare questo sforzo in un'ottica di difesa comune europea una strategia che tutti i partiti mi sembra hanno più volte auspicato e sollecitato nel corso degli anni voglio concludere facendo mio con il dovuto rispetto che si deve al capo dello Stato l'esortazione che il presidente Mattarella ci ha fatto proprio ieri a proseguire sulla strada della solidarietà e della fermezza per contribuire in maniera fattiva alla soluzione del conflitto in corso stiamo rispondendo ha detto ieri il presidente parlando a Trieste con la dovuta solidarietà all'aggressione nei confronti dell'Ucraina per frenare subito per rendere insostenibile questo ritorno alla prepotenza della guerra che se non trovasse ostacoli non si fermerebbe ma produrrebbe una deriva angosciosa di conflitti che potrebbero non trovare limiti ecco con queste parole con questo appello e con le mie semplici ragioni che ho voluto esporre in questo mio intervento confido confidiamo che il Parlamento nella sua grande maggioranza possa continuare a sostenere la resistenza ucraina a garantire assistenza alle migliaia di profughi che vengono nel nostro paese e non dimentichiamolo a sostenere le famiglie e imprese italiane che cominciano a soffrire le conseguenze di questo drammatico conflitto grazie grazie senatore Gianrusso a cinque minuti grazie grazie presidente colleghi è assolutamente chiaro a tutti i cittadini del nostro paese che il momento è di una gravità assoluta la parola guerra che sembrava ormai lontana è cancellata dalle nostre storie alla nostra vite è ritornata prepedentemente a turbare le vite degli italiani le vite dei cittadini europei in questa circostanza secondo Italexit il governo ha compiuto il governo Draghi ha compiuto degli atti gravissimi e assolutamente irresponsabili con un decreto legge ha ha decretato lo stato d'emergenza unico paese in Europa a farlo ma soprattutto ha decretato di compiere atti di guerra nei confronti di una grande potenza nucleare qual è la Russia perché guardate che le sanzioni economiche sono atti di guerra economica fornire armi a un paese in guerra è un atto considerato dal diritto internazionale atto di guerra atto di guerra e tutto questo con un decreto legge bypassando il Parlamento che sarebbe stata la sede legittima di queste discussioni che riguardano la vita di 60 milioni di cittadini italiani c'è stato detto è stato detto ai cittadini italiani mentendo che questo decreto era necessario per adeguarsi alle decisioni della Nato non è così sono menzogne perché a me pare che la Turchia un grande paese e la Nato non abbia assunto nessuna delle scellerate decisioni che ha assunto il governo italiano ci è stato detto che queste decisioni dovevano essere prese per restare nell'ambito delle alleanze della Nato delle alleanze occidentali eppure un paese forte e rispettato come Israele che certamente non si può dire non alleato degli Stati Uniti non ha preso le stesse scellerate decisioni che ha preso il governo Draghi e allora qual è la differenza fra il nostro paese colleghi e la Turchia o Israele che il governo della Turchia che il governo dello Stato di Israele hanno pensato all'interesse principale dei propri paesi dei propri paesi purtroppo noi avendo a caso del governo una persona servile nei confronti di potenze straniere è una persona inetta e incapace al Ministero degli Esteri abbiamo subito sposato delle posizioni che tutti gli italiani saranno costretti a pagare e a caro prezzo perché sposando le posizioni americane ci si è dimenticati che gli Stati Uniti sono produttori di petrolio di gas di grano sono grandi esportatori cosa che noi non siamo di nessuno di questi beni tant'è vero che la moneta americana si è rafforzata concludo presidente dicendo che questo governo è una sventura per il nostro paese pensate che è stato capace di rispondere all'appello degli ucraini che chiedevano che chiedevano aiuti sanitari accogliendo a braccia aperte i sanitari che scappavano dall'Ucraina presidente ho il timer ancora non sono a 5 minuti mi scuso la prego io l'ho preavvisata quando mancano un secondo ai suoi 5 minuti però le do lo stesso 30 secondi ancora il cronometro ce l'ho io se mi dà la parola ce l'ha no è spento ce l'ha parli ce l'ha grazie presidente allora solo per dire che noi abbiamo vigliacamente vilmente accolto i medici e i sanitari che scappano dall'Ucraina mentre un paese serio come Israele ha mandato 65 unità di personale e un intero ospedale da campo sapete dove non ai confini dell'Ucraina in Ucraina dove scoppiano le bombe dove tirano i razzi quello è aiutare il popolo di Ucraino e fare gli interessi del proprio paese quello che stiamo vedendo ed è la differenza fra noi e la Turchia e Israele e che a differenza di Israele e della Turchia noi facciamo parte dell'Europa e questa nostra posizione è la sanzione ultima del fallimento dell'Europa come soggetto politico grazie grazie è iscritto a parlare il senatore Aimi grazie presidente governo colleghi concordo anche io sul fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione autenticamente drammatica alla quale dobbiamo cercare di dare risposte e mi permetto anche di evidenziare che se Forza Italia movimento politico assolutamente responsabile ha appoggiato questo governo lo ha fatto in un momento di emergenza nazionale prima per il covid poi per la crisi economica ed ora a maggior ragione vogliamo dimostrare la nostra vicinanza in un momento in cui i venti di guerra soffiano ai confini dell'Europa un'Europa che avevamo anche da ragazzi da giovani sognato era quella che si diceva un tempo l'Europa che andava dall'Atlantico agli Urali e voleva essere un'Europa difesa armata con una propria politica estera con un tenore di vita al suo interno assolutamente alto e decoroso un'Europa in buona sostanza che incendiava i cuori le coscienze e non aveva idea che si sarebbe potuti tornare ad una guerra una guerra dalla quale per fortuna in questo momento siamo fuori ne siamo estranei ma dobbiamo avere la consapevolezza che la situazione può mutare anche da un momento all'altro allora con la stessa responsabilità con la quale abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere il governo corre l'obbligo di dire alcune cose soprattutto riaffermare un principio quando due persone litigano bisogna dividerle quando due persone non parlano bisogna farle dialogare questo è un concetto prepolitico è addirittura diciamo un insegnamento che viene che avviene anche nelle scuole di politica di qualsiasi partito ma è soprattutto un principio anche di politica internazionale e ricordo che Jean Baudin che era un grande filosofo ma soprattutto un economista un politico siamo nel 1500 per primo incominciò ad evidenziare un principio che era quello che nell'ambito della normazione nell'ambito delle norme in questa piramide al suo vertice c'è la spada oggi diremmo ci sono i missili attestati nucleari e quindi dobbiamo fare grande attenzione perché se vogliamo davvero difendere la pace lo dobbiamo fare con i costruttori di pace e che è stato il più straordinario costruttore di pace lo voglio ribadire l'hanno fatto già i miei colleghi è stato Silvio Berlusconi oggi c'è un dato politico che forse a qualcuno è sfuggito cioè il presidente Errani per tre volte presidente della regione Emilia Romagna figura politica che potremmo dire che rappresenta un po' gli antidoti rispetto a quelli che sono i parametri e soprattutto i valori di riferimento di Forte Italia e di altre formazioni che fanno parte di questo governo ha detto però una cosa fondamentale ha detto la politica di pratica di mare del 2002 è non ricordo le parole precise sono un orizzonte o comunque qualche cosa di estremamente positivo e allora se anche Vasco Errani che uomo di sinistra arriva a sostenere questo possiamo dire che avevamo avuto ragione che il presidente Berlusconi come uomo come costruttore di pace aveva avuto ragione e è stato un costruttore anche per tante in tanti momenti fondamentali per vent'anni è stato colui che ha risolto crisi internazionali come quella ad esempio della Georgia nel 2008 nessuno sembrava quasi impossibile lui riuscì in questa straordinaria operazione e poi in Medio Oriente riuscì a realizzare momenti importanti di pace tra Netanyahu e Simon Peres Netanyahu addirittura arrivò a dire che Silvio è un campione di pace ecco sono parole importanti detto allora oggi riecheggiano dalle labbra di una persona e di un nostro collega che è stato estremamente onesto intellettualmente e allora la sua capacità era quella di avere amicizie era uomo di Stato non si limitava semplicemente alla politica del giorno dopo ma a quella che guardava avanti per dieci vent'anni oggi la sua attualità è tutta assolutamente presente e lo diciamo con convinzione perché lo spirito di pratica di mare questo abbraccio questo darsi la mano tra gli Stati Uniti e la Russia era ciò di cui l'Europa necessitava oggi invece lo abbiamo visto anche gli ultimi accordi che ci sono stati in Turchia oggi abbiamo messo la Russia la federazione russa nelle mani della Cina e la Cina rappresenta un competitore geopolitico altamente preoccupante non solamente delle politiche economiche dell'Italia ma dell'Europa stessa e del mondo abbiamo situazioni ad un certo momento nelle quali pensavamo qualche tempo fa che non ci fosse più la storia era il 1989 Francis Fukuyama scriveva quel famoso libro La fine della storia e poi successivamente The End of History and the Last Man ma che cosa perché che cosa era accaduto perché si pensava che con la caduta del muro di Berlino e con la dissoluzione dell'impero sovietico non ci sarebbe stato più la necessità di occuparsi dei grandi temi che la storia ci mette davanti e sono i grandi temi che riguardano appunto gli armamenti riguardano la difesa riguardano l'autonomia strategica anche dell'Europa e soprattutto dell'Europa io più volte ho parlato in quest'Aula di Europa superpotenza Europa superpotenza significa avere un'Europa che difende i propri confini che ha una politica estera che guarda agli interessi dell'Europa certamente in un ambito atlantico come ha ricordato anche il presidente il presidente Draghi un'Europa all'interno della quale non si possono verificare conflitti per una ragione che ovvia tutti non si verificano conflitti all'interno dell'Unione Sovietica degli Stati Uniti d'America le grandi superpotenze della Cina perché c'è una dissuasione che non è solamente militare ma è nucleare e allora l'Europa è necessario che si armi quando i colleghi di Fratelli d'Italia presentano un ordine del giorno per portare le spese al 2% del PIL fanno qualche cosa che avevamo della quale si era già parlato hanno avuto con loro l'onestà intellettuale che va riconosciuta di averlo ribadito è dal 2014 che si parla di questo è una cosa estremamente importante andiamo in quella direzione Forza Italia c'è qualcun altro forse deve ricostruirsi una deve dare una giustificazione ad un voto che ha espresso qualche giorno fa alla Camera dei Deputati non in sintonia con le posizioni che assume oggi in quest'Aula perché diciamolo pure mentre Silvio Berlusconi nel 2002 nel maggio del 2002 a pratica di mare portava all'abbattimento delle spese militari altri hanno aumentato con le spese in particolare lo voglio ricordare il Premier Conte e allora capisco che si venga in quest'Aula nel tentativo di rimediare a questa situazione ma noi abbiamo anche il compito in questo momento di essere assolutamente responsabili e di mantenere una unità assoluta e allora per farlo non possiamo dimenticare che questo provvedimento è un provvedimento che aiuta i minori in difficoltà aiuta i profughi è un provvedimento che aiuta i militari aiuta le nostre missioni all'estero in particolare Forza Italia è sempre stata vicina a coloro che hanno dimostrato in queste missioni quanto è importante l'onore d'Italia ecco onorare la divisa rispettare i principi che caratterizzano le radici alle quali facciamo riferimento la nostra patria parliamo un linguaggio la nostra nazione sono cose che vogliamo e che pretendiamo che vengano ricordate e soprattutto che vengano difese e per farlo bisogna assolutamente guardare al domani con quel sole in tasca e quella fiducia che deve essere necessaria per arrivare alla pace io mi auguro che si possa fare ma non lo si può fare con un linguaggio da pacifisti o da pacifisti la verità è un'altra la politica deve uscire dall'uno vale uno deve tornare ad essere protagonista di questo momento della storia una storia difficile che bussa alle porte di ciascuno di noi e alla quale dobbiamo dare risposte la migliore risposta io credo che l'abbia data il presidente Berlusconi vent'anni fa a pratica di mare ed è la stessa risposta che vogliamo continuare a dare oggi come forza Italia per un benessere per il benessere soprattutto di tutti grazie grazie senatore Aimi è scritto a parlare vicepresidente la russa prego grazie presidente chiedo scusa se ho costretto lei a venire a rispettare il suo turno l'avrei completato io ma avevo piacere anche in un'aula non proprio piena diciamo così di poter intervenire ringrazio i colleghi del mio gruppo che sono ancora presenti e altri colleghi come il senatore Gasparri grazie Maurizio e il motivo per cui mi sono deciso di intervenire è perché mi sono chiesto come è possibile che da qui a qualche minuto il governo dovrà porre la fiducia su un provvedimento che il 95 98 per cento non so qual è la percentuale del senato non contrasta sul quale si dice favorevole eppure questo governo chiede la fiducia che è uno strumento che serve o quando c'è l'ostruzionismo o più correttamente quando il governo avendo al suo interno delle opinioni così divergenti da non potessere portate ad unicum decide di dire o tu voti questo provvedimento attraverso la fiducia o io mi dimetto com'è possibile che di fronte alla prospettiva di aiutare un paese aggredito un paese bombardato un paese europeo un paese cristiano un paese che ci assomiglia nei modi di vivere ci sia oggi bisogno del voto di fiducia non lo so o meglio lo so fin troppo si tratta di aiuti peraltro giustificati di aiuti doverosi di aiuti necessari anche per noi non solo per l'Ucraina perché c'è un prima e c'è un dopo l'aggressione della Russia di Putin all'Ucraina c'è la speranza prima o si può dire l'illusione prima dell'invasione che l'Europa potesse essere una potenza economica grande senza bisogno di avere una politica internazionale e una politica di difesa questa illusione è caduta non c'è più abbiamo la guerra non ai confini dell'Europa ma all'interno di chi vuole fare parte anche organicamente dell'Europa e allora e allora forse vuol dire che c'è ancora qualcuno che pensa che sarebbe più opportuno mettere qualche bandierina multicolore alle finestre magari fare qualche girotondo di pace e non mandare aiuti oppure mandare solo qualche coperta e non gli aiuti di difesa militare che frenano un'aggressione brutale e danno un segnale preciso a chi oggi aggredisce l'Ucraina e domani potrebbe aggredire non solo la Georgia non solo la Moldavia ma anche parte integrante di questa Europa vedete vedete l'altro argomento è che a questo dibattito si è unito non per scelta di Fratelli d'Italia ma per scelta dell'Europa di quell'Europa tanto declamata per la scelta del nostro Presidente del Consiglio del vostro Presidente del Consiglio il tema della entità distanziamenti necessari per la difesa prima nazionale e quindi europea perché chi capisce sa che oggi la difesa europea può essere solo figlia di un adeguamento delle difese nazionali altrimenti si è balbuzienti in termini di conoscenza politica e allora qualcuno ha detto ma come è possibile pensare di aumentare al 2% mentre la gente non paga non ha i soldi per pagare bollette e che non lo sappiamo guardate le richieste di provvedimenti che vengono dalla destra per aiutare le famiglie le imprese i commercianti ma che c'entra che c'entra perché equiparare e leggo e perché mi fa piacere perché una persona che stimo è intelligente anche se fa parte di un altro partito partito democratico Zanda un paio d'ore fa ha detto che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ma considera pensate l'ha detto l'esponente del PD e io sono orgoglioso di leggerlo sacro il dovere di difendere la patria il dibattito sul quale debba essere la priorità tra la spesa per la difesa della patria e quella per le politiche sociali è sempre esistito governi precedenti all'attuale hanno aumentato e dice lui abbiamo votato a favore la spesa per la difesa del nostro paese nonostante dovessero fronteggiare imponenti percentuali di disoccupazione giovanile e allora non c'era la guerra che ora ci aggiungo che noi abbiamo speso un miliardo e mezzo l'anno doverosamente per 15 anni per le emissioni internazionali in posti lontani doverosamente perché anche lì andavamo a contrastare il terrorismo figurarsi se può far paura la necessità di un graduale aumento delle spese militari alle quali l'Italia si è impegnata nel 2004 nel 2006 nel 2014 e ieri con Draghi e attenzione non solo con Draghi amici di 5 Stelle con il voto alla Camera di 5 Stelle con il voto alla Camera di tutti i partiti poi qualcuno ha detto vuoi vedere che se cambiamo idea magari recuperiamo qualche votarello di quelli che stiamo perdendo e allora una polemica che volevano fare con noi con noi noi non abbiamo fatto altro che ribadire quello che 5 Stelle quello che il PD quello che tutti i partiti di maggioranza ovviamente quelli doverosamente di centro-destra hanno fatto alla Camera quello a cui si è impegnato l'Italia nei consessi internazionali e che oggi viene messo in confronto con le necessità delle famiglie e delle imprese ma certo ma non abbiamo quei famosi miliardi che devono arrivare dall'Europa per le famiglie per le imprese per i commercianti per i lavoratori non abbiamo forse non l'avete letto la proposta di un ulteriore incremento di soldi europei che anticipino le spese militari in aumento lo sapete o non lo sapete e allora decidete e se è per questo che oggi costringete l'Italia a una figuraccia quale quella di dover votare col voto di fiducia un provvedimento che dovrebbe essere se non all'unanimità quasi battetevi il pugno e dite mia colpa mia colpa mia massima colpa vergogna concludo presidente e la ringrazio della cortesia vede avremmo voluto potere per una volta dimenticare che per noi questo è un governo che se fosse andato a casa prima avrebbe dato agli italiani la possibilità di sceglierne uno che la pensasse in un modo o nell'altro ma nella stessa maniera abbiamo deciso di votare a favore di questo provvedimento le vostre beghe ci costringono a non poterlo fare non perché voteremo contro il provvedimento ma perché lo avete trasformato in una cosa diversa in un voto di fiducia a un governo che quello sì gli italiani hanno capito che non può essere data e che non merita grazie 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 presidente la russa ora è scritto a parlare il senatore Pepe grazie prego senatore grazie presidente signori del governo colleghe e colleghi intanto penso di condividere un augurio che e l'augurio di tutta quest'aula ovvero che i segnali positivi che stanno giungendo dalla notte trascorsa dalla Turchia possano diventare immediatamente quanto prima segnali concreti di pace concreta e definitiva volevo fare delle considerazioni su questo decreto che stiamo per approvare ovvero è un decreto che non parla soltanto di di armi ma parla anche di altro qualche collega prima ha fatto accenno per esempio parla dell'accoglienza dei profughi un decreto che ha stanziato delle somme importanti ma sappiamo tutti che ne serviranno altre per garantire a queste donne a questi bambini che fuggono davvero dalla guerra accoglienza assistenza sanitaria e servizi e colgo l'occasione in questo contesto anche se so che il nostro capogruppo Massimiliano Romeo insieme ad altri colleghi si sta già muovendo in questa direzione che è giusto doveroso muoversi per tempo in modo da non gravare sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista logistico e dei servizi tutta questa situazione sui comuni italiani è importante che si faccia subito sistema si faccia subito coordinamento in modo che il servizio possa essere reso al meglio in modo che i cittadini italiani poi di rimando non possano subire indirettamente l'accoglienza che tutti quanti vogliamo e dobbiamo offrire a queste persone i numeri ad oggi sono questi 74.000 profughi in Italia di cui 29.000 minori quindi da un lato c'è l'attenzione dello Stato dall'altro è emerso il grande cuore dell'Italia gli italiani si sono tutti quanti mobilitati singolarmente associati per accogliere queste persone ma anche per portare ai confini con le terre del conflitto beni di prima necessità un altro provvedimento importante funzionamento messo in sicurezza delle sedi che l'Italia ha all'estero del personale che l'Italia ha all'estero ma anche degli interessi che l'Italia coltiva nei paesi che maggiormente possono essere colpiti da questo conflitto significa proteggere le nostre donne e i nostri uomini che con orgoglio rappresentano il paese all'estero su tutto su tutti voglio ricordare il nostro ambasciatore Zazzo che è stato un eroe un eroe del tempo moderno un eroe che ha messo in salvo cento persone un eroe che ha tenuto aperta l'unica sede delle ambasciate in Ucraina la nostra quella con il tricolore ci sono dei provvedimenti che riguardano gli studenti universitari i docenti universitari le imprese che stanno subendo da questo conflitto e poi c'è anche il provvedimento che prevede la cessione di materiale d'armamento mezzi e materiali ed equipaggiamento militari a titolo gratuito non letali è un provvedimento necessario un provvedimento che non dichiara guerra un provvedimento che era indispensabile e all'atere di tutto ciò si parla di pace noi vogliamo la pace la pace vera non quella che si appella al pacifismo la pace vera dove i popoli si amano e convivono benissimo insieme ma bisogna anche dire come ha detto benissimo prima il collega Candura che c'è uno Stato che ha aggredito e uno Stato che ha subito un'aggressione come si ottiene la pace se si ferma la Russia o se si ferma l'Ucraina è chiaro il messaggio diciamolo chiaramente perché tutti quanti lo sappiamo e soprattutto tutti i nostri concittadini possano saperlo nella maniera giusta nella direzione giusta l'unico modo per raggiungere la pace è che si fermi la Russia se si ferma la Russia si ottiene la pace finisce la guerra se si ferma l'Ucraina finisce l'Ucraina va via dalla carta geografica e l'unico modo per consentire di arrivare a ieri alla pace è che durante il tempo nel quale la diplomazia è al lavoro l'Ucraina possa difendersi possa limitare l'offesa che ingiustamente le sta recando la Russia questo è un dato di fatto se si ferma la Russia finisce la guerra se si ferma l'Ucraina finisce l'Ucraina diciamolo con chiarezza altrimenti non ci capiamo e cadiamo nell'equivoco è un tempo difficile questo che stiamo vivendo un tempo straordinariamente difficile abbiamo avuto due anni di pandemia adesso abbiamo questo conflitto abbiamo le imprese in difficoltà le famiglie in difficoltà stiamo toccando con mani dei problemi che mai fino a poco tempo fa avremmo immaginato e se è un tempo straordinario difficile serve un impegno straordinario da un lato e serve l'unità del paese dall'altro lato un impegno straordinario non significa trincerarsi dietro le etichette dietro gli slogan sappiamo che il paese è in ginocchio ma dobbiamo lavorare perché il paese si rialzi un impegno straordinario significa al tempo stesso rispettare gli accordi internazionali perché ne va della credibilità e dell'autorevolezza del nostro paese ma significa anche sostenere le famiglie e le imprese e si inizierà da subito dal decreto tagliaprezzi ma si continuerà con i prossimi provvedimenti con la prossima finanziaria anche con l'ammissione di ulteriori scostamenti e non gridiamo allo scandalo abbiamo le famiglie in ginocchio possiamo aiutarle abbiamo le imprese in difficoltà dobbiamo aiutarle soprattutto non accettiamo lezioni da parte di chi si è reso lo dico sottovoce presidente concudo si è reso autore per volontà politica di sprechi per eccellenza possiamo parlare dei monopattini che invadono i nostri marciapiedi dei banchi a rotelle delle mascherine di arcuri ma anche del reddito di cittadinanza che tanto spreco e tante truffe ha provocato concudo presidente e poi l'unità l'unità la richiede Mattarella Mattarella deve essere il nostro faro sempre non all'occorrenza sempre e un'unità non può essere tradita per una visione politica diversa in questo momento perché se siamo in maggioranza noi siamo per spirito di sacrificio di servizio verso l'Italia e men che meno l'unità non deve essere tradita soltanto per inseguire inseguire i sondaggi sarebbe un errore gravissimo tutto questo e concludo veramente presidente se abbiamo la consapevolezza di vivere in un tempo straordinario se abbiamo la consapevolezza che il nostro onore sono le forze armate cerchiamo di elevarci tutti quanti a livello al rango delle forze armate significa lavoro senso di responsabilità senso delle istituzioni e poche parole perché soprattutto in questo periodo le parole pesano come sassi soprattutto in questo periodo se usiamo le parole giuste se usiamo i toni giusti possiamo aiutare il percorso di pacificazione nel minor tempo possibile grazie grazie senatore Pepe iscritto a parlare per l'ultimo intervento il senatore Marco Pellegrini grazie signora presidente colleghi colleghe rappresentanti del governo questo decreto è stato colorato di motivi politici che nulla centravano e nulla centrano con il contenuto del decreto stesso mi riferisco in particolare al tema dell'aumento delle spese militari al 2% fino a raggiungere il 2% del PIL entro l'anno 2024 la nostra posizione del Movimento 5 Stelle è chiarissima il momento drammatico in cui si trova il Paese la condizione economica di tantissime famiglie e imprese le bollette che sono aumentate enormemente che stanno mettendo sull'astrico cittadini e aziende le conseguenze della guerra in Ucraina tutto ciò rende insostenibile in questo momento storico destinare 12 miliardi in più almeno 12 miliardi in più al comparto della difesa questo obiettivo può e deve essere raggiunto in un lasso di tempo più ampio che può essere per esempio entro il 2030 come sosteniamo noi del Movimento 5 Stelle o entro il 2028 come ha affermato proprio oggi il Ministro Guerrini che peraltro nel 2019 quindi in epoca non sospetta riteneva insostenibile arrivare al 2% del PIL entro il 2024 ho letto esattamente le parole che disse che utilizzò e lo diceva in epoca pre-Covid quando non c'era l'esplosione nemmeno dei prezzi dei prodotti energetici e quindi a maggior ragione vale ancora oggi in periodi di crisi peraltro si possono anzi si devono rimodulare gli accordi presi magari molti anni prima come in questo caso per adattarli alla situazione contingente per esempio nel 2020 grazie anche al nostro impegno del Movimento 5 Stelle è stato sospeso in Europa il patto di stabilità e di crescita perché vista la pandemia e le conseguenze economiche della pandemia stessa era semplicemente insostenibile e per la cronaca non è stato ancora reattivato il patto di stabilità e di crescita e probabilmente quando sarà reattivato sarà anche profondamente cambiato voglio affermarlo con nettezza Presidente noi siamo orgogliosi delle nostre forze armate le sosteniamo con convinzione hanno dato prova milioni di volte di grande affidabilità sia nelle missioni di pace e sia in Italia ad esempio aiutando il Paese nel periodo della pandemia o nelle varie operazioni strade sicure penso a strade sicure e altre operazioni simili il Movimento 5 Stelle non ha mai detto mai di essere contrario al rispetto degli accordi internazionali la cui conseguenza sarebbe far fare una figuraccia al nostro Paese all'Italia ed è stato ripetuto dai colleghi senatori qualche minuto fa questo si è falsamente sostenuto in queste ore e questa panzana io non posso che definirla altrimenti è stata ripetuta anche in notiziari anche del servizio pubblico le ho ascoltate in queste ore ed è particolarmente grave perché è assolutamente falsa si tratta dell'ennesimo volgare attacco nei nostri confronti basato sullo stravolgimento della realtà a solo scopo di attaccarci ma noi siamo abituati a questa continua campagna di disinformazione di dileggio e di diffamazione peraltro non le chiacchiere da bar o le parole ma gli atti messi in campo dai governi che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto parlano per noi nel 2020 ad esempio anno della crisi come ricordavo prima del Covid-19 abbiamo proposto e approvato scostamenti di bilancio per 130 miliardi per aiutare i milioni di italiani che erano in difficoltà che non potevano mettere il piatto a tavola abbiamo aiutato e ne siamo orgogliosi milioni di artigiani di piccole medie e grandi imprese abbiamo sospeso il pagamento delle tasse delle cartelle sattoriali abbiamo finanziato queste stesse imprese affinché superassero il momento difficile e il dato dell'incremento del PIL del 2021 che è superiore al 6,5% il dato della difesa dei posti di lavoro e della difesa dell'esistenza delle aziende ci ha dato pienamente ragione era la strada giusta era quella la cosa da fare l'abbiamo fatta con coraggio e determinazione ma in quello stesso anno ma anche nei precedenti per la verità abbiamo incrementato le spese del comparto difesa di circa 1,6 miliardi quindi io lo voglio rimarcare questo fatto 1,6 miliardi destinammo al comparto della difesa a fronte di 130 per i cittadini e per l'impresa e per il comparto produttivo questo vuol dire quindi 1,6 miliardi circa lo 0,1% del PIL e questa media l'abbiamo mantenuta in tutti e tre gli anni dei governi preseduti da Giuseppe Conte e se mantenessimo questo trend di incremento dello 0,1% del PIL circa all'anno raggiungeremmo come dicevo prima il 2% del totale per le spese militari del PIL entro proprio il 2030 noi lo aspettiamo e riteniamo che sia questa la strada da seguire perché è assolutamente sostenibile segnalo peraltro che non è solo l'Italia nell'ambito della Nato a trovarsi al di sotto del 2% del PIL per le spese militari si trovano in questa condizione ben 20 paesi su 30 che costituiscono l'alleanza atlantica quindi sono 20 su 30 non è un problema che riguarda solo l'Italia e segnalo ancora che non è dato ancora sapere dove si prenderebbero questi 12 miliardi ripeto almeno 12 miliardi per la difesa tra quest'anno e l'anno prossimo se si volesse diciamo ottenere questo risultato entro il 2024 e quindi non si sa se avremmo troveremmo questi 12 miliardi tagliando altre spese se prendendolo dai fondi per esempio del PNR se tagliando il redio di cittadinanza come qualcuno ha volgarmente anche pochi minuti fa sottolineo volgarmente proposto oppure se facendo uno scostamento di bilancio peraltro in questo caso sarebbe molto strano fare uno scostamento appunto di bilancio per la difesa dopo che il governo ha dichiarato la sua contrarietà a qualsiasi ipotesi di scostamento di bilancio stesso che andasse a favore di cittadini e imprese ma se si vuole fare questo scostamento in questo momento per la difesa che se ne faccia uno cento volte superiore a favore di chi in questo momento sta soffrendo e mi rifirisco ai cittadini e alle aziende che non riescono a pagare le bollette energetiche e a salvare i posti di lavoro quella è la nostra più grande emergenza e ci dobbiamo impegnare con tutte le nostre forze a questo riguardo altro tema che è stato trattato in queste ore è quello della difesa comune europea questo è un orizzonte che è del tutto auspicabile chi mai potrebbe essere contrario ma credo e crediamo che ci si debba e ci si possa arrivare quando ci sia una convergenza piena della politica estera europea che al momento non si ravvisa purtroppo aggiungo questa situazione di crisi non sta colpendo peraltro tutti i paesi nello stesso modo la Norvegia tanto per fare un esempio che è un paese produttore di idrocarburi sta realizzando guanagni colossali l'Olanda i paesi bassi dove assiede il TTF cioè dove si scambia il gas e dove si stanno realizzando delle speculazioni selvagge che stanno mettendo in ginocchio centinaia di milioni di europei e di imprese di certo questi paesi e ho fatto soltanto questi due esempi non hanno le nostre stesse priorità e le nostre stesse esigenze e questa asimmetria di interessi ha probabilmente portato agli scarsi risultati dell'ultimo Consiglio europeo sull'energia che è stato rimandato a maggio e che non ha visto nascere l'Energy Recovery Fund che auspicavamo e che a nostro parere è l'unico strumento che consentirebbe di superare la crisi energetica ed economica costruendo un fondo che aiuti gli Stati membri a superare questa fase drammatrica mettendo il relativo debito in comune questo ovviamente è un punto nodale e a fare gli investimenti sulle energie rinnovabili che ci possono portare nel lungo periodo alla indipendenza energetica la situazione è molto difficile noi ne usciremo adottando misure coraggiose e di buonsenso non certo obbedendo pedisseguamente a diktat che provengono da entità estere questo è il nostro auspicio e noi continueremo a lavorare in questo senso per i cittadini e per le imprese italiane grazie grazie senatore pellegrini dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire prego grazie presidente e grazie anche ai senatori per il contributo che hanno apportato ai lavori della commissione e anche alla discussione in risposta alla crisi ucraina all'invasione di questa nazione ad opera della Russia e l'Italia al pari dell'Europa si è dimostrata ferma nella risposta e si è dimostrata ferma anche nelle relative misure con gli oderni lavori di conversione in legge di questo decreto diamo ulteriore concretezza a queste misure e ribadiamo la fermezza della nostra risposta il tema è ovviamente complesso così come complessi sono i negoziati che auspichiamo portino ad un cessato il fuoco immediato e un accordo tra le parti non è certo semplice per nessuno trovarsi a parlare di guerra e parlare di una guerra che ha le nostre porte ma come ho avuto modo di evidenziare in altri consessi la pace è un bene preziosissimo che necessita di attenzione e cure continue la pace insieme ad altri privilegi sono stati dati per scontati oggi mesi duramente alla prova e lo ha evidenziato prima la pandemia che ci ha colpito e ora la guerra in Ucraina preparare la pace significa quindi impegnarsi quotidianamente per costruirla rafforzarla preservarla e promuoverla significa investire risorse in stabilità e sicurezza nelle prospettive di sviluppo sostenibile e prosperità non solo nostre bensì globali la guerra in Ucraina ha messo in evidenza i danni delle rigidità del patto di stabilità che hanno ingessato le politiche di sviluppo di molte nazioni europee e dell'Unione stessa nel suo complesso le conseguenze si specchiano ad esempio nell'eccessiva dipendenza che oggi viviamo nell'approvvigionamento di gas cereali frumento e ieri nelle semplici mascherine per proteggerci dal covid la sfida che ci aspetta è quella di fare tesoro di quanto sta accadendo deporre in essere le necessarie contromisure che passano dal sostegno al popolo ucraino a quello di mantenere fede a quelli che sono gli impegni che abbiamo in ambito nazionale e internazionale dimostrando di essere una nazione affidabile credibile e non l'anello debole a livello europeo nonché internazionale in merito a alcuni interventi che sono stati fatti in aula ritengo di voler dare qualche risposta in merito a quale strategia l'unione europea ebbene il 27 marzo il consiglio europeo ha approvato la bussola strategica può piacere può non piacere ne possiamo condividere gli obiettivi oppure no però è una strategia che è appena stata approvata si è fatto riferimento anche alla legge 244 sulla sproporzione delle somme destinate al personale direi che non possiamo ricordarci dei militari solamente quando ci fanno comodo e ci vengono in aiuto per gestire quelle che sono delle emergenze e delle criticità come hanno fatto nell'ambito della pandemia e poi un attimo dopo dimenticarcene e magari pensare che loro sono un costo in realtà se noi abbiamo siamo riusciti ad affrontare anche la pandemia se siamo riusciti a vedere montati degli ospedali da campo nell'immediatezza se siamo riusciti ad avere dei nostri concittadini trasferiti dalla cena in Italia con le barrelle di biocontenimento in una fase in cui non si sapeva ancora la portata di quel virus che avremmo visto dopo qualche mese ebbene se siamo riusciti poi anche a gestire tutta la parte dei vaccini dalla fase iniziale fino in ultimo ancora ora abbiamo il supporto delle nostre forze armate e allo stesso tempo mantenere fede agli impegni presi nell'ambito delle missioni internazionali l'abbiamo fatto perché abbiamo dei militari che con spirito di sacrificio con lealtà mantengono quello che è il loro aver giurato fede verso la nostra patria a scapito anche della loro stessa vita e il loro sacrificio silenzioso direi si traduce nel momento in cui passano da una missione all'altra magari senza avere neanche il tempo del dovuto riposo proprio perché grazie al loro sacrificio noi facciamo fronte a quelli che sono il basso investimento che abbiamo proprio per ottemperare quegli accordi che abbiamo a livello internazionale per quanto riguarda invece il binomio aiuti alle persone e aumento di quello che sono le spese in ambito difesa queste due voci non devono essere in contraposizione perché se anche noi oggi possiamo aiutare le famiglie lo facciamo grazie anche all'industria della difesa perché l'industria della difesa vale per il 7% del PIL vede 150.000 persone che lavorano per l'industria della difesa e fermo restando che nei 24 miliardi che sono nel bilancio per la difesa hanno all'interno anche più di un terzo che riguarda l'arma dei carabinieri io credo che investire anche maggiormente e in modo a cascata nell'arma dei carabinieri per la sicurezza delle nostre città bene non farà altro che per l'Italia intera grazie 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 ora ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento onorevole Vinca mia facoltà signora presidente onorevoli senatori a nome del governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza ammendamento in articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 2562 di conversione del decreto legge 25 febbraio 2022 numero 14 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati grazie presidente grazie signor ministro la presenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 14 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati ora come stabilito dalla conferenza dei capigruppo il dibattito sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di domani e pertanto le mozioni le interpellanze le interrogazioni pervenute alla presidenza nonché gli atti documenti trasmessi alle commissioni permanenti essenti dell'articolo 34 coma 1 secondo periodo dell'egolamento sono pubblicati dal legato B al resoconto della seduta odierna do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta che si terrà nella giornata di domani giovedì 31 marzo alle ore 9 e 30 con all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge di conversione in legge con modificazione del decreto legge 25 febbraio 2022 numero 14 recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina a seguire alle ore 15 interrogazione e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento la seduta è tolta in B